che vanno in nazionale secondo me è più forte potenzialmente è più forte di Lucca è più forte di Pinamonti è un giocatore che se fosse in polma potrebbe già andare adesso all'europeo e il prossimo mondiale potrebbe essere un centroavanti della nazionale italiana Torino-Monza è finita 1-0 non ci aspettavamo di vedere uno spettacolo scandaloso ciao tesori oggi voglio consigliarvi un sito francesco il sito in questione si chiama amici youtube pepino audace ragazzi torniamo con F1 secondo me fischiate le meriti perché bisogna far capire che determinati giustati non vanno bene bisogna puntare a alzare la sticella la Juve fischiano va a vedere il Milan fischiano va a vedere l'Inter fischiano va a vedere il Napoli fischiano va a vedere porco di questa piccola diatriba tra Daraen e Andrea Bracco di Passo 9 ma andate a cagare e non vedo l'ora di sentire un commento di Hanging se qualcuno mi contraddice vuol dire che del Toro non gliene porto un cazzo niente tra di Tori i giocatori che si sono comportati peggio nei confronti del Toro sei pronto? San Giovanni San Giovanni prega per noi resta dell'Empoli ragazzi 3 o 2 Nyang scusami ma io devo chiudere ti ha preso al diciassettesimo e ti ha portato al decimo innanzitutto uno ma che sparagoni stai facendo? rispondimi ti ha fatto la domanda potrei dare un milione di risposte tutte false la verità è che sono un pragmatico Daraen questo è peggio di quell'altro mamma e su Yuri ci avevo straragione io e lo disse però lì va tutto a poco io due cose avevo detto compatta la difesa e cambia modulo non stare aperto come un asino persino Simone Inzaghi l'ha capito e così ha vinto non c'è il Napoli non c'è la Fiorentina non c'è la Lazio non c'è la Roma non c'è l'Atalanta con l'Antuono Loria Bianchi D'Ambrosio Ventura quel Maiala l'Isoli tutti i roll quell'asino croato hanno ammaestrato il bar il vero problema nostro è la famiglia dall'altra parte affinché non si levano dei coglioni quelli noi non rinasceremo mai il mido del fallo Maiale su Yuri c'è tre anni di nulla l'Atalanta non è mai stata una biglia è studiato l'Albedoro asini mi piacerebbe che la maratona ritornasse a essere quella di una volta questo posso dirlo alla vecchia maniera alla vecchia maniera eccoli qua i giocatori incazzati loro festeggiano vabbè San Giovanni tifosi Granata benvenuti al ToroCast eccoci qua io che sto seduto sopra ad un sofà per me dare non vale niente a sognare un po' di summer cap e un po' di Europa via mancava solo Bisoli Ragnè e un punto d'oro e mi chiedo sempre quanto durerà per me Cairo può pure morire tra virgolette di socio podcast infinito che infinito non ma questo è grave dare San Giovanni secondo me il ToroCast ve lo dico da solo è qualcosa di nuovo e va un attimo anche a svelare determinate cose che stanno dietro a quello che è il mondo Toro benvenuti a ToroCast stasera parleremo di fatto de facto di droga apro Instagram vedo già ho avuto esperienze veramente oniriche a vedere questo poi mi arriva la notizia benvenuti ragazzi in questo podcast se dobbiamo fare capare facciamo logico punto contro messi è logico che tutto il mondo ne parla in un minuto quello cosa è successo? ascolta l'ex giocatore che ha andato a giocare a Londra al Fulham Lukic che abbia detto a Ic vieni a giocare qua vieni qua vieni al Fulham ecco tu ora visto comunque sei arrivato che c'è qua da un po' sicuramente tu consiglieresti a due ex compagni di squadra di venire a giocare qua? il nostro caffio non lo sfuga se vuole poco smuovere le apide evidentemente non sono assolutamente racconta di quello che è stato asserito dagli ultimi due personaggi se la squadra gioca bene vince il tifoso deve rire se la squadra gioca bene perde il tifoso può parlare nella squadra signore signore ho il piacere e l'onore di presentare qui sul torocast di pass tifa udace cerignola vabbè giocare nel toro si perché il sole amarillo partire dall'audace cerignola gli sarei andato incontro così a male aperte ragazzi tra l'altro ragazzi cerignola adidas non so se si vede nella felpa si bellissimo che si comprata lo store comprata lo store di cerignola io sono nata a torino si 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 non c'è tanto dell'accento lo so no no ma parlo anche molto bene italiano ci tenevo a ringraziare il canale torocast con il dieran io veramente tipo audace cerignola avendo delle punti riguardanti il calciomercato prossimo anno Yuri ci va l'Atalanta al gol di arma mi hanno spinto tutti in avanti ho preso la ringhiera dello stadio in pieno non me ne frega un cazzo perché io ho perso la finale sono anche nervoso che cazzo mi dai la parola facendomi incazzare fate fare i soldi a dare ma vai a studiare calcio asino croato in cinque in cinque anni allegra una coppettaglia ce l'ha morto la Roma ha giocato malissima ma ha giocato esattamente come ha giocato tutto l'anno piccio caputo ci saranno Danieli Andy Elkar è un rigore che è incredibile siamo tutti un po' dei piccoli di Andy giusto che Carlo Testa se posso dare a me che si perlusconi ancora dietro la magia sempre solo forza mini e promuove i baglie e forse ne saremo anche studiate la storia del calcio prima di parlare tirate fuori sui riscolti per favore perché diventa matto guardate l'albedore e non vado a defecare in un video che ha comunque lo stemma del torno la parola di ieri tu hai riassunta semplicemente in due parole che merda dare come sei eh certo guarda che ricordati che un ladro più un ladro non fa zero ladri cosa ne pensate dell'attuale stagione del toro allimento le cose troppo esagerate non vanno bene buonasera partiamo direttamente con prego partite poeticamente poeticamente poi ah ecco io aspettavo un tuo cenno vai vita granatosità anche il cielo piangeva dopo il fragore che rese immortale il loro valore correva la palla con quegli onini d'oro facendo sbocciarla la fede nel toro con gioia ed ardore viviamo questa passione tifando una squadra che dona emozione quando undici eroi scendono in campo il mio cuore per loro si accende in un lampo il mio sogno più grande è indossare con onore la maglia granata come puli ciclone insaccare la rete della vecchia signora ed esultare sotto la maratona questa è la curva d'Italia più amata che rende felice ogni granata poiché il calcio non è solo un bel gioco resto fedele al toro con tutto il mio fuoco crescendo ed amando di questa squadra e valori lo faccio sereno tra oneri e onori e allora e allora grandissimo Vito grandissimo Nustro Mastro Rocco benvenuti al Maratona che è 5 ore 5 ore io vi ho fatto anche 5 ore di poesia ma abbiamo anche altri ospiti benvenuto mitico mitico Davor Milito buonasera Davor ciao a tutti e poi abbiamo attenzione abbiamo il grande amico diciamo colui che è fonte fonte per le notizie che riguardano non so perché sotto a sinistra oggi tutte le notizie che riguardano Radunic torna al toro cascon diciamo per non alzare troppo l'hype delle novità derivanti dalla sua cittistica Baieieismo buonasera Baieismo buonasera buonasera e abbiamo un polemicissimo mi pare di capire un polemicissimo un polemicissimo Fabrizio Poghera Fabrizio Poghera sei tu potrebbe essere lui potrebbe essere mi pare fosse ma non ho capito se era era Fabrizio Poghera non si sa non si sa potrebbe essere chiunque c'è un audio in sottofondo torna potrebbe essere potrebbe essere ma chi è ma chi è no veramente no ma è Nick eh sì ma scusa Nick adesso io per dire io ti stimo molto ma c'era Fabrizio Poghera tra l'altro in una posa ma se vuoi entro dopo e vai tranquillo no no non hai capito cioè lì in quel riquadro comunque l'ha postato un po' come se tu sembra un po' lì indietro c'era Voghera devo abbassare la voce di quel coglione di Adani perché se no non sei allora Giovanni Vogliazzi direttamente dal processo del Varte di siamo a dei livelli altissimi siamo già a livelli altissimi comunque la Roma la Roma la Roma vince aspetta abbi un po' di poesia perché sono presente è presente anche il mitico Vito è presente anche il mitico Vito che starà con noi fino a quando non fino alle due di notte perché deve andare a scuola l'una e mezza giusto fino all'una e mezza poi domani vai a scuola Vito a blastare il Juventino e dirle che vinceremo questo derby 3 a 0 no comunque in questo momento cerchiamo di essere poesci Tommaso Papini direttamente Tommaso Papini tutto è infainato Tommaso Papini tutto è infainato derby derby lo vinciamo perché non vale un cazzo sì allora c'era Fabrizio Voghera scusate ma sono io che tipo non so sono acidato o avete visto anche voi prima nel pre-live Fabrizio Voghera a parte di scherzi Davo ma prima c'era Voghera o no? mi pare di no come no allora sono io che non essendomi drogato ma scusa Giovanni scusa ma prima non c'era Fabrizio Voghera non è una che no mi sembra di sì c'era Fabrizio mi sembra di sì mi sembra di sì mi sembrava tipo tipo all'una e mezza di notte e poi mi sono visto Fabrizio Voghera mi dico c'è Fabrizio Voghera da subito e poi è scomparse ma tu sei con Fabrizio Voghera in questo momento no ma secondo me l'ha rapito l'ha rapito l'ha rapito l'ha rapito di bronzegno intanto c'è un un certo Jacopino che non so chi sia questo link è girato questo link è girato allora intanto vi dico una cosa come avete visto ah no poi Bagliegismo anche scomparso dove andate comunque come avete visto dalla dalla foto ci saranno tutta una serie di ospiti che si alterneranno ok quindi se adesso vedete noi sei tutte le persone che sono nella foto si alterneranno perché c'è chi prima deve fare una britta di calcio chi prima deve è a San Sino ma tutte le persone nella foto quindi state qua fino alle due di notte anche tu Vito 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 un aggettivo Vito per definire la Juventus nel senso parolacce sarebbero un codice codice di siamo molto puliti quindi no parolacce mi raccomando vabbè diciamo un silenzio assenza un silenzio assenza allora ma praticamente dopo la mezzanotte ci si spoglia cioè non ho capito no Nick tu no Nick non dopo non si si spoglia dopo la mezzanotte ci si spoglia a partire dalle 22 ok per favore Darren ma hai visto vediamo un attimo la scaletta di Mick Wallace che hai visto il video di Mick Wallace 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 mitico President in bocca al lupo al toro sabato contro la Juve Juve merda forza toro noi non volevamo arrivare a quei livelli anche perché non siamo parlamentari quindi ha fatto insomma è sufficiente il parlamentare io inizialmente pensavo fosse veramente un'intelligenza artificiale anche perché è identico a com'era tipo anni fa da tutti i punti di vista pensavo fosse veramente un'intelligenza artificiale invece veramente lui un mito un mito totale un mito un mito incredibile Davor tu da punto di vista diciamo politico cosa mi pensi di Mick Wallace e di questo suo porsi in questo modo in Britannia tu faresti così? beh io diciamo che se i politici facessero i politici sarebbe tutta una cosa migliore a livello generale non si sente non si sente non si sente Davor che il microfono è abbassato non si sente forza è vero è vero è vero poi da te Davor da te Davor che sei il il boss dei microfoni no 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 c'è tutta una roba dietro questo è un dinamico è un dinamico sentite? eh ma è il nominio l'interista è il nominio l'interista che porta sfighe è il nominio l'interista che porta sfighe tra l'altro Nick mi ha detto che parteciperà anche FB stasera io gli ho passato il link e ha detto che entra no non è vero te mi insulta sul personale provvede no ma si scherza si scherza dal punto di vista dal punto dal punto di vista politico dal punto di vista politico bagieieismo aspettando che funzioni il microfono di Davor che forse è già funzionando io lo sento se li sentiamo prego Mick Wallace Mick Wallace ma stasera gli interisti sono impegnati dopo Nick dopo Nick abbiamo potuto finire le due prego Davolo ah scusa prego prego no dicevo in linea generale se i politici facessero i politici sarebbe una cosa migliore ma questa è una critica verso Meloni io io non sono per niente d'accordo al di là delle fedi con questi con questi usciti ah ok ah non sei d'accordo con queste uscite pari di calcio pari di calcio e da me che sono esterno diciamo che non apprezzo queste cose non apprezzo queste cose stavi parlando di di Jacopo Formia giusto stavi parlando di Jacopo Formia no no stavamo dicendo cosa ne pensi di Toro 24 ti ho chiesto cosa ne pensi di Toro 24 e mi hai detto questo allora benvenuto benvenuto Toro 24 Toro 24 si è chiaro questa sera lei verrà dissato verrà blastato verrà blastato questo deve essere chiaro altrimenti non venivo quindi esatto tra l'altro per tutta la cricca un caro un caro saluto a tutti quanti a Vito a Davor di cui sono un fan ascolti i suoi video quindi lo saluto grazie e poi vabbè un saluto all'annunzio filogamo Pepino Pepino entrerà eh per tutta la cricca pugliese Pepino sta guardando Mila Roma e mi ha detto posso entrare per fare la reaction di Mila Roma ho detto ovvio siamo qua per questa Pepino è fuoco Pepino è fuoco esatto esatto allora baglieleismo un flash su un flash su Mick perché poi andiamo su Pellegri per blastare Jacopo vai Mick un grande è vero anche secondo me in politica non vanno portate queste cose però lo spirito granata bisogna portarlo ovunque ma non in questo modo però per me tutta la mia stima però sul fatto che in politica bisogna evitare queste cose sono d'accordo allora prima di andare un attimo su Pellegri voglio chiedere una cosa Vito perché a parte tutto magari Vito non sta fino a cosa state fino a cosa state Vito Nunzio anche altro secondo anche altro secondo allora prima un attimo però farò vedere a tutti quanti domani domani ovviamente lui a scuola insomma è giusto andare a letto mi ricordo anch'io quando andavo a scuola che veniva invitato nei podcast e praticamente andavo via prima ti chiamavano Bobo? nel 1971 ti chiamavano la Bobo TV? no nel 1900 no Bobo TV no Bobo TV tanto è chiusa vorrei prima di tutto però se mi funziona sto Facebook perché non ho capito per quale motivo adesso Facebook non mi sta funzionando bene tra l'altro mi deve non mi sta funzionando bene Facebook mi va tutto nella chat ma perché mi va nella chat oh ci siamo voglio prima farvi vedere una cosa perché siete stati tutti quanti blastati dissati tu Vito sai cosa vuol dire blastati a scuola te l'hanno insegnato la professoressa di cringismo non te l'ha insegnato cosa vuol dire blastare vuol dire tipo prendere in giro cioè no magari no però vuol dire insultare guardate un attimo guardate un attimo perché siamo stati prendere di mira prendere di mira siamo stati tutti grazie professor e guardate i commenti quali sono stati allora il commento è stato maronna mia come come allora maronna mia quanto disagi sta foto e questo è un complimento vabbè massimo devi dire di saltare perché è il tipo no vabbè lascia stare no queste cose non c'erano prima tra l'altro vabbè c'è dei posti in questo disagio tutti i tiktoker sì sì tutti tutti i tiktoker assolutamente a parte che qual è il problema di essere tiktoker quindi ma infatti quindi ma poi è una cosa strana che adesso tra l'altro adesso entra entra Marina Cismondi adesso entra entra pure Roberto ecco entra in questo momento Marina Marina Cismondi che è fra Jacopo ah no no c'è Nicli tra l'altro volevo chiedere Marina Cismondi appena si palese li faccio ciao Marina una domanda benvenuta Marina Cismondi una domanda ciao a tutti ciao ciao Marina ciao Marina tu cosa ne pensi diciamo dei bronzegliani e di bronzelli dal momento che mi sembra che sotto i post del tuo gruppo resistenti granata ci sono molte facce molti account diciamo bronzegliani quindi ma ci sta ma nel senso dicevo che la tua la cricca resistenti granata è un po' la stessa cricca bronzelli o no o no Marina Daren chiedo scusa se sei d'accordo noi usciremmo insomma grazie per l'invito ok già già volete uscire già volete uscire niente già le persone che non iniziano a andare via va bene si capisce tanto più o meno faranno tutti comunque grazie mille perché è stato un intro bellissimo grazie a Vitti mi raccomando domani a scuola devi dire a tutti i tuoi compagni di iscriversi al Torocast tutti quanti i tuoi compagni capito anche quelli della Juve perché qua simpatizziamo pure a Juve no non è vero solo per farli ok domani voglio arrivare a 1880 Cairo simpatizza Juve si sta scherzando Pellegri simpatizza Juve si si dai non immaginavamo insomma che è stata come dire l'idea della poesia è venuta perché effettivamente la maestra aveva chiesto un compito aveva chiesto diciamo una poesia su vuoi dire tu come è andata prego prego sui nostri sogni ed esprimere con con diverse parole le similitudini i nostri sogni i nostri desideri e allora io ho scritto questa poesia vabbè e quindi però parli molto meglio di Cassano Vito tu che hai quanti hai 11 10 e mezzo tu parli molto meglio di Cassano cioè tu hai un eloquio che mi sorprende mi perplime mi sorprende bravo 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 ok dico io una domanda prima che se ne vada io una domanda prima che se ne vada gli 11 giocatori migliori che tu hai giocato come come io una domanda prima che se ne vada vai ma prima che se ne vada allora Nick una domanda per scusa per per ragazzi vai perché 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 la sfiga è sempre quella alla fine nella vita è sempre la sfiga c'è sempre una domanda veloce anzi è vecchia o giovane la maestra è abbastanza giovane giovane vedi vedi la sfiga vedi però la sfiga vedi però la sfiga vedi però la sfiga io avevo maestre io avevo maestre no no io avevo maestre vecchie racchie brutte maledetti e invece questi hanno le fighe ah no vabbè voglio tornare a scuola voglio tornare a scuola voglio tornare a scuola voglio tornare a scuola no vabbè a parte scusateci per Nick poi chiaramente sei andato una foto voglio tornare a scuola ma che scusa scusate no sto scherzando comunque grazie per aver partecipato se volete se volete vi do un'ultima chicca vi do proprio una chicca inedita nel senso che proprio di questi minuti praticamente un amico mio diciamo del Friuli mi ha scritto insomma l'ha vista su facebook io non so come insomma è girata su facebook perché poi in effetti è stata ripresa anche da un link del Torino e quindi probabilmente poi di lì è stata scaricata e quindi l'ha vista ovviamente ha riconosciuto il nome del bambino mi ha chiamato subito eccetera eccetera e mi ha chiesto ma perché questo termine granatosità non chiede all'Accademia della Cusca di considerarlo come neologismo al che mi ha posto la pulce nell'orecchio e in effetti ho mandato una mail all'Accademia della Cusca chiedendo in effetti non esiste questo termine e mi faranno sapere se potrà essere o meno considerato un neologismo cioè come attitudine ad essere tifosi del Toro e quindi ad essere tifosi di Granata e quindi c'è questa questa bella come dire quest'ulteriore elemento simpatico perché proprio domenica scorsa questa poesia è nata tra sabato e domenica scorsa perché il compito l'aveva avuto venerdì e quindi insomma è venuto questo termine e ora vediamo come va a finire ve l'ho voluta lanciare questa questa informazione perché è proprio roba di poche ore fa abbiamo mandato questa mail chissà se l'Accademia della Crusca ci risponderà o meno speriamo grazie ragazzi intanto siamo ciao a tutti scusate allora intanto l'Accademia della Crusca intanto attenzione perché l'Accademia della Crusca è ufficialmente invitata e poi c'è il ritorno di Luxflow incredibile il ritorno prego prego stava finendo un unzio stava finendo un unzio no semplicemente questo appunto ma c'è della Puglia semplicemente questo quindi se dovesse essere accettato questo termine dal questo neologismo dall'Accademia della Crusca saremmo ancora più felici noi tutti quanti tifosi del Toro perché in effetti attualmente questo termine non è compreso nella lingua italiana quindi ha avuto questa intuizione chissà se avrà porta bene insomma il genere e per il derby speriamo speriamo di domani intanto vorrei una cosa per piacere Vito Enunzio potete salutare Cali e Cabernet non so chi siano non sappiamo chi sono neanche io li salutiamo a prescindere perfetto di nuovo Gabriele perfetto grazie mille ci vediamo prossimamente quanto finisce quanto finisce sabato 0 a 3 per la Juve 0 a 3 per la Juve finisce ciao grazie mille alla prossima alla prossima mi raccomando Vito sei stato al Toro che sei il miglior podcast di tutti dillo a scuola il miglior podcast di tutti altro che gli altri va bene grazie arrivederci e allora e allora mentre Vito Enunzio Massarocco ma perché dici 0 a 3 Darren 1 a 4 vanno via mentre Vito Enunzio Massarocco vanno via entra entra uno juventino entra uno juventino entra uno juventino io veramente io al suo entra juventino ero preoccupato entrasse quell'asino di Afsim e invece no Afsim no è troppo importante perché sei tu sicuramente no Jacopo io veramente nonostante non sia d'accordo ma Jacopo è una persona che inizia a me io pensavo per scherzare ma Jacopo è odietissimo è odietissimo allora Marina andiamo un attimo su andiamo un attimo sul Robaldo per favore perché io so che tu Marina hai qualcosa da dire intanto per chi non lo sapesse facciamo una lezione ma cos'è sto Robaldo cos'è cos'è Robaldo Ronaldo cos'è Robaldo per chi non sapesse cos'è Robaldo prego è un ripasso un ripasso sì siamo nel il Robaldo è un centro sportivo è un centro sportivo localizzato in strada Castello Mirafiori che è stato messo in bando nel 2015 è stato il bando l'ha vinto il Torino FC ed è stata data la concessione il 16 marzo del 2016 e i primi lavori sono attualmente in corso sono iniziati a gennaio di quest'anno ci sono delle cose molto strane perché sul cartello dei lavori non è indicato quello che di legge deve essere indicato che sono gli estremi del permesso a costruire ho verificato con la circoscrizione che mi ha risposto che il permesso a costruire è quello del 2021 e questo è alquanto strano perché intanto se un permesso del 2021 ha durato di un anno e quindi sarebbe scaduto nel 2022 ma poi nel 2023 sono state apportate delle modifiche sostanziali a quello presentato al progetto presentato nel 2021 quindi non si capisce come stiano costruendo con un permesso a costruire scaduto e non conforme all'ultimo progetto presentato poi sempre nel cartello lavori è indicata come cifra come investimento 850 mila euro e quindi questa è un'altra cosa che non si capisce perché 850 mila euro probabilmente è la spesa solo per i campi e tutto il resto quando verrà fatto verrà fatto non verrà fatto poi c'è questa cosa divertentissima dell'inaugurazione il 4 maggio ma visto come stanno andando i lavori aspetta su questo perché vorrei introdurre questa piccola cosa dal nuovo duo più cool del web questo questo duo non direi non ci sono io ho visto dei video per noi la cosa sono molto arretrati perché sai che il 4 maggio sono in l'inoculazione ci sono passate letteralmente tipo 2 settimane fa 1 settimana fa e 3 campi più la sede campi peraltro ricordiamo l'ho messo in male perché sono uno infilato esatto la porta esattamente e io la costruzione della sede non l'ho vista io ho visto sono tanti campi io la sede dovrebbe essere pronto un campo per il 4 maggio il problema è che siamo al 4 aprile quindi in un mese dovrei finire il punto sarebbe brutto averlo annunciato e poi non riusci no allora domanda sul Robalto allora ho visto dei allora ve lo chiedi velocemente a tutti prima di prima di te lo chiedo velocemente ste Nick ma tu del Robalto te ne fotti proprio il cazzo diciamo tu proprio del Robalto te ne fotti il cazzo che te frega del Robalto perché cosa vuol dire tu Nick mi hai scritto io del Robalto me ne fotto così mi hai scritto no non è vero non è vero non è vero sempre strutture buone come Jacopo non è venuto in mente se impianti sportivi sono sempre buoni in qualsiasi squadra quindi l'importante è farli però se poi fai così che non riesci a inaugurarli perché non vengono finiti è brutto quello è ok ok scusate che io non vengono neanche incominciati nel caso del Torino perché appunto l'unica cosa che si sta facendo sono dei campi ma tutta la parte che dovrà essere edificata non si sa ancora nulla non si vede ancora nulla quindi il fatto comunque di fare un'inaugurazione con un unico campo finito in una struttura che non sarà sicuramente agibile perché tutta la recinzione ad esempio è assolutamente pericolante con uno sfogliatoio probabilmente di fortuna portato per l'occasione secondo me è una cosa veramente ridicola anche un po' penosa sinceramente visto che dopo otto anni ci si è ridotti a fare una cosa del genere cioè non lo so io lo trovo penoso Davor tu del Robaldo cosa ne pensi Davor? ma io in generale sono d'accordo con con Stenic con il discorso che per un movimento calcistico generale se tutti i club non si adotti non si attrezzano di strutture proprie senza parlare insomma degli stati di proprietà rimarremo sempre questo ma assolutamente vi giuro mi sono fatto permettetemi di andare un pochino fuori tema mi sono fatto delle grasserizzate a sentire Pioli a dire vabbè ma tanto noi non siamo molto lontani da certe culture calcistiche boh non lo so ragazzi mi sembra semplicemente che ci si metta avanti allo specchio vestiti di Prada eccetera quanto so bello quanto so buono quando poi nessuno ti caga aspetta Davo ma tu ne riesci a stare un po' il microfono aspetta basta vedere lo stadio del Real non è che ci hanno messo molto a farlo al di là dei soldi ok però hanno costruito uno stadio nuovo in un tempo ma il Real il Real è il Real mica per altro no no togli togli il discorso soldi quindi fai prima se hai il grano no 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 lo ripeto no no lo ripeto perché forse qualcuno non ha capito il Real è il Real la miglior squadra al mondo fine vuol dire che chi ci lavora ha cervello fine perché se sgarri perché se sgarri al Real vai fuori immediatamente non dopo no no ma aspetta perché ha sbagliato fuori fuori non siamo al Barcellona siamo al Real fine squadra più titolata al mondo Nick quando tu parli si cade il silenzio perché sei incontrastabile quello che dice è legge no proprio un discorso no dice da bar di paese sì incontrastabile ma vatti a fare un altro siero vai a farti un siero no no allora a me va bene parlare del tutto ma non allora ascolta Nick serio parla di tutto no veramente parliamo di tutto anche di masturbazione e allora e allora e allora non deve fare come FB perché se iniziamo così finisce male io lo avviso cosa fai ci alzi cosa fai c'è un tempo di andarmi a fare un caffè ma poi dove cazzo è finito Fabrizio Vogher abbiamo aperto sta puntata e c'è Fabrizio Vogher ha messo così tipo messo così nel letto così con una faccia incazzatissima e poi scomparso bagieismo ma tu l'hai visto anche tu Fabrizio Vogher nel pre-live no c'era 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 poi mi hai detto guarda un concerto entro sul Tarni ma c'era lì poi è andato via Fabrizio Vogher ed è subentrato Nick a telecamera spenta secondo me le due cose un downgrade abbiamo subito abbiamo subito un downgrade allora Nick risposta allora intanto Lux è tornato come va Lux dove sei stato in questo periodo cosa ne pensi del Robaldo cosa ne pensi di Radulic qua devo prendere tutti i temi incastrarli cosa ne pensi cosa ne pensi di Nunzio cosa ne pensi della maestra cosa ne pensi di Nick cosa ne pensi di Voghera vai ciao a tutti io sono troppe informazioni no si fa troppa roba io sono ancora in Germania io sono ancora in Germania qua che non mi non mi smuono da qua si lavora si stralavora spero si va avanti dai Robaldo 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 ma di che parliamo Robaldo è una di quelle situazioni tragicomiche stile stile ponte sullo stretto Messina andiamo avanti così con questa ridicolaggine lo seguiamo tanto con un presidente così cosa vuoi fare andiamo avanti con un presidiente un presidiente questa mi piace bravo allora facciamo una cosa adesso tutti quanti mi dite un voto mi dite un voto da dare a Cairo Nick da 1 a 10 vai Cairo voto Nick è sparito sta procedendo a fare intanto attenzione allora scusate devo voglio fare un attimo entrare e no attenzione perché c'è Roberto Cavallo ragazzi allora Tommaso tu fino a quando puoi stare Tommaso anzi c'è una cosa attenzione benvenuto benvenuto vediamo Cavallo Roberto Cavallo buonasera eccoci qua buonasera Roberto Cavallo buonasera a tutti grazie per l'invito ciao a tutti buonasera caschiamo a pennello perché voglio chiedere a tutti inchiniamoci inchiniamoci a Cavallo voglio stavo chiedendo a tutti quanti un voto da 1 a 10 da dare a Cairo risposta secca o anche magari un po' con olive cose vai Tommaso 1 Davide Davoro 5 Giovanni dai 2 Bagliegismo 4 e mezzo Stenik 5 tu Stenik ti dirai ma a me che cazzo me frega di Cairo perché devi 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 obbligare di essere oggettivo ma non è un virus che vuole che deve attaccare adesso parleremo di Radonich adesso parleremo di Radonich che torna non ti preoccupare Stenik Lux vota Cairo che torna quando è arrivato quando è arrivato i primi due anni quando è arrivato i primi due anni gli davo 10 più proprio spettacolo adesso meno 10 Marina in una scala da 0 a 10 vabbè Lux è andato sotto no non classificabile addirittura volevo dire quello volevo dire quello allora vediamo sv senza voto senza voto cavallo visto io io so di essere di essere solo contro tutti il mio voto è 7 lei è come Carmelo Bene da Maurizio Costanzo Show però no ma in questo è il suo giudizio rispettabile in questo contesto mi rendo conto però chi mi ascolta e sa come la penso e sa che il mio il mio giudizio è che questi attacchi continui e gratuiti e questo accanimento nei suoi confronti poi si ritorcono contro di noi perché poi siccome lui è colpevole di qualunque cosa accada anche nel momento in cui dovesse fare veramente un errore poi dopo chi lo accusa non è più credibile Bagliegismo stiamo mettendo Cairo eh Bagliegismo stiamo mettendo Cairo sì prego posso dire anche la mia ricollegandomi insomma a quello che ha detto Roberto perché comunque io sono un esterno ma una grande parte della mia community è Granata io ti posso dire l'impressione che ho avuto filtrando la mia community e devo dire che ci sono dei giudizi a volte un po' troppo di pregiudizio nel senso che molte volte fa l'errore uno è ma Cairo perché è il capo nel senso il discorso di responsabilità oggettiva esiste nel calcio quindi se sbaglia Juric è normale che faccio un esempio studio Juric come Vagnati come chi che sia è vero che è stato scelto magari da Cairo ma non si può dire che è colpa di Cairo perché nel 3000 avanti Cristo Cairo scelse Juric quindi questo è il mio discorso quindi mi sembra che a volte i giudizi su Cairo siano un po' pregiudizievoli certo poi d'accordo molti dicono ma Cairo ha speso poco in realtà ha speso molto male esatto non è vero che ha speso poco non è vero scusate ha speso male perché Niang Zaza e quella gente sono stati un sacco di milioni e Verdi grazie io aggiungo anche Ilic grazie a chi e allora Ilic però ragazzi Ilic l'ha voluto a tutti i costi Juric a tutti i costi l'ha voluto Juric tant'è che il Verona non ha creduto i suoi occhi tant'è che il Verona non ha creduto i suoi occhi c'è un doppio cavallo c'è un doppio cavallo cos'è? no è un doppio cavallo non è che non ha retezioni in Ituria già è difficile è difficile con noi no raga fermi fermi c'è un ritorno audio è un ritorno audio ragazzi mi stai chiudendo fermi tutti fermi tutti fermi tutti fermi tutti il Bocalup al Toro sabato contro la Juve Juve Merde Forza Toro Stenic cosa ne pensi no ragazzi c'è un ritorno ok qualcuno deve togliere risolverte il ritorno ne vado a fare no ti vogliamo Giovanni sto cercando di che ritorno ma niente è Jacopo che sta sabotando è Jacopo chi è? sto cercando aspetto forse era Davor era Davor che sabotava no io intanto dico una cosa a Cairo come voto dò tre io personalmente a Cairo come voto dò tre è primo perché non dà gli obiettivi inizio anno secondo perché lo ritengo un pagliaccio nel senso che quando gli fa comodo fa alcune dichiarazioni quando non gli fa comodo altre secondo me essere non tanto contro Cairo ragazzi ma tu Ritorno che si sta sabotando questa porta questo maratologa aspettate stai in un po' no attiviamo lì che è? Gugliazzi più di 1 a 1 prova Marina Marina prova a disattivare Marina vediamo Marina prova a disattivare Marina non è che sono io no non sono io come però tre due ok secondo me per non essere poi vi do questa palla vi lancio questa palla poi voglio anche sentire vogliazzi eh io voglio sentire vogliazzi vi do questa palla no è tornato è Marina è Marina è Marina è Marina grande Vico grande Juric Marina forse sei tu io vi dico una cosa secondo me per non essere totalmente contro Cairo lo si può essere ma bisogna argomentare veramente bene e secondo me l'unico l'unico che sa argomentare bene e di rosteresia il suo non essere contro Cairo è Nick perché nella sua follia Nick dice una cosa vera perché Nick dice il problema di poi non è che sono d'accordo per forza però c'è il problema non è Cairo che è una cosa banale però se va via Cairo arriva un altro io non sono d'accordo chi non è verso chi non è del tutto contro Cairo quindi non sono d'accordo con Davo non sono d'accordo con Cavallo per nulla per nulla signor Cavallo sono d'accordo con lei Formia Jacopo che voto dai il momento che tutti aspettavano in chat il momento che tutti anzi aspetta un attimo 10 così ok lo volevate tutti allora Jacopo il voto questo poi questo contenuto lo metto su tutti i social lo taglio no scherzi il voto no a me non faccio queste cose il voto ufficiale di Jacopo Formia Toro 24 a Urbano 10 tanto vuoi quello no no devi dire 10 passo ah ok va bene allora il voto ufficiale di Jacopo Formia di Toro 24 a Urbano 10 passo qual Toro che è tutto vero qual Toro è tutto spontaneo no comunque Jacopo voto reale ma è il meme no ma che cazzo me ne frega me del meme Stenic dirà ma me che cazzo me ne frega del meme dirà Stenic dirà ma me che cazzo me ne frega di ste codi perché dai prego no io vivo per il meme bullizzando ma a Stenic non dovrebbe frega niente di niente no no bullizzando Stenic non approvo a parte che io a me piace tutta questa diattriba su Cairo perché rivedo tutti noi Juventini su Allegri no che è tutto un capo spiatore ma fan cagare perché poi ad esempio noi l'anno prossimo metti che non c'è Allegri la squadra fa cagare voglio vedere cosa dicono capito quindi diranno che è colpa di quello che ha lasciato Allegri uguale qua Cairo capito qua non compra bene arriva un altro farà da due acquisti che faranno cagare al Toro e voglio vedere sarà colpa di Cairo che ha lasciato la squadra così da lì è un po' è un po' come in apropria con la re a parte che stia calma e brianzoli perché lei può andare contro tutti ma non contro di me bom ma dare prego ma noi stiamo noi stiamo andando contro ad un personaggio che lo dice l'intelligenza artificiale noi vinceremo la Champions League grazie a lui nel 1952 no però parte di scherzi veramente scusate no partiamo perché allora Jacopo tu e ci sarà ancora lui ci sarà ancora lui sì sì criogenato è mai morto in realtà muore ma guardo lo so non è mai morto forse non è mai nato forse non è mai nato allora Jacopo tanto non so perché sei salito in prima fila e mi hai fatto salire tu per l'importante io vorrei mettere vorrei dividere io le finte no ma dove è finita Marina non è tanto qualcuno entra e esce forse è andata con ma è finito poi è tanto Fabrizio Voghera anche cioè è qua ok Marina è qua era andato un attimo nel limbo dovevi chiamare Valero Liboni ma è un voto no perché io sono proprio che era io sono Jacopo voto da dare esatto bravo voto da dare a Cairo ma se vuoi fare un discorso serio anche se questa non mi pare la sede però comunque c'è Pepino pure dopo dai io sono venuto per Pepino comunque no mi sento mi sento abbastanza allineato a ciò che ha detto Roberto Cavallo prima cioè io andrei su comunque una sufficienza per aver riportato cioè perché si può fare anche molto peggio cioè si dimentica che in realtà ci sono società che abbiamo visto anche chi ha cambiato di recente a parte il Milan che vabbè ha preso un importante fondo di investimenti e poi ha comunque dei debiti ingenti ma questi sono altri discorsi c'è anche chi ha cambiato presidenza ed è finito in Serie B quindi io comunque la Serie B spero di non vederla mai più quindi questo è un po' la mia cosa poi ovviamente si può fare molto meglio in questa situazione non c'è nulla di eccelso però non penso neanche che gridare al va tutto male sia un qualcosa di costruttivo poi c'è chi si sfoga così va bene così probabilmente gente che giustamente dice ha visto altro io magari quello non l'ho visto ma io c'è gente che invidia la propria gioventù io non le invidio e qui io ho altre opinioni e sicuramente a me chi brontola sempre non è il mio modo di vivere e non lo capisco poi preferisco vedere il bello che il brutto nella vita soprattutto nel calcio dato che è uno sfogo è una passione e non non vedo il motivo di andare a creare a credine in queste cose poi se c'è chi ha questo da fastidio a me dispiace allora io dico subito perché a differenza delle scorse live dove comunque io tenevo una ho fatto scusami devo fare una cosa devo fare una cosa devo salutare Brianzoli che penso sia Angelo Bonna noi sappiamo questo è un side joke e poi vabbè Cabernet Cali che sono dei cari amici ok io tra le scorse live non mi ero per esempio Cismondi via Scavallo Cismondi via Sformio comunque Midica non mi ero esposto perché comunque ero un torocastacerbo io ero acerbo e tutto cioè non è che ero acerbo avevo deciso però adesso mi espolo a me Jacopo a me Jacopo io per Jacopo preciso che io non sono contro io per Jacopo fammi solo dire questo io non sono contro io non sono contro nessuno io non sono il contrario di nessuno io sono me stesso non sono mai andato a cercare altri al massimo sono altri che vengono a cercare me anzi a volte anche in maniera che sono fuori per stare proprio bassi sono fuori dalla civiltà io sono sempre stato educato con tutti e quindi io dalla mia parte mi sento pulito puoi dare vai pure no allora io per te Jacopo lo sai che io vorrei vabbè lascia stare comunque come persona non dico nulla le tue idee io le contesto aspramente soprattutto per quello che riguarda Cairo io credo che siano il tuo seno di mentalità molto accontentista super iper mega stramed mediocre legata a Cairo questa è la mia idea io sono da questo punto di vista super anti tra virgolette comunque no contro questo pensiero quindi anche contro il pensiero contro il pensiero di cavallo abbiamo già fatto un cismondi via scavallo a questo punto Marina se vuoi aggiungere qualcosa poi chiaramente se lo vogliamo rifare ditemelo che mi faccio popcorn prima però tu stai chiaramente io ho finito voglio sentire anche la tua vogliarsi vai tranquillo che io nel fango non gioco lascio giocare gli altri quindi non è un problema Marina tu cosa rispondi diciamo cosa rispondi al fatto che Jacopo ha detto che non parla di cose serie al Torocast cosa vuol dire Jacopo potrei dire cose serie ma non è questa la sede in che senso non è questa la sede intanto devo passare l'incapisto Marina prego Marina dici qualcosa che non hai detto finora al Torocast di nuovo per rispondere a questa sono della Juve ma che cosa devo dire cioè io sono sconsolata a sentire questo quello che ho sentito perché non è che chi contesta Cairo lo fa per un odio personale o perché è frustrato o perché ha visto altro chi contesta Cairo vede esattamente qual è la situazione del futuro negli ultimi lasciamo stare i primi tre anni negli ultimi quindici anni cioè è una squadra che galleggia a metà classifica quando va bene e non lotta per la retrocessione che non ha mai avuto un progetto che non ha ambizioni sportive che non ha strutture che non ha al massimo a una sede in affitto dove non è mai stata creata una connessione chi c'è l'ha Tommaso ma quello non ci pensa neanche chi c'è l'ho di proprietà che ha un museo davor 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 aspetta che ha un museo aglomento no ragazzi allora allora qui si parla sempre di sede di proprietà stiamo vedendo i casini che ci stanno l'unica che c'è l'ho stato di proprietà è la Juventus il Dacia Arena è in affitto per 99 anni il Dacia Arena è in affitto per 99 anni il Mapes Stadium non è del Sassuolo quindi cosa vogliamo parlare stiamo vedendo la Roma la Fiorentina e i casini che hanno ma cosa stiamo imputando a Cairo ragazzi anche la Juve grazie anche la Juve è in concessione per l'avanti come no dico grazie davor ma anche la Juve è in concessione chi l'ha costruito l'Alihan Stadium il comune chi l'ha costruito a me risulta che la Dacia Arena non l'abbia così l'udinese idemina poi Stedium punto non si può criticare Cairo per un'una tantum in Italia ma di che stiamo parlando sei tu che non stai parlando intanto non è l'unico stadio di proprietà la Dacia Arena ma ad esempio c'è l'Atalanta che sta rifacendo completamente lo stadio dopodiché l'Allianz è stato regalato dal comune basta informarsi su qual è la storia del passaggio di 40 centesimi al metro quadro all'Allianz e alla continenza quindi ma stiamo vedendo la Fiorentina Roma anche il Milan che i problemi hanno nel costruito lo stadio ma il problema è della burocrazia italiana che fa fuggire gli investitori non di Cairo per il Torino vero questo è vero scusa questa è che l'unica cosa che io non l'inputo a Cairo è lo stadio perché sarebbe folle acquisire uno stadio che credo che abbia compiuto i 90 anni che ha costi di manutenzione straordinaria altissimi che non è modificabile perché è tutelato dalle belle arti quindi per me l'unica cosa che fa bene a fare Cairo è non acquistare e non acquisire lo stadio perché sarebbe una cosa veramente folle però questo non gli impedirebbe ad esempio di colorare i i seggiolini di granata che con una spesa assolutamente ridicola dimostrerebbe per esempio di fare un qualcosa di toro nella sua vita cosa che a lui non frega neanche ma c'è stato pubblicato seggiolini al massimo è stato pubblicato è stato pubblicato su instagram un video che fa vedere come sono ridotti i seggiolini delle tribune sono in uno stato pietoso cioè questo è proprio il disinteresse totale da parte della proprietà ma anche perché ricordiamoci che lo stadio del grande Torino è affittato praticamente a ore dal Torino FC cioè lui ha diritto ad entrare nello stadio per le partite e per la parte della sala stampa appunto dopodiché motivo per cui vengono fatti i concerti eccetera motivo per cui ad esempio se c'è una partita che può essere di interesse della primavera non può essere giocata lì perché non rientra nell'accordo fatto fra il comune di Torino e la Cairo c'è la Cairo di queste cose tecniche di cui parleremo in una puntata a parte secondo me vogliamo un attimo su una cosa più terra-terra anche baristica e tutto quanto c'è nel senso urbano io voglio chiedere a Jacopo e a cavallo una cosa allora al dera di tutte queste cose ok ma dal punto di vista ignorantemente praticamente sportivo Jacopo e Roberto e Davo Davo però tu non sei del toro però rispondi anche tu poi Giovanni voglio sapere anche la tua su questo baglieismo e tutti però c'è nel senso a te Jacopo a te Roberto però siete sinceri vi va bene al netto di tutte le vostre giustificazioni un toro che è questo ovvero oggettivamente il nulla da 31 anni tranne uno schizzo spermatico di Bilbao nel 2015 perché quello è stato se vi va bene è una opinione la rispetto però ammettetelo a voi va bene il nulla Roberto Cavallo a lei va bene il nulla allora ti prego dammi del tu però perché se no mi fai sentire veramente talmente vecchio che mi sento Robi Robi lo sono peraltro sono però dammi del tu lo stesso per piacere allora guarda io credo e poi tra l'altro vi lascio perché come ti avevo anticipato Andrea devo commentare sto commentando la partita in corso tra Milano e Roma e tra poco il collegamento del secondo tempo io credo che in realtà è ovvio che tutti quanti noi vorremmo vincere vorremmo andare in Europa almeno ogni tanto e magari non perché arriviamo settimi e la sesta dei problemi finanziari ma è ovvio questo è del tutto naturale io ho vissuto non solo la vittoria della Coppa Italia ma nel 75 76 io quel giorno di maggio ero ero allo stadio quindi è ovvio è ovvio che tutti quanti noi vorremmo vincere quello che probabilmente non riusciamo a focalizzare è che il calcio è cambiato non è più quello di Pianelli non è più quello di Orfeo Pianelli è un altro è un calcio che si fa purtroppo purtroppo con i fatturati è un calcio in cui chi ha più soldi vince e io mi ribello alla formula stante la quale vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta perché questa è la frase più vergognosa e più anti quella è l'unica frase finisco finisco è la frase più vergognosa e più antisportiva che sia mai uscita dalla bocca di calcio che tra l'altro non l'ha neanche detta Boniperti quella frase lì perché quella frase lì è una frase di un coach del football americano degli anni 60 e lui l'ha ripresa da quello quindi io credo che essere del toro vuol dire essere del toro in serie A in serie B dovunque siamo e comunque stiamo giocando naturalmente vincere piace a tutti ma io non sarei contento di svendere l'anima del toro se ci comprasse che ne so uno sceicco del Qatar e molti sarebbero contenti di questo ma perché no l'importante è solo quello perché no ti do la mia opinione secondo me no secondo me no secondo me no non sono d'accordo il bene del toro passa da il toro una scuola di calcio Andrea è un dato di fatto per te per me è un dato di fatto che invece sono del toro a prescindere dal fatto che il toro vinca o perda vabbè ma anch'io che c'entra dammi del tu per favore però io non voglio adesso fare la discussione che non possa mai che sembriamo io e lei a orgoglio granata tu valli del tu Roberto quando dico che lo scopo del calcio è vincere è un dato cazzo raga è un dato di fatto che il toro non è una modella che sfida il toro è una squadra il bene del toro passa dalle vittorie ma vabbè ma allora ma allora i tifosi allora i tifosi dell'Udinese del Lecce del Sassuolo devono smettere di andare allo stadio poi tu mi dirai ma noi abbiamo un altro storico e allora noi siamo come l'Udinese del Sassuolo allora noi però cavallo mi scusi mi scusami cavallo mi scusi e noi siamo il Bologna noi siamo il Sassuolo siamo l'Udinese o siamo il Toro magari il Bologna beh il Bologna ha una beh infatti tra l'altro in ogni caso allora ragazzi io non sto dicendo il Bologna è stato per anni l'anonima io dico sì ma il Toro è anonimo e poi scusate poi scusate poi veramente vi devo salutare perché tra poco mi chiamano però io sto dicendo che secondo me se la mettiamo sul piano del non abbiamo vinto niente e quindi il Toro società fa schifo e queste cose qua io non sono d'accordo perché il Toro è un modo di vivere e se uno vuole vincosti guardate che in città c'è un fiume lo si attraversa si va dall'altra parte lo spogliatorio loro hanno 38 scudetti con tutto rispetto per l'amico bianconero che vedo in basso a sinistra ma loro hanno 38 scudetti se li contano da soli e allora uno passa passa il ponte del Po e va dall'altra parte però scusami Roberto tu stai veicolando un concetto gravissimo tu Roberto stai veicolando un concetto gravissimo a mio avviso il concetto che se si vuole vincere che il Toro non può vincere o comunque non deve puntare a vincere in nome della sua identità non vincente gravissimo ma assolutamente no ma scusa no no ma tu stai ma tu stai no no ma scusa scusa vuoi dire un'altra volta gravissimo o mi fai dire no 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 hai travisato completamente le mie parole io certo che vorrei vincere ma ribadisco vorrei vincere in maniera onesta innanzitutto e con delle persone che sanno dov'è Torino sulla carta geografica che sanno che cos'è il grande Torino che sanno come si fa ad arrivare a Superga perché con uno ceco del Qatar a me vincere francamente lascerebbe abbastanza indifferenti questo sto dicendo ok facciamo e e Andrea Andrea io devo veramente andare perché va bene va bene tanto abbiamo due juventini nel backstage che sono pronti a entrare le 22 e 15 ok abbiamo due juventini va bene io non sono d'accordo con lei Cavallo ma la ringrazio ti ringrazio di essere intervenuto mi dai grandissime possibilità di sperimentare allora mi scambiate mi scambiate con due juventini praticamente un cavallo per due juventini e questo lo scambio beh però tu vali tu vali un cavallo per due zebra un cavallo per due zebra esatto esatto intanto Cavallo c'ha la pettinatura di Dimash quindi oddio va bene grazie grazie abbastanza è vero grazie Roberto mi piace molto di stare con te grazie a tutti un abbraccio ciao ciao grazie mille posso dire una cosa ciao 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 intanto entra attenzione entra uno juventino poi ne entra anche un altro ciao appena c'è Roberto attenzione entra Ago buonasera dove è Ago Ago buonasera come sta come se la passa buonasera come si permette cosa ti fa lei io sono juventino fino al midollo e quindi stasera si lotta da 60 anni da 60 anni cioè dalla mia quasi 60 anni perché ho 60 anni ma insomma diciamo da quando ho la condizione del calcio beh a 60 anni però 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 è comunque sempre Ago abbiamo un altro juventino abbiamo il dottor Panzer c'è bisogno di fare ragazzi c'è bisogno di far entrare un attimo il dottor Panzer signori deve entrare un attimo il dottor Panzer che deve stare poco io chiedo ragazzi io non posso uscire io sì potrei anche uscire io allora faccio una cosa esco io e non posso però potrei farlo vediamo esco un attimo io però se faccio così boh tutto finito perfetto perfetto conduco io il Torocast adesso finalmente qualità un caro saluto al nuovo arrivato buonasera esatto esco io conduce Jacopo con i mit ed entra il dottor Panzer io sono veramente non voglio fare paragoni ma che stai facendo che stai combinando che stai combinando prego un saluto un saluto al dottor Panzer grandissimo ciao sono dentro sei dentro entra si 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 non è entra buonasera a tutti buonasera sento piano perché sono anche fuori che stai rientrando a casa ma ci sono chi ha votato le ultime consultazioni politiche lei cairo bene e questo ti lasciamo dire adesso è tornato è tornato è tornato è tornato formi a Redbeck crea un po' di astio fra per esempio a Torino comandano gli Agnelli e gli Elkan infatti deve ecco la questione Ago Stenic poi tra l'altro fra poco andremo anche su Baglieismo che ha delle nuove chat con Raduric mi raccomando Giovanni e Papini inseritvi Lux dici qualcosa Marina parlaci poi parliamo anche del quattro io volevo dire una cosa peccato che è andato via Roberto Cavallo perché volevo intervenire sul suo discorso lui ha detto che oramai il calcio è basato soltanto sui soldi sulle persone che c'è il grano ed è vero è pura realtà però se dovesse arrivare uno sceicco non è contento non è felice quindi c'è qualcosa che non torna allora gli Juventini la Juve comanda a Torino Lux a parte che assumi tantissimo Luca Turilli il chitarrista della Studio Fire ma comunque grazie Luca non so che sembra è un chitarrista metal allora io il discorso che ho esatto Giovi il discorso che faceva Roberto io in parte l'ho capito lui dice contando che il Torino si fonda sulla tradizione il discorso di vincere soltanto perché in questo calcio moderno chi purtroppo ha agganci fatturati tutta struva del genere purtroppo ha dei boost quello che dice lui è se il Torino dovesse essere acquistato da un arabo che investe non so quanti soldi e per quelli si può permettere di prendere giocatori e aumentare boostando soltanto per un discorso economico a lui non piacerebbe il percorso che vorrebbe fare lui secondo me è diverso è un discorso che secondo me sarebbe anche più giusto a lungo termine il ricreare il far rivivere un'atmosfera una tradizione che poi va a crescere col tempo ecco perché lui ha parlato di Superga sì ma adesso perdonatemi ma anche Davo vale a dire ai tifosi del Bologna non penso che ora che sono lì con una proprietà col grano che ha creato una struttura hanno creato delle cose gli faccia schifo star lì perché c'hanno il grano poi verrà dopo la storia per metà di quelli lì non sapranno niente del Bologna probabilmente però sono lì il Bologna di base c'ha una una bella organizzazione che il Torino non ha eh ma il Torino se tu avrai il grano prenderai gente con i controcoglioni per ricrearlo io sono primo che vorrebbe un derby come ai tempi come adesso perché perché anche io dico che il Torino non deve stare lì però se vado a vedere le altre squadre la struttura che hanno le altre squadre davanti al Torino meritano di stare sopra attualmente assolutamente finché tu non ricrei qualcosa avrà le colpe però il grano è tutto alla fine adesso è quello io mi travesto da Bellanova dipende anche come che investi il grano però assolutamente ti hanno detto prima mi travesto da Bellanova e serve un assist ad Aren nel senso una mentalità un'idea una base per creare il valore sportivo non è acquistare Seker Adunic questo è il problema questo è vero però io dico una cosa se vado controcorrente sarò odiato da tutti sicuramente ma se dovesse arrivare il signor Red Bull che vuole mettere i pantaloncini blu sulla maglia granata con lo stemma del subito subito iniziamo in grano che crei tutto una nuova storia iniziamo una nuova storia la tradizione che diceva prima il signor Cavallo delle vincere è l'unica cosa che conta sportivamente è ovvio che è una frase che fa cagare nell'accordo di tutti partecipare e lo sappiate però nel calcio come diceva prima Andre bisogna vincere cioè a me se perdo pareggio non vado a prendere nessun trofeo non vado avanti non guadagno soldi quindi vincere in questo sport è l'unica cosa che conta perché è la verità poi ci mettiamo che i soldi fanno la felicità lo sappiamo però da lì a dire se arriva lo sceicco non sono contento se vinco dai questa è una stronzata se io vinco lo sceicco Cairo me ne sbatto cioè vinciamo la Champions nel 54 poi creerai la storia che vuoi per carità poi creerai quello che vuoi basta basta vi prego dobbiamo parlare adesso è entrato Ago c'è Stenic ragazzi intanto poi faremo anche un accenno però tante robe tante robe Marina facciamo una cosa tu Marina per favore in un minuto parlaci di questa cosa del 4 maggio in un minuto se vuoi come riesci come fosse il video di TikTok perché poi dobbiamo poi chiaramente chi vuole dire qualcosa perché dobbiamo passare sull'argomento che tira fuori Nick sempre ovvero e voglio sentire Stenic voglio sentire Ago e Dottor Panzer la Juve comanda Torino da sempre prego Marina no Ago non si addormenti Ago non si addormenti per favore non si addormenti sono qua ma la mia opinione in merito è straconosciuta io ritengo che Cairo sia esattamente un Ciminelli 2 la vendetta quindi gli interessi che ha avuto in passato e che continua ad avere con la famiglia Agnelli basta andarsene a cercare su internet e si hanno tutti i riscontri possibili e immaginabili quindi per quello che mi riguarda per come la vedo io Cairo è assolutamente utile al discorso della famiglia ed è stato particolarmente utile quando è arrivato perché era ancora tutta da definire la questione stadi e quindi quello che si ventilava che dietro al giovanone ci fossero dei palazzinari e di conseguenza avrebbero potuto mettere in dubbio la assegnazione degli stadi come è stata fatta che sarebbe da portare sarebbe stata da portare in tribunale per tutte le vicende che ci sono state chiaramente era necessario una persona che non avesse alcun interesse a mettere i bastoni fra le ruote alla famiglia Agnelli ma adesso Cairo è diventato una potenza riguardo a quelli che sono le istituzioni sia comunali che regionali per il fatto che è il proprietario più importante quotidiano nazionale e di una rete che praticamente vive di politica infatti lo stiamo vedendo noi abbiamo lanciato abbiamo scritto una lettera aperta che è stata ripresa da molti siti e anche da tutto sport relativamente alla problematica del Giro d'Italia perché comunque ci saranno sicuramente degli impedimenti per i tifosi che vorranno andare a vorranno salire alla Basilica perché basta guardare il tracciato del Giro d'Italia e si vede chiaramente che praticamente tutte le strade di accesso o saranno chiuse o al traffico o saranno non attraversabili ma su questo siamo tutti d'accordo abbiamo scritto qui vedo anche Jacopo qui in cui comune aspetta finire sì 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 il Giro d'Italia è suo quindi non è chi è che decide chi è che ha deciso di farlo il 4 marzo in contemporanea il direttore del Giro d'Italia non li decide Cairo non è che lui dice le tappe sono queste le tappe le decide lui no il Giro è gestito dall'RCS Sport da Bellino che guarda caso è anche consigliere del Torino FC quindi la scelta di passare a Superga il 4 maggio è una scelta che ricade che si è vantato personalmente di aver fatto Urbano Cairo non tenendo assolutamente conto che i tifosi che vorranno salire a Superga quel giorno non si capisce come potranno farlo se non viene cambiato qualcosa e quindi va bene passiamo al prossimo argomento io voglio coinvolgere voglio coinvolgere non potranno salire da sassi perché salendo da sassi quando arrivi sopra ti trovi strada Baltistero sbarrata e la panoramica sbarrata quindi la tua automobile non sai dove mettertela quindi non si può già salire da sassi la dentera porta 200 persone ogni mezz'ora a Superga mediamente vanno 5.000 tifosi quindi o incominciano a partire alle 5 del mattino oppure non c'è modo di far salire 5.000 tifosi sul piazzale se non cambieranno delle cose quindi che cosa può cambiare può cambiare che il comune mette una serie di navette che fanno avanti indietro da Corso Casale al piazzale di Superga oppure che venga spostata la funzione o venga spostato il giro perché si potrebbe semplicemente spostare di 2 km e lasciare di conseguenza la possibilità di avere dei posteggi per le auto oppure venga spostata alla cerimonia come già stato fatto in passato alla sera invece che anticiparla come pare verrà fatto perché Cairo vuole essere presente alla premiazione all'arrivo della tappa quindi questa è l'ennesima dimostrazione che pur di fare le sue passerelle personali tutto il resto passa in secondo piano questo però appunto ricordiamoci anche che la regione ha dato 8 milioni di euro all'ARCS spot per i tre giorni del giro d'Italia che è una cifra spropositata che non ha precedenti perché gli anni precedenti in cui il giro è stato in Piemonte l'investimento era di 6-700 mila euro quindi non si capisce perché improvvisamente adesso Cairo debba ricevere 8 milioni dalla regione Piemonte quindi visto che il giro l'abbiamo pagato noi con i fondi pubblici derivanti dalle nostre tasse perlomeno che non crei problemi a chi quel giorno vorrà salire su Perga allora ragazzi passiamo clamorosamente alla questione Juventus che comanda Torino adesso tra l'altro Baglieismo ci rivelerà dopo questo argomento che ha portato avanti con Radonis insieme a una serie non c'è una cosa dare insomma noi però adesso entra Ago e Dottor Panzer sarete chiamati e anche Stenic anche se forse Stenic dirà ma a me no su questo gliene importa credo ma in causa c'è una cosa importante che riguarda la Juventus prego prego Jacopo prego voglio dire che comunque quel giorno lì il 4 maggio si parlerà del Grande Torino in quasi 200 paesi in 5 continenti uno dei più grandi sportivi del momento molto probabilmente sto parlando di Pogacar indosserà una maglia rosa che sarà dedicata al Grande Torino e tutti ne parleranno è sicuramente un grandissimo sponsor abbiamo parlato fino adesso del fatto che ci stiamo estinguendo e quant'altro io non trovo un volano pubblicitario non c'entra nulla con quello che ho detto io non c'entra nulla con quello che ho detto io ma io non sto parlando con lei voglio dare un'opinione mia sul Giro d'Italia posso farlo? no io ti sto dicendo che non c'entra nulla col fatto che quel giorno i tifosi del Toro non riusciranno a salire a Superga nessuno ha detto che schifo il Giro il 4 maggio il Giro il 4 maggio deve comunque tutelare il diritto dei tifosi di salire a Superga che poi sia un modo per parlare del Grande Torino vedremo come verrà fatto perché poi la maglietta la maglia rosa dietro al colletto abbia una dedica al Grande Torino a me non sembra questa gran cosa in ogni caso ripeto è primario il diritto di mantenere la tradizione da 75 anni a questa parte dei tifosi di poter salire ad avere la commemorazione del Grande Torino e questo deve non ho capito il senso della replica dato che io non l'avevo citato comunque va bene uguale detto questo è che non vedo questa grande necessità che il Grande Torino si poteva ricordare il giorno prima e il giorno dopo senza creare nessun problema nessuno dicendo domani sarà il 4 maggio oppure ieri è stato il 4 maggio la tragedia del Grande Torino ma evidentemente c'era la necessità registro la sua non capisco di nuovo cosa sia contro quello che ha detto ma va bene uguale tra l'altro mi pare che dato che sta continuando a parlare mi pare che lei e i suoi l'anno scorso si è andati sul 3 maggio quindi che problema c'è non capisco comunque va bene ma tu continui a non capire perché non c'entra niente se noi abbiamo deciso di andare al 3 e probabilmente decideremo nuovamente di andare al 3 per non avere a che fare con Urbano Cairo questo non vuol dire che chi invece chi tifoso del Toro vorrà salire il 4 maggio come ha sempre fatto deve essere messo nella possibilità di farlo cioè che cavolo c'entra se noi andiamo al 3 nulla assolutamente nulla quindi c'entra dei paladini va bene va bene non c'è nessun problema registro ok bravo registra senti dato che io devo scappare vorrei solo aggiungere una cosa che è una notizia di oggi che a me ha fatto inordidire e poi vi saluto è uscito l'ultimo pezzo della vicenda che riguarda SEC e da quello che è stato riportato da Repubblica e da tantissimi altri giornali è venuto fuori che c'è stato uno scambio di messaggi fra il padre di Pellegri e Ima Iuric tutti felici perché il pubblico ministero li stava aiutando a sfangare SEC dalla storia del revenge porn quindi io trovo veramente scusa stava aiutando SEC il pubblico ministero il pubblico ministero oltre ad aver cancellato il video del revenge porn e aver invitato la ragazza a ritirare la querela assicurandole che il video non era stato diffuso cosa assolutamente falsa ha anche avvisato Pellegri padre che ci sarebbe stata una perquisizione quindi erano stati avvisati della perquisizione ed è venuto fuori anche uno scambio di messaggi fra Pellegri padre e Ima Iuric tutti contenti perché il pubblico ministero li stava aiutando a far uscire indenne da questa situazione SEC allora che un dirigente del Torino sia felice che un suo calciatore accusato alla John veduta perché ci sono tutte le prove di revenge porn non abbia conseguenze sia tutto felice che un pubblico ministero li stia aiutando io la trovo una cosa ignobile semplicemente ignobile vergognoso fine la donna da tifo eh sì su questo devo ancora avevo intraletto qualcosa ma ne avevamo parlato in una puntata con con Possamai con Freddy Fazio però non ho visto non ho visto gli sviluppi insomma intanto comunico a Giovanni e Tommaso che vi alterno perché ho bisogno che alterno anche me perché chiaramente gli ospiti noi siamo il toro che sono gli ospiti quindi vai Marina poi passiamo mi raccomando Agost e Nick e Panzer ciao a tutti grazie buona serata ciao Marina ciao ciao e allora ragazzi passiamo passiamo assolutamente adesso alla tematica che voglio ora possiamo parlare anche noi no dottor Panzer si calmi dottor Panzer basso queste mani piano eh la violenza qua no allora no perché salire il 3 il 4 il 5 sembrava assurda come cosa lei può parlare solo di Juve lei non può permettersi di proferire infatti sono zitto ma infatti lo è esatto allora steni sì no allora la parola la parola si tolge la parola la parola acqua Nick però cazzo dai vai parla non ho nulla da dire che devo dire no senti Nick ascolta io te l'ho detto questa parte del Toro che sarà grandissima è dedicata alla tua questione legata al fatto che gli Eccane comanda a Torino e gli Eneghi comandano a Torino da cent'anni ma sì ma sì di fatti ma di fatti ma di fatti ma di fatti non c'è mai stata pace per il Toro tranne cioè post allora non c'è mai stata pace per noi post grande Torino e ci hanno fatto vincere uno scudetto per carità cristiana basta fine in un'altra città saremmo molto più rispettati perché è vero che Milano dove per me c'è solo il Milan poi dicono che c'è anche l'Inter vabbè ma per me non c'è l'Inter comunque in un'altra città con Milano e Inter saremmo molto più rispettati perché Milano e Inter si farebbero molto di più i cazzi loro molto di più i cazzi loro molto di più i cazzi loro no Nica ascolta lo dico ancora una volta molto di più i cazzi loro ma tu stai pavidando tu devi dire le cose comunque punizione per il Milano non ce ne frega un cazzo tu non cambierai tu adesso qua detto che è il momento devi stare a dire di Magnano quello che pensi della Juve guarda sì che gli ECA negli Anieli comandano ma lo devo dire io hai di fronte hai il mutuo abbi il coraggio ma c'è il mutuo Dio povero ma non ho il mutuo non ho il mutuo ho il mutuo sto parlando ho il mutuo ragazzi no no non hai il mutuo se li inventa tutte se li inventa Nick adesso tu ma io non ti sento non so se gli altri lo sentono mamma mia veramente ti sentiamo ti sentiamo ti sentiamo no lo so senti Nick però veramente a parte che non ho abito perché non c'è la webcam questa puntata cioè sei nella presigla ti ho messo su Isam in realtà è il Nick Toro cioè stasera ma tu non puoi adesso però tirarti indietro cos'è che pensi della Juve vai pensiero profondo comunque rip è molto profondo però veramente cioè il fulcro di no Nick va beh Nick sostiene che la Juventus è anche un po' l'Urso sostiene che la Juventus comanda Torino da sempre però detto in maniera molto più cruda volgare grezza e che di conseguenza il torno non può andare da nessuna parte perché ci sono sempre stati gli Agnelli vorrei partire da Ago per poi andare su Dottor Panzer e su Stenic prego allora ma io dico cioè è vero che la famiglia Agnelli è un grosso ha sempre avuto un grosso potere storicamente soprattutto nel periodo in cui è stato Giovanni l'avvocato per questioni politiche poi è vero che chi i soldi comanda di più rispetto però le cose sono anche un po' cambiate adesso cioè è chiaro che anche John Elkan ha poteri soldi ma sicuramente ha un centesimo del carisma del nonno e quindi si ha molti più soldi di Cairo ma secondo me il Toro potrebbe ricavarsi uno avesse invece di Cairo un presidente diverso non lo so e tra l'altro sono d'accordo anch'io che fosse un tifoso del Toro ma anche della Juve in questo momento cioè vista visto che la Juve adesso è abbastanza incrociata sono 3-4 anni che non sta facendo la Juve nel senso che non solo non vince che può anche capitare ma non io sarei ben contento gli amici vendessero se fosse qualcuno che comprasse e mettesse dei soldi perché la Juve rimane poi anche i presidenti però però signor Lago signor Lago a parte che doveva chiamarsi a Gobbole ma forse non glielo ho detto va bene lascia perdere il signore secondo me è vero fino a un certo punto che c'è il dominio Agnelli soprattutto adesso c'è stato però adesso ripeto lo spazio per il Toro c'è cioè se costruisse una squadra più competitiva e che comunque già non è vero che è una squadra che ha delle potenzialità con inserimento però rimaniamo in tema il punto c'è Nick che adesso incredibilmente non c'è ma lui sostiene che a prescindere da tutto comunque c'è un legame fra Cairo comunque tutti coloro che sono i presidenti del Toro questo lo sostiene anche Lux in realtà anche Lux anche se in maniera meno grezza sostiene questo attenzione ho sbaglio Lux che la Juve ma vabbè io ho avuto a che fare lavorativamente parlando con il signor Ciminelli ho lavorato per la Ergom quando l'ho visto entrare che c'era il momento Ciminelli e Romero tutti e due al cimitero ero lì però si sa che la Ergom lavorava per la Fiat e quindi non si vanno a mordere cavale ma non si calpese prego scusate scusa se ti interrompo mi permettono è vero ma anche con Pianelli che con Pianelli e Traverse aveva un'azienda che orbitava appunto nell'orbita Fiat però il Toro nel 76 ha vinto lo Scudetto e ha rischiato di vincere nel 77 e cioè voglio dire come dire lo spazio nonostante fosse sicuramente Pianelli che era un signore quindi le possibilità ci sono cioè non è impossibile non è vero che il Toro non ha spazio certamente la Juve ha più peso per una serie di tanti motivi anche per la storia della Juve perché comunque ha un background ha un palmarès importante perché bisogna anche ricordare che la Juve ha perso delle finali ma le ha giocate ha vinto 10 troppe internazionali non è proprio una squadretta poi adesso siamo a fare l'internazionale quindi qui lo spazio per il Toro secondo me c'è ci deve essere io da Juventino e dico che comunque lo spazio per il Toro ci deve essere io sono assolutamente un assertore del fatto della democrazia guarda che prima non ti sentivo veramente Cristo non si sentiva un cazzo non mi sopravvalutare non mi sopravvalutare vai vai prego Nick per favore prego prego prima non ti sentivo non è che facevo finta Dio Bonino parla parla io devo dire sono stato fuori tutto il tempo non mi funzionava non funzionava un cazzo intanto c'è mi sei bloccato tutto mi sei bloccato tutto cazzo intanto è presente mi sentite c'è c'è Nick Nick di com'è la questione cosa pensi tu della Juve la questione che tu ti domanda vai fai una sintesi del tuo pensiero ma l'ho già detto ma devi ripetarlo adesso che ci sono i tifosi delle Juve qua ma devi dirlo come l'hai sempre detto la Juve comanda Torino ha sempre comandato Torino hanno sequestrato delle persone eh non va niente scarico scarico non va scarico il tuo cervello eh detto direttore scusa non lotta non lotta stasera Nick perché non lotti stasera che cazzo è è dove andato ma ragazzi ma parliamo di cose serie Liverpool 0 Atalanta 3 ma Fabrizio Voghera comunque noi stiamo qua a fare il toro ma stai scherzando l'Atalanta sta vincendo a Liverpool 3 a 0 no ragazzi è un problema allucinante e noi dobbiamo dire che bello Cairo che bello Cairo no no allora dottor Panzer io mi faccio portavoce nel pensiero di Nick mi chiede no devo prendere le puntate i video comunque Nick sostiene che la Juve comanda Torino da sempre lo sostiene in maniera serissima l'ha sempre detto sostienendo pure altre cose comunque beh seriamente dottor Panzer sia onesto ma la Juventus ha un potere che i legami della Juventus col Torino nella storia nonostante comunque il Toro abbia anche vinto delle cose perché gli ha permesso di vincere evidentemente ma come sostiene anche il signor Possamai che la Juventus ha sempre comandato anche i semafori che Possamai e Nick che in realtà ha litigato seriamente dottor Panzer su questa vicenda su questa situazione lo ammetto o no? io credo molto semplicemente che ormai nel mondo di oggi calcistico meno gli interessi sono semplicemente economici che ti chiami Toro che ti chiami Juve che ti chiami Milan Inter Napoli eccetera quindi sono sicuramente due cognomi importanti per Torino e anche per l'Italia Cairo, Elkan, Agnelli sono tre cognomi importanti e quindi penso che forse i loro interessi sono semplicemente economici e non calcistici comandare Torino è una parola grossa avere rilevanza a livello nazionale e cittadina anche quello sì sicuramente penso un po' tutte e due poi è normale che tanto una cosa viene fatta che sia lo stadio che sia il campo di allenamento che sia il Philadelphia che sia la Continassa che sia qualsiasi cosa viene fatta semplicemente per interessi economici e basta a livello di sindaco a livello di famiglia a livello di giunta comunale piuttosto che altro quindi non c'entra Juve, Toro o meno Stenic sono d'accordo sia con Nago che con Fede nel senso che il potere di nomea sicuramente ce l'ha la Juve ma come ce l'ha il grande Toro c'è la storia quando parli di Torino ti riempi la bocca sempre del grande Torino come la Juve parli della famiglia Agnelli che ha il potere sono frasi fatte poi se andiamo a parlare ora bisogna evolversi adesso il calcio è pubblicità soldi è un'altra cosa cioè le famiglie non esistono più Elkan ma che cazzo io ne frega Elkan della Juventus c'è 41 miliardi di fatturato quell'azienda che brutta 200 milioni di patatine per il giochino che è la Juve non ne frega niente sono d'accordo con Agostino quando dice se ne compra uno che ti fa Juve preferirei però ovvio che se arriva al povero non vinci più niente è il discorso che facevamo prima poi devi anche saperli spendere che Cairo le abbia spesi di merda è un dato di fatto che non le abbia no perché anche lui non è che non può fare nulla che ha mani invischiate in qualsiasi cosa poi la storia che è lì messo dalla Juve sono stronzate che possiamo dire noi tifosi va bene ma non ci si crede neanche mentre lo si dice detto questo vedi la realtà Bologna vedi la realtà Atalanta se spendeva meglio in questi 15 anni i soldi che ha speso in giocatori o nell'attività dei giovani nei bambini proprio dico nella cantera e magari adesso il toro era un'altra cosa però Jacopo faccio vedere il tuo cappello ah questo mi sono dimenticato di metterlo prima c'è troppa luce ma sei pavido come Nick allora mi sono dimenticato guarda che bello dedicalo a chi lo vuoi dedicare? questo a Pogacar che vestirà la maglia rosa in onora del grande Torino una cosa bellissima non vuoi dedicarlo a qualcuno che è presente o che è stato presente qua al Toro che è stato alla Mara Toro no sì a Bagliegismo che non ha parlato è stato censurato quindi tutta la mia vicinanza allora Bagliegismo voglio sentire l'opinione di Bagliegismo su tutto quello che è stato detto finora una cosa alla volta partendo da partendo da dal fatto che Nick si è impavidito la pressione la pressione come i nostri giocatori quando devono fare una partita per l'Europa ok questione invece questione invece giro di tavola Giro d'Italia secondo me non c'è nessuna complicanza perché tanto i tifosi potranno accedere allo stesso Superga e il Giro d'Italia che parte a Superga secondo me è solo una cosa buona che ci fa pubblicità poi magari mi sfugge qualche particolare ma se è così non ci vedo nulla di male questione di Jacopo Formia che è molto vicino a quanto pare insieme a Cavallo molto vicino a Cavallo quindi vuole vuole Cairo non si lamenta di Cairo questo che Jacopo Formia tra virgolette pro Cairo nel senso che non è contro no su quello non sono d'accordo per niente o meglio negli ultimi due anni e mezzo c'è stato un netto miglioramento di Cairo secondo me che non merita un'insufficienza per quello che è stato cioè se l'avventura di Cairo al Torino fosse iniziata con l'arrivo di Juric sarebbe da nove contando da dove arrivavamo visto che è al e al Torino da vent'anni io per me ho un'insufficienza da quattro e mezzo come avevo detto prima Davor tu sei d'accordo con il bagiellismo tu sei comunque Davor tu sei una vita di mezzo per quanto riguarda Cairo abbiamo detto no sì io sono sempre stato favorevole al permettiamo che ovviamente non abitando Torino non vivendo l'ambiente toro io cerco di fare un attimino la summa di quello che posso estaporare dalla mia comunità di Granata quindi facendo un po' il peso usando come peso la bilancia della situazione io ripeto io dico che Cairo sicuramente non sarà stato un presidente perfetto io sostengo sempre però la suddivisione delle colpe perché io comunque molte volte ho sentito nel senso Juric la fa fuori dalla tazza ma Cairo vabbè Pellegri si infortunia e vabbè ma Cairo è le colpe c'erano tutti quanti Vagnati la fa un pochino fuori dalla tazza anche lui colpa di Cairo sì ma comunque facendo così si derubrica la colpa delle altre parti in causa e qui giocatori direttore allenatori tutti quanti hanno la loro fetta di colpa quindi io sono per una via di mezzo io sono per un discorso che sicuramente Cairo non sarà stato perfetto ha investito malissimo certi i soldi ricordo valdifiori verdi tutte queste robe qui ma essere così pleni colpevolista verso Cairo non lo so io onestamente mi dissocio da questa cosa e soprattutto voglio dire se ti ricorda qualcosa questa roba qui Stenic la vediamo un attimo mi sentite ti ricorda qualcosa questa Stenic esatto esatto e allora allora ragazzi falso 9 non ha potuto partecipare ma mi ha mandato stile Oscar un video in cui tipo un video di 84 minuti no comunque in cui ci dice lo facevo anch'io mi risparmiavo sta roba allora ascoltiamo falso 9 è molto bello anche l'inizio no veramente ascoltiamo cosa dice falso 9 e poi al massimo andiamo avanti e indietro ciao Torocast mi è stato chiesto un intervento riguardo il derby di sabato e poi in generale su questa rivalità ultracentenaria della stracittadina di Torino ma ecco spezzerò il mio discorso in due parti ben distinti la prima di stretta attualità e vi dico che e il Toro dal mio punto di vista sabato ha tutte le campi in regola per giocare in un gol derby e per fare risultati ragazzi allora facciamo così questo video è lungo quando volete dire qualcosa interrompo il video facciamo una reaction a questo video appena dice qualcosa che voi parlate capito non è che dobbiamo guardarlo tutti in maniera passiva appena dice una cosa che voi volete commentare parlate io lo stoppo ok vai chiaramente sarà anche a noi indirizzare la partita sui binari più congeniali e bisognerà capire anche come arriveranno loro personalmente sono ancora abbastanza deluso sento parecchio la delusione del post-Empoli dove onestamente pensavo di andare a vincere per dare un bel boost al finale di stagione tuttavia non mi fascia neanche la testa perché se parliamo meramente di classifica siamo ancora lì siete d'accordo fino a qua vogliazi io ti dico sono d'accordo con Andrea sul fatto che se la può giocare perché purtroppo c'è il discorso che la Juventus diciamo che ha preso la prima pillola della serie di antibiotico nell'ultima vittoria ma comunque viene da un 2024 abbastanza molto negativo la Juventus quindi secondo me molto dipende anche dall'approccio la Juventus al dia degli scorsi giocatori chi giocherà chi meno è una partita tripla ma semplicemente perché è un tripolarismo da parte di tutte e due le squadre un tripolarismo mi piace allora allora fin qua falso 9 perfetto andiamo avanti che voto dai falso 9 più o meno di Cairo no falso 9 vedo 12 a prescindere da come andrà il derby non tanto per meriti nostri in quanto per il terreno tante squadre stiano giocando al Ciappanò quindi sulla partita dico questo no fermi cos'è il Ciappanò scusate allora dicasi il concetto di Ciappanò che è un'espressione milanese che vuol dire il non prendi il Ciappanò cioè non prendi niente quando veramente che ne so tre squadre si giocano un 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 risultato un un obiettivo però perde una vince l'altra preggio una e vince quell'altra però quella perde poi vince quell'altra come si fosse un testa testa quindi il Ciappanò quindi la guerra del Ciappanò è quando si fa la guerra a non arrivare a un certo tipo di risultato ok la guerra non è arrivata in Europa l'importanza è la posizione e cercare di muovere la classifica in modo tale da rifarci un po' della delusione di Empoli sono certo che non sarà facile senza sbilanciarmi in un pronostico dico anche che comunque loro sono favoriti tra l'altro arrivano da due mesi pessimi a livello dei risultati ma recentemente si sono ripresi giusto in tempo per l'idea guardate voi che fortuna però ecco il Toro tanto contro il Toro i morti si svegliano altro che Toro Romero Romero signori fermi tu Romero fermi tu ho finalmente è cominciato tutto bellissimo ciao Pepino è un grande ti stimo ciao Jacopo grande ho messo una tuta dell'Adidas solo per te non è quella del Cerignola che spero di avere infatti nei commenti l'ho scritto alla prossima ti voglio con questa perfetto perfetto alla prossima si facciamo una reaction a qualche partita insieme dai vieni sul mio canale ci commentiamo il Cerignola dai molto volentieri no tu devi andare nella sua mansarda ma si facciamo vedi che facciamo degli ascolti che altro che il Torocast vabbè adesso continuiamo no vabbè non è per ridere dare voglio scambio di tute voglio vedere Pepino con la tuta di Jacopo e Jacopo con la tuta di Pepino non credo sia una bella immagine per questo si può vedere sull'HollyFans mio che è aperto va bene raga allora continuiamo con il video di continuiamo con il video di di facciamo facciamo una votazione tra chi ha la maglia più particolare tra il Cerignola Leone e la balletta FC la balletta FC finita vai vai balletta FC pensavo che giocatore allora FC è il codice fiscale di fiscale eh come perché perché questa che c'è la balletta balletta una station wagon per questa battuta ragazzi President in bocca al lupo al toro sabato contro la Juve Juve merda forza toro questo e questo va a scassare ora non c'è addosso non 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 giocchiamo la spugna prima di giocarci la partita perché abbiamo la possibilità di di fare la nostra bella figura poi di cosa di cosa non ha finito di cosa esatto del derby il derby è importante se contestualizzato all'interno di un percorso percorso che chiaramente è il campionato poi è ovvio che nel momento in cui tu fai un campionato di centro classifica e più o meno stabilmente ripeti questo andamento stagione dopo stagione vincere un derby meglio ancora vincere tutti e due ma non oso sperare intanto arricchisce un pochino la stagione non possiamo fare finta che sia una partita come le altre lo è dal punto di vista sportivo nel senso che una vittoria contro la Juve vale tre punti come una vittoria contro qualunque altra squadra però è chiaro che soprattutto per chi lo vive da vicino il derby rimane il derby e quindi capisco anche chi comunque ogni anno con ostinatezza ripone ripone speranza su questa partita non lo condivido granché ma ma lo capisco quindi è chiaro che se mi facessero scegliere tra vincere ma io voglio fare una domanda ai nostri amici juventini e anche chi non è della Juve che è del Cerignola che è dell'Inter ma questo derby lo sentite? cioè c'è ancora l'entusiasmo del derby voglio sentire vogliazzi su questo io personalmente no vogliazzi mi ricollego al discorso Cairo che è riuscito a cancellare una passione una voglia di io non ce l'ho più allora intanto sta per entrare Stefano Ferrero però devi fare copi in coe scusate io non ce l'ho più vai vogliazzi vai Giovanni vai Giovanni non è che non lo sento il derby perché lo sento ma si può chiamare effettivamente ancora derby il perdi il perdi perché tanto nel nostro è l'unico derby in tutta Italia che ha il risultato scontato è l'unico in tutta Italia non ce n'è nessun altro come il nostro io sinceramente tanto ogni volta l'entusiasmo non c'è non c'è però voglio però voglio capire i nostri amici ogni volta che esce il calendario io ogni volta guardo quando sono le date del derby non perché mi gaso dico dai che c'è il derby no per sapere quando la Juve prenderà sei punti esatto perché questo è io voglio sapere dai nostri amici dai nostri amici della Juve se hanno perso anche loro l'entusiasmo grazie al nostro caro presidente vai vai chiediamo io non so se l'ho perso per colpa di Cairo ma sicuramente non è più come l'ho detto prima non è più il derby di anni fa poi che sia scontato il risultato attualmente con questa fantasmagorica Juve bisogna ancora vedere però è da ancora vedere visto che subiamo anche dall'Albinoleffe quindi è possibile che tra Sanabria e Zappata che erano due morti che camminavano possono far gol anche loro quindi niente di più facile di conseguenza ti dico lo sento perché è importante sia per noi che per voi per un posto in conference possibile per voi e per l'Europa per noi ma non è un derby è una partita come un'altra che devo vincere un punto un poco però un bel pareggino tra Iuric e Allegri non è che voglio dire un bel pareggino mi sa che potrebbe venire fuori pareggino non serve il buon cazzo a nessuno eh no ho capito però tanto uno guarderà come fa l'altro l'altro cioè Allegri che vabbè sappiamo come gioca Iuric che guarderà Allegri se parte secco o meno quindi starà anche lui un po' più basso alla fine non fanno una segra entrambi vado un attimo a caricare il cellulare un secondo il derby andrà che la Juve andrà in vantaggio Iuric ha una certa si renderà conto che deve rimontare e come slot di cambio metterà un difensore questo succederà perché succede lo vado lo vado vabbè quello poverino sono tutti rossi sarà che sono sono fuori dall'Italia da un po' di anni però non sento più guarda leggo leggo in chat Fabio che ha scritto per i gobbi ormai il vero derby e con l'Inter posso dire che un po' ha ragione ma non perché anche questo con l'Inter però vabbè il derby d'Italia è un'altra cosa però c'è sicuramente più più astio forse col derby vero cioè Torino Juve c'era anche comunque stima nella squadra ok c'era il rispetto nell'Inter come per loro c'è l'odio che è diverso capito è un derby un po' diverso però è possibile sicuramente si sente più quello perché gareggi partite più importanti per Scudetti rispetto a quelli che ormai si fa col Torino guarda ti dico l'ultima cosa che poi devo andare allora io qui mi collego a quello ripeti Davo ripeti che non vuole cuffie no dico un'ultima cosa che poi devo andare ricollegandomi a Stenic allora io sono d'accordo più che altro per il discorso che il fatto che Inter Milan Lazio Roma i derby come Juventus Torino e per non parlare di altri come Fiorentina Empoli essendoci così tanta differenza tra una squadra dell'altra magari tra anche le ambizioni di una squadra dell'altra secondo me questa cosa qui un po' depotenzia la cosa in più c'è il discorso che ripeto le generazioni sono cambiate i giocatori sono cambiati vivono in modo diverso queste stracittadine diciamo così terminologia molto anni 90 e secondo me anche questa cosa ha contribuito un pochino a far scendere la tensione e la liberità che magari può rimanere semplicemente a livello colloquiale il discorso di Cairo ma ho notato anche oggi parlando che più un discorso di rivalità a livello calcio politichese piuttosto che un discorso di squadra A contro squadra B sì il discorso di squadra A di merda contro squadra ancora più di merda dove la squadra ancora più di merda è quella che perde sempre Marco sempre come sicuramente avrebbe cartone un saluto a Marco tra l'altro che Marco ieri è stato in live sul mio canale si parla di Bologna grande Marto vi ringrazio per l'invito su tutti qua della chat e se beccamo se beccamo se beccamo allora Davo ciao ciao devo salutarvi anch'io raga devo salutarvi anch'io stenic stenic per me andar via dici cosa pensi dici cosa pensi di tu segui Pepino qual è il format tuo preferito di Pepino quello delle miss quello dei dialetti che deve ancora fare Pepino non lo so non lo so non me lo dico iscriviti al canale importantissimo ecco esatto esatto allora per favore iscriviti al canale di Pepino perché è importante nel senso secondo me è giusto perché Pepino vanguardia è pura io lo dico è della Juve è della Juve incredibile in effetti vai Pepino è della Juve sto facendo il derby raga su FIFA sto usando la Juve benvenuto Stefano Ferrero ben entrato Stefano intanto Stefano Ferrero che sarà con noi fino alle due di notte Stenik un parere di qualcosa sul filo del ban che pensi probabilmente ma che sul filo del ban per chiudere in bellezza anche se a te non te ne frega niente vai vai ma no aspetta qualcosa qualcosa sul filo qualcosa sul filo del ban per chiudere per chiudere per chiudere un attimo in bellezza ma che dico non posso che sul filo del ban dico dico beh su questo canale è bello aspetta fino alla fine forza Juve ricordatevelo questo questo ci sta però no questa è una mentalità perdente una domanda importantissima per Stenik prima che se ne vada qual è il tuo Pokémon preferito? Bulbasaur ciao a tutti ragazzi grazie mille per l'invito ciao ragazzi ciao sempre forza Cerignola no ma Stefano Ferrero perché sei uscito? è rientrato Stefano mi hai sentito ma eri dentro Stefano sono io che ti ho fatto entrare uscire è tutto dinamico qua è tutto è un podcast è un podcast tra l'altro ragazzi ci saranno i Toroscar ne approfitto per dirlo i Toroscar una puntata dal vivo sono gli Oscar del Toroscar del Toro che saranno a metà giugno e chiaramente voi non siete invitati siete obbligati a venire tutti me ne frega un cazzo vi vengo a prendere uno per uno vieni a prendermi comunque sto valutando no raga sto valutando il luogo perché mi hanno chiesto tanti soldi nel primo in cui ho chiesto troppi soldi e quindi sto valutando anche altri Stefano ci sei? eh Stefano ti devo parlare di questo ma tu vuoi entrare? non ho capito vuoi entrare? beh ti passo il link in chat ti passo il link in chat ho il link in chat per entrare via link in chat per entrare tanto ho più di 10 vai vai no per questa storia che tu hai bisogno di un luogo questa storia hai bisogno di un luogo per fare questa roba io conosco molti teatri quindi tu sei massone hai delle gambe tua sorella tua sorella dire Luca Massone è la cosa peggiore no ecco si scherza Stefano Stefano Ferrero benvenuto tu ci sarai Toro scambio del vivo ci sarai ci sarai vero? evento dal vivo quando chi dove perché sono gli Oscar del Toro che ci sarà premiato miglior ospite miglior dissing miglior puntata miglior intro miglior tutto ci sarai è una cosa che si fa sul serio metà giugno devo solo capire il luogo il primo posto mi chiesto me l'hai detto mi raccomando ci saranno tutti quanti facciamolo a casa di Debo tra l'altro mi hanno chiesto di Andre Vitale Andre Vitale ha fatto una partita attenzione attenzione intanto abbiamo si palesi si palesi chi è? è Nick ah ma è Nick intanto Fabrizio Vogueira Fabrizio Vogueira comunque non non si è più palesato non si è più palesato Nick che è Cesaro Stefano andiamo avanti su andiamo avanti a Ari 98 viene Darren allora allora esatto Ari 98 Fra Di Fazio Andre Vitale Pisto Dio entreranno e saranno fino alle due di notte quindi tra l'altro faremo un incredibile perché vi ricordo che questa puntata va avanti fino alle due di notte faremo con loro e con chi vuole rimanere un incredibile uvu fufu lullu che ho fatto oggi come cazzo l'hai chiamato per amore che è successo ragazzi no fermi tutti mi sono spaventato visto che che è inquadratura sonduosa signori che è inquadratura sonduosa come mettere in imbarazzo una persona grande Tommy io appena vedo qualcuno in difficoltà vado con schermi da resto per fare il paragone tra un po' e per fare il paragone tra un pochino appena c'ho gli occhiali lo capisci ah ho capito ho capito ho capito continuiamo davanti no 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 papini e tante cose insieme papini e tante cose insieme andiamo avanti questo è importante teniamoci teniamoci pronti per uno stretto prima che vai avanti dato che non ho mai visto un video di falso 9 fino alla fine non vorrei interrompere questa tradizione me ne devo andare vi saluto tutti quanti salutami tutti quelli che verranno dopo mi spiace per Stefano che sono me ne vanno però sono qua tra di fazio è un capito una domanda una domanda per i amici ma io in fai arrivato adesso non per colpa sono mia e te ne vai mi stavo dire ti passa da posso tornare a litigare con te come ho fatto orgoglio era bellissimo ma mi organizzavo un altro Giacomo mi è l'indicata va bene hai litigato un po' li dimetto un po' cairo cairo ma avete fatto tutti i temi belli quando io non c'ero ero lì che chiedevo fatemi entrare che ci ho messo mezz'ora a parcheggiare la macchina clamorosamente mi sono clamorosamente mi sono clamorosamente dimenticato ma ragazzi io ho 800 chat con l'acqua lunga oggi ero anche al lavoro e questo ho sbagliato io ti chiedo la notizia è che dare il lavoro esatto ma ragazzi io tra l'altro lavoro ma non poco io mi sveglio alle 6 di mattina ma infatti io a me dovrebbero dare una medaglia perché io oltre a questo un lavoro che mi impegna tutti i giorni a me veramente mi dovrebbero dare però ho sbagliato io ho sbagliato io che non te l'ho mandato cazzo tra l'altro anche a pista non l'ho mandato ma l'ho mandato a tutti comunque Jacopo una domanda prima non c'era come entrare ero lì che guardavo Jacopo che litigava con Cavallo con Marina c'erano mille temi interessanti però aspetta adesso c'è la reaction ora c'è la reaction di Pepino no c'è la reaction di Pepino però prima Jacopo cosa ne pensi del format è finita questo è bellissimo è finita no no cosa ne pensi che c'è Pepino cosa c'è Pepino è finita mia Roma sì esatto la reaction cosa ne pensi Jacopo del miglior format ha vinto la guerra a Roma fermi fermi Jacopo cosa ne pensi Jacopo e Stefano cosa ne pensate del miglior format sul toro in questo momento sul web che è questo hai deciso vai ah questo che stai mandando io ne ho visto un pezzettino oggi devo dire è carino mi piace è fatto bene è fatto bene ma dillo con quegli occhiali ok scusami no c'è posta per me è un bel progetto fatto bene ci sono si vede che è un prodotto in cui sono stati investiti delle somme importanti questo questo tavolo triangolare ricorda un po' troppo Muschio Salvaggio proprio il resto ci sta citazionismo è sempre apprezzato però no un bel prodotto scusate io glielo ho detto anche a Possamai chiude Muschio Salvaggio lui ha fatto la puntata nel momento in cui Muschio Salvaggio stava chiudendo il tavolo è qui il tavolo potrebbe quindi comunque te lo guardi te lo sei visto tutto l'ho visto tutto bello sì a differenza dei video di Falzone Web questo l'ho visto fino alla fine bello Stefano io ho visto tre secondi che mi sono comparsi in un reel però due su tre li conosco e sono li considero amici insomma sono persone che stimo molto il terzo non lo conosco ma secondo me è il più bravo di tutti quello a destra chi è? ah Brugnone Brugnone non conoscevi era con la cravatta io pensavo un po' su una gag è un po' personaggio un po' fa un po' Matte è un po' così si sta creando un personaggio bravo però mi piace mi piace molto Matteo no quello a destra però è bravo bravo non so chi sia però è bravo bravo c'è Brugnone c'è Brugnone è è che sarà lui non lo so io non lo so sono tre anni non so chi sia da quando ho chiuso Torino Channel e ho detto lo seguo relativamente tra l'altro tra l'altro Possamai adesso dovrebbe entrare dovrebbe entrare dovrebbe entrare Possamai ragazzi vi saluto così mi frutto un po' Possamai buonanotte ci vedremo ci vediamo la prossima un abbraccio tra l'altro ciao Lux ci vediamo il prossimo del Toro che sarà giovedì 18 ragazzi allora questo confronto pazzesco giovedì 18 era segnato mi hanno scritto oggi che non possiamo farlo giovedì ma è un confronto assurdo con un Villain non del Toro no però ci sarà un confronto pazzesco non giovedì 18 ma eventualmente quello dopo giovedì 18 si spera che arrivi finalmente Caterina Bufanini l'insegnante non di Vito non di Vito ma un insegnante che ci parlerà di cosa di cosa guardate il Toro e lo scoprirete dai Jacopo guardiamo ancora questo ciao tutti ciao Lux ciao Lux ciao quando si parla di scuola poi invitarmi ti posso invitare quando si parla di scuola beh io ormai quello faccio io lavoro a scuola io lavoro a scuola e ci tengo molto alla formazione dei ragazzi beh guardati no ma in realtà comunque lei ah beh no mi di aspettate aspettate un attimo allora aspettate un secondo aspettate un attimo è arrivato il momento si può dire con grande rammarico che purtroppo Ivan Illich ricordi Daniele Baselli detto anche Marisa dei tifosi questo è un momento che avrei voluto tra l'uno e mezzo e le due di notte se vuoi te ne preparo un altro se vuoi te ne preparo un altro però così sembra proprio scalettato sembra proprio scalettato ragazzi stavo dicendo ecco questa cosa qua vi faccio vedere la professione la donna attenzione donna donna incredibile no al toro che si sono susseguiti beh c'erano i cismoni adesso è entrato in novantotte però quando si parla di femmine è bello è bello perché scusate perché dobbiamo essere tutti maschi io voglio che ci sia una grande varietà di pensieri anche di sessi no i sessi i sessi si può dire sesso si sesso maschile sesso femminile si può dire tu conosci voi conoscete Caterina Bufanini no no è l'ispirazione dei dialetti come? no dai non mi cadere su queste cose lei era Yasmina Pani lei era Yasmina Pani si 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 mi sono confonduto tra l'altro Yasmina Pani aveva anche un po' insultato aveva un po' insultato Caterina Bufanini e ci sarà Caterina Bufanini giovedì 18 che tra l'altro vabbè non voglio dire cose comunque che è lei la conoscete? non la conoscete Caterina Bufanini? no non la conoscete? eh? no non la conosciamo non la conosciamo dici chi è è questa donna qui eh ho capito non so come prima se volete se volete se volete sapere chi è dovrete lo dico anche ai ai come si dice no cos'era già non i followers ai ai seguitori lo dico agli esini croati se volete capire chi è Caterina Bufanini dovrete iscrivervi al Torocas proprio iscrivervi eh e quel punto guarderà anche le puntate soltanto chi è iscritto può guardare le puntate non è vero non è vero però è giusto sempre eh far di tutto per cercare di far iscrivere le persone ma intanto la questione dell'autointervista caro mio caro mio eh caro mio Benanzoni certo il Torocas è due motivi per cui faccio il Torocas uno per creare le sigle e due per autointervistarmi ma l'avete capito adesso? l'avete capito adesso ragazzi allora andiamo avanti col video tra l'altro qua Falsone ha detto una cosa importante torniamo ottimi indietro sull'Europa arrivare in Europa io sceglierei condivido granché ma ma lo capisco quindi è chiaro che se mi facessero scegliere tra vincere i due derby o in alternativa perderli e arrivare in Europa io sceglierei sempre l'Europa chi è che non è d'accordo su questo io sì intanto è entrato Bela 96 un altro Juventino buonasera buonasera Bela 96 ciao a tutti Bela 96 Bela 96 cosa ne pensi da questo momento davvero bellissimo cosa ne pensi di quest'uomo? President in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve Juve merda forza Toro abbia coraggio di ripetere quello che ha scritto oggi pubblicamente vabbè c'ho il coraggio quanto voi cioè nel senso questi tipi questi tizi che parlano male della Juventus quanto avranno il potere di vincere tutti i trofei che ne abbiamo vinto noi potranno dire Juve merda quanto vogliono ma il potere nel senso potere politico e beh sì comunque secondo me poteva benissimo dire forza Toro e la finiva lì ma no ma sarebbe stato bruttissimo sarebbe stato bruttissimo 1 a 0 1 a 0 anche Vogliazzi poteva solo dire 1 a 0 però l'ha detto potrebbe finire anche 1 a 0 sabato per chi? sì per voi un po' come dire siamo sempre no per voi fidati raga non è detto di come stiamo messi noi guarda non è che i derby vanno giocati ti abbiamo beccato giù il microfono giù il microfono qua si viene a fare buonismo al Toro abbiamo beccato quando avrete perso col Maccabi Haifa e abbiamo perso bravo bravo io ti vedo dai un minuto e arrivo un minuto e arrivo Tommaso conduce conduce Tommaso allora bene a 96 visto che prima eravamo a parlare di sul fatto che gli Agnelli e di Elkan comandano ancora a Torino dici tu cosa ne pensi secondo te comandano ancora a Torino oppure col fatto che gli Agnelli sono andati via e c'è Elkan Torino è cambiato qualcosa dici un po' cosa ne pensi ma e comandano è una parola grossa adesso perché comunque vabbè volere potere cioè se Agnelli e Elkan vogliono comandano e secondo me non al momento non non stanno comandando nell'ultimo periodo per nulla poi vabbè come anche prima ho sentito che per Cairo che non comanda più anche Cairo vale per la stessa cosa se Cairo vuole anche lui comanda perché i soldi li ha anche Cairo non li ha solo Elkan Agnelli non è una questione di soldi è di potere sono cose diverse soldi e potere sono cose diverse anche questo è come scusa Pele paragonare Cairo a Elkan è come paragonare New York a Mariana di Carrara anche la città non l'ho detto io non sto paragonando Cairo fermi un attimo fermi tutti fermi tutti fermi tutti un attimo fermi tutti un attimo fermi tutti un attimo sì dov'è non so dove la telecamera l'ubriacchetto mi permette di coordinarmi incredibile ottimo possiamo andare avanti a posto possiamo andare avanti prego prego continuate io mi giro la sigaretta adesso se vuoi fare anche tu prego comunque sono paragonato Cairo a Elkan per carità come come cos'è che hai detto a livello economico a livello economico non c'è farà appunto arriva il 98 non ti preoccupare Jacopo tutto in grifoide devo staccare arrivato da rimonto io ho capito ma il 98 tende sempre ad arrivare comunque io vi dico cosa ne penso però sembra però sembra strano ma domani mattina dobbiamo guadagnarmi il pane in qualche maniera quindi vi saluto tutti quanti è stato un piacerissimo essere qua soprattutto per Pepino e quindi sempre un piacere quando lo incontro e quindi un caro saluto è un peccato è un peccato perché questa frase volevo che rispondesse tipo marina ciao 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 Jacopo devo sfruttarti fino all'ultimo devo sfruttarti qualcosa devi dire qualcosa devo sfruttarti cioè nel senso a livello di cosa di qualcosa vediamo cosa è che non hai detto fammi un'interazione che non hai avuto con qualcuno che potevi avere non basta ho fatto tutta la puntata io poteva dire che Vagnati ha portato tanti giocatori buoni al Toro ad esempio una cosa che non l'ho sentito dire questa volta diciamo che l'interno è uno buono la percentuale è buona pure io se mi vendavo gli occhi uno lo portavo Darren ti dico soltanto questo così la chiudi bene Pellegri punta dell'Italia al Mondiale 2030 ciao ma il papà è assurda questa cosa di Pellegri in effetti è vero Pellegri assurda questa cosa di Jacopo su Pellegri totalmente in disaccordo siamo su Pellegri Giovanni ha sentito Giovanni ha sentito è proprio Pellegri Pellegri c'è l'ignola raga vabbè oh sono opinioni cosa io vi saluto sono opinioni che mi hanno fatto fare anche diverse interazioni quindi ottime e vi saluto tutti è stato veramente un piacere dare un organizzo poi una bella puntata che ci sia sia io che Stefano Ferrero che così ci divertiamo ciao tu e tu tu lo so no no non è vero anzi vorrei solo che salutassi Vitale caramente io Vitale lo posso salutare caramente mi chiedi troppo va bene ciao quando entrerà Andrea Vitale è un saluto anche a Briantoli che mi ha sostenuto per tutta la puntata salve a tutti ciao 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 che continuerà a scrivere le sue cose pro Pellegri a 324 esatto 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 allora commento no dovrete chiaramente poi votare tramite un sito che mi farà Tomino in questi giorni miglior puntata miglior ospite miglior scoperta eccetera eccetera deve anche entrare possa mai tra l'altro che non voglio dirvi cosa sta facendo ma dovrebbe dovrebbe entrare e poi giovedì prossima puntata con Catrina Buffanini e poi for due giovedì un confronto pazzesco vi dico un confronto pazzesco sì lo dico con Stefano Peduzzi pazzesco Monza News e Stefano Peduzzi saranno qua in confronto signori fra due puntate perché giovedì 25 aprile Pepino una Pepino cosa dovrebbe essere del Monza una squadra una squadra che non la classifica neanche andiamo un attimo avanti andiamo no come si permette come si permette come si sta permettendo in che senso come si permette ma è una domanda su via risponda a questa domanda io ho tanti difetti sono comunista dislessico omicida non sei una porno star questa è la battuta di Nei Simpson come era già di Nonno Simpson non mi ricordo ragazzi ma io parlo parlo fin troppo parlo fin troppo ma stai dicendo ma è che Zerubes bannato vediamo vediamo come si fa no vero blocco un utente momentaneamente vediamo no vaporello bannato bellissimo il potere il potere di Thanos scusate un secondo voglio fare una cosa no fermi un attimo voglio fare una cosa ragazzi lo sapete chi sono Thanos eh quindi appena voi sgarrate queste dita verranno schioccate schioccate fate attenzione e venite come pubblico pagante anche non pagante se volete metà giugno maggiori info nei prossimi giorni tra poco entrando in vitale re 98 fra di fazio pisto e dio dio cazzo volete siamo fino alle due di notte insieme loro petticoglioni iscrivetevi e mi sa che metterò metterò a pagamento qualcosa perché voglio che mi date anche dei soldi non perché li voglio io ma per toglierli a voi è giusto allora andiamo Daren scorda hai fatto il tuo spoglio io li ho ascoltati praticamente dall'inizio perché ero pronto alle nove e mezza te non mi hai cagliato e ci sono stati temi molto interessanti cavallo cose Cairo sì che erano voti il quattro omaggio ma sono entrato sono cazzato possiamo tornare siamo sbagliati no no allora io in provincia Pepino con tutto rispetto bene a ragione Stefano a ragione Stefano no no reaction reaction di Pepino reaction di Pepino su Milan Roma un minutino di reaction vai vai Pepino un minutino di reaction cazzo 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 è finita la partita è meno male come è andata Pepino un po' ha vinto la Roma 1 a 0 1 a 10 la Roma che è segnato Mancini ce l'ho al fantacalcio ma non mi serve bene grazie bella notizia come è andata Pepino un minuto di post partita come è stata è stata una partita comunque equilibrata sono state a momenti è andata meglio la Roma a momenti è andato meglio il Milan comunque è stata una bella partita ho visto buona parte della partita beh un ottimo un ottimo un ottimo post ok allora andiamo avanti andiamo avanti eccoci qua signori Pisto benvenuto Pisto buonasera Pisto buonasera ciao ho visto tutto incatra 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 frattito post attività onanistica messo lì pronto a ricordarsi la vita bella da Ryan per quello che ho sentito prima tra cavallo e Toro 24 se fossi stato lì alla vecchia maniera sincero perché come fai a dare sette alla gestione di un coglione di sto genere veramente buah come si chiama questo Pisto quanto mi hai Pisto io ho 25 anni sono del 99 capisco fammi vedere la maglia granata Pisto grande fammi vedere sotto la maglia granata capezzoli tra l'altro devo regalare la maglia Pisto ancora no no Pepino Pepino questo non lo puoi dire c'ho anche quella fermi tutti fermi tutti siamo arrivati al momento allora bagiellismo allora fermi un attimo allora voi sapete che bagiellismo è comunque andato agli onori delle cronache nel senso che è rivelato delle chat di Radonici vi ricordate tempo fa Radonici aveva praticamente detto delle cose a bagiellismo ci ha spiegato in una puntata come è entrato in contatto con Radonici e praticamente Radonici ha mandato un messaggio a bagiellismo che l'ha postato in una storia pubblica però poi in realtà si sono incazzati i giocatori del Toro fra cui bagiellismo non l'ha detto ma magari era un centrocampista titolare che non vuole dire chi adesso tu stai intanto attenzione perché c'è Libano Libano ti ho detto tu devi fare copia in colla come Stefano Ferrero ti ho detto copia in colla su Google adesso io scrivo comunque bagiellismo a che punto siamo arrivati con Radonici rivelazioni e quant'altro prego bagiellismo allora ci sono due cose da dire la prima è che molti avranno visto il posto di diretta calciomercato che ha riportato un'antizia di Schira che Radonici non verrà riscattato da Mallorca è triste è triste annunciarlo ma non è assolutamente così la sua lui ha detto in modo come dire con moltissime parole ovvero cinque lettere ha detto resto per dire rimarrò a Mallorca quindi questa cosa è molto triste per chi era pro Radonici ma probabilmente non lo rivedremo a te personalmente e quindi non lo rivedremo più con la maglia granata c'è un bricio di speranza perché lui è stato lo stesso che a novembre del 2023 aveva detto che era tutto falso il litigio con Juric eccetera quindi io non ci metterei la mano sul fuoco su quello che ha detto però per quello che ha detto lui dovrebbe rimanere a Maiore quindi questo ti ricordiamo direttamente a Baglismo Baglismo ormai è una cioè Baglismo di cui seguo il saltorocast sono anche una fonte di informazione questo punto perché lo sai solo tu sì sì e poi una cosa che ci teneva a far sapere perché ovviamente lui avendo i social ha letto quelle cose che sono state scritte su di lui che direi che molte non sono esattamente carine come che ha litigato con tutti quanti che vabbè non voglio evitare di ripetere quello che è stato detto perché è molto offensivo quindi vorrei fare soltanto il punto di quello che è successo tra agosto 2023 e il 31 gennaio 2024 che diciamo che è quello che si stavano chiedendo più o meno tutti allora prima di tutto la preparazione estiva anche a detta di Juric la preparazione estiva di Radunic è stata impeccabile uno dei migliori di sicuro al contrario di quasi tutti gli attaccanti che come è stato detto diverse volte hanno fatto malissimo lui a Pinzolo chi c'è stato lo può confermare io per dire ci sono stato era uno dei primi a presentarsi all'allenamento e uno degli ultimi ad andare quindi già lì si era capito che aveva fatto uno switch di mentalità però la squadra non girava e questo si è visto nelle prime partite di stagione si è visto contro il Cagliari e peggio nel modo peggiore è stato contro il Milan che abbiamo perso 4-1 purtroppo non se lo dimentica nessuno al termine di quella partita Juric ha rilasciato delle dichiarazioni molto pesanti nei confronti della squadra e al primo allenamento dopo il giorno di recupero che viene data alla squadra dopo ogni partita dopo al primo allenamento ha preso tutti i giocatori tutta la squadra l'ha chiusa nello spogliatoio e gli ha fatto un discorso un discorso molto pesante proprio a livello morale che ha fatto comunque fare uno switch mentale a tutta la squadra però diciamo che se l'è presa in modo molto molto forte con Radonich perché è stato accusato di essere troppo superficiale perché non so se vi ricordate durante la partita Radonich era l'unico giocatore che provava delle giocate che aveva un po' di grinta però sul 3-1 4-1 i colpi di tacco e l'era buona a Juric non hanno fatto piacere quindi Radonich ha capito questa cosa e diciamo adesso non vorrei esagerare ma per l'amore della maglia per dare una svolta alla sua carriera è andato contro i suoi principi che gli hanno fatto fare una carriera disastrosa per le qualità che ha e ha iniziato a giocare semplice giocare per la squadra continuare comunque a puntare l'uomo e a tentare di segnare però ha iniziato ad essere come ha detto Sabatini in un'intervista in quel periodo là a giocare per la squadra è stata comunque una una bella bella botta per il suo per il suo orgoglio infatti quando ha segnato contro il Genoa l'esultanza ce la ricordiamo tutti però da lì sembrava fosse cambiato qualcosa non so se vi ricordate poi aveva fatto ci siamo sì sì Libano ci siamo Libano saluta brucia la città la 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 Dio boicottare vorrei Torino 2006 senza il Torino brucia la città è uno schifo l'Atalanta 3 a 0 e noi aspettiamo nel 2052 porco Dio aspettiamo nel 2052 la con me le lezioni digitale lì facciamo ridere facciamo ridere è una vergogna è vergognoso è vergognoso gobi di merda devono crepare bastardi no 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 in senso chiaramente metaforico chiaramente Libano si esprime un po' Vito abbiamo esordito con la poesia di Vito Libano è anche lui un poeta però è un po' come fosse una poesia ma in una maniera molto tipo da da poeta maledetto quindi chiaramente quello che dice è qualcosa di assolutamente metaforico l'entrata questa entrata in quinta mi piace molto Libano ma perché io ho fatto la stessa puntata in cui appunto ti ho messo pure nella copertina quella di Empoli cos'è che è successo poi in dato bagieismo rimandi lì è successo cos'è che è successo l'ennesima no allora non solo l'altra volta non sono riuscito ad entrare in chat è successa l'ennesima l'ennesima di sfatta diciamo l'ennesima di sfatta che abbiamo preso gol all'ultimo minuto e adesso ci giochiamo questo derby che tanto sappiamo come entra finire cosa è successo a te che non sei riuscito a entrare allo stadio che tu mi hai detto che entravi allo stadio ma poi che cosa perché non sei perché praticamente non sono riuscito a fare il biglietto nel settore ospiti e poi senza tessera del tifo non la tessera del tifoso non la tessera noi siamo contro la tessera vecchio stampo vecchia maniera vecchio stampo vecchia maniera c'è stato Peppino che ci ha fatto una grande telecrona contro l'Empoli Peppino è super telecronista ragazzi Peppino è super telecronista comunque io vorrei solo dire che l'Atalanta ha vinto 3 a 0 contro il Liverpool io vorrei solo dire l'Atalanta che alla fine era una provinciale guardiamo adesso dove sta l'Atalanta ha vinto 3 a 0 contro il Liverpool e noi dove siamo noi cosa stiamo facendo cosa ne pensi di Posta Mai Libano come perdiamo 3 a 2 con l'Empoli c'è anche Tommaso Tommaso è il mio rete eh pensa a te pensa a te come siamo ridotti i che senti come siamo ridotti i Robaldo i Robaldo è un pantano i Robaldo è un pantano adesso il Giro d'Italia cosa facciamo le figurine dai siamo veramente ma poi sta maratona pure tu Libano tu Libano ti senti più ti senti più Libano un resistente Granata o un bronzelliano ma io guarda io prima che vuoi sentire il coro che avevo proposto ai ragazzi no prima te lo dico in diretta posso farlo in diretta il coro perché qua Libano mi aveva scritto sulle notte di Raffaella Carrà sulle notte di Raffaella Carrà aspetta Libano mi ha scritto in privato mi ha detto dare un coro nuovo per il toro che voglio appunto fare in diretta bello questo è bello questo è bello quello che tanto con sta cairese dove cazzo dobbiamo andare con sta cairese questo coro questo coro qua in anteprima ma l'Ede la persona di qualcuno no questo è un coro è un coro fatto proprio col cuore col cuore e allora Libano e allora Libano qua in diretta signori in diretta in anteprima in anteprima intanto è tornato anche Nick in anteprima il Torocast sentiamo il nuovo coro di Libano bello questo allora fa così fa sensazione unica la 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 oh sensazione magica la 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 voglia di stare insieme a te canto 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 e mi innamoro canto 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 solo per il toro canto 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 senza respiro e torale questo è un coro mi aspettavo una cosa molto più insultante è un coro super safe tranquillissimo è ancora tranquillissimo pensavo cose di bannare no io devo intervenire io devo intervenire io devo intervenire ho sentito una cazzata incredibile con l'Atalanta perché adesso veramente fermo Libano fermo Libano non se ne può più non se ne può più hai parlato di non se ne può più è una vergogna è vergognoso che l'Atalanta 3 a 0 al Liverpool e noi siamo ancora qua a parlare di cosa no no del decimo posto si poi mi sveglierò aspetta un momento che devo chiedere una cosa veloce per caso ho alzato la Coppa UEFA che serve sta vittoria se poi esce al turno successivo ma non alzano un cazzo ma non alzano un cazzo ma vai tranquillo vai tranquillo Libano ma cosa stai dicendo vai tranquillo non alzano un cazzo neanche quest'anno neanche quest'anno vincono un cazzo neanche quest'anno vincono un cazzo vai tranquillo vai tranquillo intanto loro se la giocano da anni sì ma per giocare no 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 basta con la mentalità per giocarsela uscire e allora io non voglio giocare uscire preferisco giocare uscire che fare l'ennesimo decimo posto di merda e adesso sabato di nuovo 1 a 0 al ultimo la solita solfa dai ma no ma lì da quello ti do ragione però però è molto è molto semplice come dice il buon Max è molto semplice nel senso su 100 derby giocati metti caso che sono tutti di campionato no però ce n'è 101 metti caso che sarà una finale di Coppa Italia proprio contro di loro io preferisco metto la firma col sangue vincere di sculata su calcio d'angolo 1 a 0 quello di Coppa Italia perché è quello che rimane nella storia il derby di Roma più importante della storia l'ha vinto la Lazio nel 2013 fine fine signori si mando oggi tu non è lì il punto d'oro Matteo io ti ho fatto l'esempio io ti ho fatto l'esempio io ti ho fatto l'esempio 3 a 0 con il Liverpool tu in Europa non ci vai nemmeno quindi io volevo sapere fermi volevo sapere di di parere sento troppe voci di te la 96 e di Matteo Possamai sul coro partendo la Possamai sul coro di Libra vai non l'ho sentito sto guardando la post partita e Rutto l'hai sentito Possamai questo l'ho sentito bene entra anche da fuori casa a questo punto entra anche da fuori casa Andrea ma non ero io Possamai un grande Possamai un grande uno di noi ma sai che a me mi hanno bannato pure su Granatoli non me lo faranno neanche più vedere su Youtube gli ho insultati a cavallo Roberto Cavallo minchia l'ho insultato dalla mattina alla sera proprio mi ha bannato proprio non mi fa neanche più vedere la tradizione c'era poco fa c'era poco fa qual è il problema l'ho insultato dalla mattina alla sera Roberto Cavallo proprio tutto il tempo minchia scrive le messaggi mi ha bannato mi ha sbagliato mi sento sotto casa fare Roberto Cavallo cioè così è fatto sotto casa sua quasi andato no non è possibile ci sarebbe però calma calma ragazzi calma 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 ma quali cori no non aizzi in maniera simpatica diciamo comunque andare non aizzi comunque ragazzi non si va da nessuna parte non si va da nessuna parte fin quando levami la Juve da Torino poi vediamo levami la Juve da Torino una scaletta come stai si la fanno tutto a posto rifai un accenno del coro perché voglio il parere di possa mai no io voglio allora il coro il coro è bellissimo sulle notte di Raffaella Carrà tutti belli in grinta tutta la curva chiaramente questo qua è il coro fatto dal Libano saluti e baci Roberto Cavallo uomo di ogni tanto ogni tanto questo è un grande questo è un grande sì però voi pensate una cosa sì voi pensate una cosa vai io Ferrero a un irlandese medio che ha votato questo qua che va al Parlamento a dire Juve Merda cioè ragazzi ma l'importante è che ha detto forzato Juve Merda sì ma perché ma perché ma è un grande è un grande è un grande di visibilità semplice la ragione Pistono quando dice che è importante che ha detto forzato si ragazzi la ragione Pistono non facciamo come la media perché ha subito fatto l'articolo Juve attaccata in Parlamento ma chi sa in fotte la Juve che è l'ultima cosa della frase l'importante è il toro la maglia del toro dice forzato chi cazzo c'è in fotte la Juve dai giusto giusto baciare la stessa a te sono d'accordo con voi Inter, Juve, Milan ma un pappo ancora se squadra comunque io quando guardo l'Atalanta mi viene un nervoso l'Inter, Juve volentieri mandale a fanculo il Milan si rispetta ma anche il Milan per me si è la maglia no no il mio studia la storia il Milan si rispetta ma sì sì ma lo so la storia 7 Champions quella 7 no no non solo il 7 Champions che io guarda che io nel 2003 io nel 2003 il Milan mi ha letteralmente salvato da una figura di merda epocale perché noi siamo falliti nel 2003 noi siamo fammi finire noi siamo falliti nel 2003 o giù di lì perché siamo retrocessi e nello stesso anno quelli là rischiavano di alzare la Coppa Campioni e grazie al Milan non l'hanno alzata chiedete scusa al Milan immediatamente Giovanni conduce un attimo tu che mi devo alzare un attimo e l'Inter era gemellata e l'Inter che dicono tanto e l'Inter che dicono tanto dei gobi uomo di merda vai a chiedere a Mauro Suma che viene sempre preso in giro vai a chiedere a Mauro Suma se non è vero grande possa mai possa mai uno di noi con la maglia dell'Inter poi porca puttana assolutamente niente bella 96 come finisce il derby secondo lui ma perché alla maglia dell'Inter quello lì pareggio porta rispetto porta rispetto pareggio no alla maglia dell'Inter no se metri là con la maglia dell'Inter proprio no non porto rispetto un cazzo vergogna vai da FB vai con FB a fare i video non so ne che sia FB figurati è meglio che non te lo dico che è meglio Pepino cosa hai detto Pepino vergogna possa mai con la maglia dell'Inter se lo dicevi fino mi cambio adesso mi cambio ma io quella del Foggia metti quella del Foggia no abusivi di Milano ha ragione Stefano Rossonero dovrebbe entrare adesso dovrebbe entrare adesso sono gli abusivi di Milano gli asteriscati di Milano ma perché continua a parlare ma stai zitto che ti vesti come da cartonato fai il bravo fai il bravo fighetto di merda fighetto di merda com'è che fai il pezzo tre anni di Juric tre anni che avevo ragione tre anni di che avevo ragione stai zitto stai zitto capisci tu difatti tu sei laureato cos'è che hai sei laureato a Coverciano partenza dal basso raccontamela un po' che il Dortmund ha preso un altro gol così due gol ne ha preso io ti voglio bene sì sì no io no io ho cambiato idea eh laureato ma lei è laureato no io lavoro nel calcio tu cosa fai lavoro nel calcio non farmi incazzare porca troia eh difatti lavoro nel calcio tutto spesato grazie al cazzo bella la vita così bello bella la vita così mi ascolto tutti bella la vita così credo che tutti ma poi un tifoso del Toro che si mette la maglia dell'Inter poi me lo devi ancora spiegare ma se tu poi vuoi ancora spieghi ma poi me lo spieghi ma poi me lo spieghi poi me lo spieghi io una maglia dell'Inter non me la metterei mai ma fai che cazzo vuoi non me ne fega niente quello che fai tu ti ho chiesto cosa fai porca troia e continua a dire ma io sono tranquillissimo questo urla fai sei tranquillo ma fai stai sereno mi viene ancora insegnare eh capisci tu ma lo possiamo togliere dai abbiamo un clamoroso un altro serato qualche penso di sapere la vita non penso di sapere la vita ma se mi ha insegnato mi direi che devi rompere le coglioni porca troia stai buono nel tuo e finisce lì eh meglio perché se no siamo purtroppo e continuo a dirle io allora fammi dire una cosa io amo i pareri tutti anche chi è contraria a me io imparo da tutti imparo da tutti perché c'è sempre il parere nella vita mi piace in ebrei contrarie eccetera eccetera tutto quanto ti apprezzo imparo mi fa piacere quando uno mi insegna mi critica apprezzo tutto però c'è porca troia uno viene da me e mi dice che non capisco un altro dove io domani mattina mi sveglio mi sveglio sono pagato per analizzare partite di calcio di tennis di basket di Monte Carlo e vieni a insegnarmi a me porca troia e allora no io non vado a insegnare a un avvocato no ma io non insegno nessuno ma io non ho mica detto questo vado a insegnare a un medico come si opera porca troia poi ho rispettato beh non parliamo di medici in questi anni perché lasciamo stare tutti possono parlare tutti possono parlare di tutto io sono per la libertà più tutta la democrazia parliamo di medici che hanno quasi accoppato uno un mio amico quindi lasciamo stare quello non devi parlare io rispetto le professioni perché vi fa comodo rispetto tutto porca troia per me tutti possono dire tutto ma se poi uno mi deve anche venire a insegnare a me porca troia vai quello arrabbiato eri tu io non ho detto niente ma io non ho detto nulla quello arrabbiato sei tu sei tutto agitato ma che arrabbiato guarda che agitato che sei ma io veramente sento minchiato ma è tutto posato lì possa mai tutto tranquillo sta nel chilling più totale possa mai guardalo lì guardalo come si l'unica cosa brutta è che è la maglia dell'Inter che mi viene un po' il vomito te la mando se vuoi no per carità ho già quella del Milan mandata da un mio amico milanista quindi va bene ho la vera maglia di Milano ho la vera maglia della vera squadra di Milano è libero tu a che parte sai della parte di Nico o della parte di Possamà in questo scontro che ti delineate ormai non ho sentito un po' allora non so da nessuno delle due dai mi astengo mi astengo mi astengo bastava chiedere se preferiva meglio il Milan o l'Inter cioè bastava quello ragazzi abbiamo abbiamo un uffu come cazzo si chiama stupendo allora la Bela 96 potremmo anche banalmente parlare del derby una prima cosa meno interessante a parte tutto no io scappo le le di le vostre paure Bela in quanto Juventino chiaramente di questo derby realisticamente esistono oppure sapete in cuor vostro nel profondo del vostro animo il derby finisce pareggio pareggio scritto il vostro animo sapete che tanto lo vincete sincero bene però qua siamo al toro Castel siamo al toro Castel siamo da altre parti se mi conosci sai che io sono sincero no scherzavo la verità guarda un po' di paura ce l'ho perché se la Juve gioca male sapete anche voi che la Juve fa schifo lo sapete anche voi fai una statua Massimiliano Allegri oddio si un attore più scarso che gli ha fatto fare due finali in meno di tre anni minchia scarso che anno era? che anno era? che anno era? 2015 che anno siamo? vabbè ma cosa vuol dire? che anno siamo? cioè stai criticando uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano come Mourinho io i primi 5 anni di Allegri lo apprezzavo tantissimo e i 5 scudetti i 2 finali di Champions tu quello che vuoi tu quello che vuoi adesso però il secondo ciclo si ma ho capito ma che squadra si ma che squadra si ma che squadra ma che squadra si ma che squadra cosa può fare cosa può fare con quella squadra ha una squadra ha una squadra nettamente ha una squadra nettamente superiore ad esempio quella del Milan ci stai parlato dai ha speso gli annulli Exor gli ha finanziato 900 milioni di euro tu 900 milioni di euro si ma girano con gatti rugani ma chi è sta gente? ma chi è che li ha voluti chi se li hai fatti comprare? ma c'hanno anche Chiesa Vlaovic ragazzi oh ma esatto chi è che prende Vlaovic? Vlaovic me lo immagino su Vlaovic però questo è più forte ma è certo che è più forte se lo fai giocare come sa giocare è forte ma se non lo sai far giocare a calcio è una merda ragazzi ma il problema io la penso esattamente come Matteo cioè questo per i primi il primo ciclo il primo ciclo nessuno saprebbe nessuno lo possiamo sapere qua dentro che criticano Mourinho gli ha fatto fare due finali ma prima dici che le tue hanno ragazzi ragazzi poi alzi il trofeo non l'ha alzato allora non vale più cioè Mourinho Mourinho alla Roma gliel'hanno rubata vabbè gliel'hanno rubata e allora è vero stiamo parlando di vittorie o non vittorie perché allora o parli di vittorie e allora non c'entra rubare non rubare oppure parli di fuffa e no perché devi mettere un metro un metro di giudizio uguale per tutti se no non va allora scusa faccio una terza domanda no 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 ma ti faccio una terza domanda voglio capire voglio capire voglio capire da dove è stato no no aspetta un momento allora allora noi hanno rubato di tutto avremmo vinto mille campionati e viva Cairo no no ma io non sono un pro Cairo forse non hai capito no ma scusa allora scusate Pioli visto che è tanto criticato dalla maggior parte dei tifosi del Milan cosa ne pensate di Pioli a me Pioli piace per dire sai cos'è il concetto che tu cioè del lavoro di Pioli a me piace tu l'allenatore lo reputi solo alla fine il concetto è che tu l'allenatore devi valutarlo che in alcuni no 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 guarda che Pioli io Pioli lo valuto dal 2019 da quando è arrivato fino ad adesso e proprio questo è il tuo errore proprio questo è il tuo errore che tu lo valuti dal 2019 ad oggi l'allenatore può fare bene un anno e fare male l'anno dopo esatto Luric può fare bene un anno e fare male l'anno dopo esatto sì ma Pioli ha risollevato il Milan dalla merda non so se ho capito ho capito ho capito ma se poi ma se poi uno non è più capace a lavorare con quella squadra perché sono cambiate delle situazioni ma no perché sono cambiate delle situazioni perché magari allora adesso io non dico che sia quella la variabile però Pioli da quando ha iniziato a far bene da quando gli hanno preso Ibraimovic che probabilmente non lo so secondo la mia opinione gli ha messo un po' a posto determinate situazioni a livello di spogliatoio a livello mentale eccetera eccetera è stato aiutato molto e poi gli ultimi anni di Pioli cosa sono e vabbè allora continuavo a giustificarlo perché ha fatto bene un anno no perché un anno gli ha fatto fare una semifinale di Champions anche di Francesco ragazzi anche di Francesco ha fatto una semifinale di Champions allora di Francesco è un grandissimo allenatore è una merda ti è andata di culo perché la squadra non è la sua era di Spalletti no era stata costruita da Spalletti perché prima di Francesco c'era Spalletti che io ho sempre adorato fin dal 2006 in avanti 2007 Spalletti la Juve non gioca a calcio questo mi sembra oggettivo per i giocatori di Calvi non gioca a calcio ma poi questa storia di Ibra al Milan che ha rimesso il po' a posto io cito Stefano Orsonero bisognerebbe essere veramente lì per capire perché è facile dire Stefano Orsonero è Dio Stefano Orsonero sa delle cose non è il classico youtuber del Milan no perché ste no semplicemente ste non è il classico youtuberino del Milan che dice cazzate molto semplice molto semplice ragazzi non più di cinque una volta se qualcuno mi sentite si si ti sentiamo Libano Libano ti sentiamo eh dico ti vedete voi il prossimo anno al posto di Juric sulla panchina del Toro Bisoli Bisoli a me piacerebbe tanto Gilardino a me piacerebbe tanto Gilardino del Geno però non viene però non viene no no perché a me piace come fa giocare il Geno è bravo Gil grande squadra però non viene però non viene a me piacerebbe però non viene solo che arriva i giocatori ma a Sarri non lo so a me conte beh beh conte anche a me conte anche a me conte anche a me Max ma volete un allenatore che effettivamente rientri nelle case ma volete un allenatore che effettivamente rientri nelle case societarie oppure posso sbagare esatto io te l'ho detto Gilardino 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 perché se posso sbagare se io posso sbagare ti dico Jurgen Klopp ma io ho detto Gila il Gilardino anche a me Gila piace sinceramente a me piace tantissimo perché è bravissimo è bravissimo a fare le due le due fasi è bravissimo anche perché sto facendo fare al Genoa un campionato migliore di quello che ci si aspettava sinceramente parlando ma in linea dai in linea se posso sbagarmi se posso andare al di fuori delle case societarie io voglio Jurgen Klopp beh però Matte Gila è bravo a fare le due sbaglio prego prego parliamo parliamo di cose serie secondo me Gilardino può essere un nome un altro è Palladino Palladino no per favore se guardiamo Palladino no per favore perché perché è gobbo però no no perché non mi piace no no non mi piace però guardi il gioco è un altro gasperniano ragazzi cioè se vogliamo dare un segno di continuità a quello che abbiamo fatto secondo me il nome più papabile è quello di Palladino che poi Palladino voglia venire al Toro questo è un altro discorso bravo se no guardate che in Italia non è facile trovare adesso si è liberato Sarri è una bell'idea secondo me però vorrebbe dire però 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 bravo pensate alla rosa che abbiamo oggi pensate alla rosa che potrebbe utilizzare Sarri vorrebbe dire cambiare tanto troppo secondo me uno che a me non dispiace perché l'ho seguito da quando faceva le nazionali giovanili ed è una persona a livello umano a livello umano che mi piace però mi piaceva a livello umano anche anche Giampaolo quindi è Vanoli Vanoli è vero è vero è vero è bravo anche lui sì bravo però esperienza zero in Serie A quindi è bravo è bravo siamo sicuri non lo so ma io il Venezia un po' l'ho visto non è male baglielismo tu cosa ne pensi baglielismo tu cosa ne pensi ah giocano bene però è vero Vanoli di esperienza in Serie A non ne ha per niente se vuoi puntare all'Europa non posso veramente e italiano non può bastare ragazzi non è che non può bastare perché il primo anno in cui Simone Inzaghi è stato gli è stata affidata la Lazio ha fatto bene cioè se uno è bravo secondo me però deve essere bravo ad aver preso l'allenatore bravo cioè non è semplice è quello il fatto va via Juric e oggi sul mercato italiano perché poi se andiamo all'estero io ho seguito Matteo Matteo possa mai ha fatto una bella roba si vede che ha seguito il calcio si vede che segue il calcio internazionale però secondo me hai fatto tutti i nomi di gente improponibile nel senso che no ho capito il tuo concetto però il discorso di base è che se tu vai a vedere chi arrivando dall'estero ha fatto bene nel campionato italiano zero ericsson forse negli anni 80 bosco finito però li stai parando su squadre delle prime sei stai parando su squadre delle prime sei che hanno anche qui no 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 Lazzaroni quando arrivò cioè anche adesso l'ultimo scusami mi sfugge il nome perché sono all'ottavo spritz quello che è arrivato al Genoa Blessing no quello che è arrivato al Genoa Blessing Blessing anche lui bravo molto molto bravo secondo me molto competente però è arrivato però sai cosa Stef lì devi salvarti e quindi hai dinamiche diverse il Toro invece è in una posizione di classifica come il Bologna ti permettersi di osare il Toro però Matte di quello è uno che ha fatto bene in quella fase cioè secondo me sarà arrivato adesso non mi viene in mente sono sincero però sarà arrivato qualcuno di quella fascia media arrivando dall'estero io ci ho pensato e non mi è venuto in mente nessuno che arrivando dall'estero ti banno di nuovo noi possiamo solo noi abbiamo un modo per arrivare in Europa e rischiare non abbiamo altre alternative sì però però rischi anche di andare in via cioè ma non è vero allora ah non è vero perché hai rischiato due volte di andare in via una volta hai rischiato di andare in via quando l'hanno prima renduto in via non avevi la squadra di oggi Sten non avevi la squadra di oggi Zapata Bellanova Scusi avevi una squadra che l'hanno avevi una squadra che l'hanno prima ha fatto 63 punti sì ma con dinamiche diverse dai con tanti giocatori che hanno formato in qualche modo in qualche modo poi ti salvi sempre perché comunque bene o male ti salvi sempre ecco perché ti dico non è così banale è la cosa ma non è così banale abbasserebbe abbasserebbe secondo me provino l'attore non va a gennaio cambi bene o male in qualche modo la quarta trovi 40 punze se tu continui a prendere giocatori cioè perdono allenatori che ti danno solo compattezza il fatto di giocare a uomo ti può portare fino a un certo punto non puoi fare la compattezza va bene in difesa va stra bene come fa Gilardino però bisogna essere bisogna anche essere no bisogna essere sia compatti difensivamente ma anche aggressivi Matte però stiamo parlando di gente gasperiniana perché Iuri c'è un gasperiniano che però evidentemente non è riuscito a capire e quando studiavano la fase offensiva Diofa era era al cesso cioè no perché è così ragazzi perché ha studiato bene la fase difensiva ma quell'offensiva è incapace è un completo incapace secondo me Palladino Palladino secondo me è meglio perché in questo momento se tu vuoi vedere chi ha davanti Palladino onestamente cioè tra Motta Carraio Colombo sono d'accordo la differenza è che Palladino è meno talebano di Iuri c'è sa adattarsi bravo bravo la partita ti cambia qualcosa bravo è più empatico quindi lì la differenza poi si è un tipo di timbro gasperiniano secondo me però il Toro deve staccare questa cosa della marcatura uomo perché la marcatura uomo ti può portare lì fino ottavo posto nono ti dà compattezza che non ti fa andare in bit ti fa fare 50 punti però l'Atalanta lo sta ma allora per lo step ci vorrebbe ci vorrebbe spalletti come spalletti all'Inter e Conte no ragazzi per fatto bravo bravo no ma hai detto in due parole tutto altri giocatori cioè un direttore sportivo competente no appunto perché il problema è nostro in questo momento ma io impazzisco ma Spalletti con l'Inter ma avete visto come cazzo con che cavolo di squadra era arrivato quarto cioè aveva una squadraccia l'Inter ma giocando con Mauro Riccardi Nick ma appunto aveva ragione Donato quel cesso di Riccardi ma prima mi dici che quarto non vale niente prima mi dici che quarto no io non ho mai detto che quarto non vale niente ho detto che guardate se vi ricordate l'Inter di Spalletti come con che Gentaglia è andato in centro con che Gentaglia è andato in centro scusami perdonami ma che Andarovic aveva oh ma aveva Eder Versalico Eder Versalico ma chi è sta gente la vittoria dell'Atalanta non conta perché non alzerà la coppa e poi mi dici eh ma se non alzi la coppa non conta un cazzo è così le competizioni sono così lo si vede sul lungo no è molto semplice no è molto semplice il campionato si vede sul lungo le coppe o le alzi o eviti ciao fine non è tanto ora la minestra la minestra non è da girare quindi il campionato si arrivi quarto del campionato va bene? dipende se la tua società richiede dipende la società cosa richiede l'Inter di Spalletti l'Inter di Spalletti non chiedeva l'Inter di Spalletti non chiedeva di vincere lo scudetto chiedeva di entrare in Champions chiedeva di entrare in Champions mi fai finire però le coppe non mi fate finire voi mi parlate sopra stai dicendo una cosa e poi gli dici il contrario se tu arrivi no sto continuando sulla linea di prima voi mi avete chiesto la società la società cosa vi chiede? e Spalletti cosa ha fatto all'Inter? se li ha portati in Champions quello che chiedeva la società fine bravissimo e l'Atalanta chiede a Gasperini di alzare una coppa? no e allora lui alza la coppa? allora perché tutta sta ipopea sull'Atalanta? io non ho capito ma stai che sta facendo tanta Roma ma ragazzi ma stai scherzando? quindi la Lazio di Inzaghi che alzava le coppe era deficiente perché tanto alzava solo le coppe vi interrompo perché abbiamo un'esclusiva incredibile abbiamo Pistono che ci farà vedere delle foto che non può farci vedere ma ce le farà vedere lo stesso intanto Bela quanto ti sta interessando in questa discussione sul futuro governatore del Toro? da 1 a 15 chiedo davvero scusa Bela che ho da fare il personale oh porco Dio se guardo il personale io ti ho fatti distrutto fermi fermi Bela tu no fermi tutti Nicolò Semeraro pavido pavido Semeraro intervieni sei il cazzo di coraggio ti mando il link che tu Semeraro sto cazzo dai ma ammazziamo Nicolò Semeraro intervieni Semeraro che voler i risultati signori vuol dire essere Juventini Semeraro intervieni Semeraro ti mando il link Semeraro ti mando il link già che ci siamo e abbiamo un povero Juventino qua in mezzo che mi sembra un po' fuori dalle ma tu sei un pro Allegri o ecco volevo chiedere prima bravo eh Bela contro direi ma io tipo la maglia della Juve è un tifo allenatore tifo la maglia poi chi c'è in panchina sicuramente conta anche quello però Peppino contrasta combatti Peppino combatti però sinceramente sono se devo dire la mia sono contro la legge perché il suo gioco secondo me rovina Blavic con questo gioco perché con un altro allenatore avrebbe fatto secondo me di più scusate fermi un attimo un saluto di Tommaso che deve andare fermi un attimo Tommaso deve salutarti ve lo faccio con un ultimo un altro paragone è il momento l'ultimo paragone del di questo Mara Torocast si può dire che Adam Masina per età e per impatto ha avuto in questo momento al Toro ricordi Emiliano Moretti quando arrivò al Toro bannato bannato in realtà pensavo fosse una cosa più però vabbè lo banno in maniera ilare in maniera ilare no torniamo un attimo sulla torniamo un attimo sulla questione torgo un attimo tutti guardate torgo tutti no tutti no perché abbiamo un Pepino versus Bela cattivissimo prego ragazzi confrontatevi lottate perché so che ce l'avete l'uno con l'altro no perché siamo tutti e due della Juve la stavo dicendo però su Allegri tu Pepino sei un palese pro Allegri no io non sono mai stato pro Allegri no Bela tu sei anti io sono anti mai ti fa la maglia poi eh infatti io anche chi c'è in pacchina va bene no ma insomma siete d'accordo vabbè tra di voi e allora via basta via no no allora via 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 tutte due via no voglio gente in disaccordo scusatemi se no chiudo tutto voglio gente in disaccordo se no chiudo tutto ok allora continuiamo andiamo avanti andiamo avanti con le novità di Pistono attenzione Pistono fotocompromettenti allora non so se posso dirla questa cosa però la dico lo stesso martedì ho avuto un colloquio di lavoro presso lo stadio del Toro no con la direzione marketing perché mi sono candidato come tecnico di ripresa video e robe così comunque durante il colloquio mi hanno portato a fare un giro dello stadio quindi ho visto la tribuna Grande Torino tutta quella roba dove c'è dentro dove vanno gli amici di Daraen quelli con Start Casino a poi il pezzo forte è quando sono andato nello skybox privato di del nostro benamato presidente Urbano Cairo e la cosa che mi ha impressionato è che lì dentro era pieno di foto di gigantografie che rappresentavano Cairo cioè non è che rappresentassero la maratona Pulici il grande Torino che ne so Lentini Mondonico ma teniamo per immagini tu che mi sei regista immagini foto compromettenti ho gli fans di no no non ho fatto foto perché non potevo con quelli però è una cosa che mi ha impressionato era pieno di foto sue solo sue su tutte le pareti non c'erano le foto che rappresentassero la nostra storia e quindi anche lì nuovamente chiedo come si fa dare sette a uno così però una rivista capitalista vogliamo le foto Pisto vogliamo le foto non c'erano le foto è solo la foto che ho mandato a te basta quella all'ingresso allora bannato bannato anche bannato anche anche Pisto ragazzi tra poco tra l'altro faremo un incredibile wufu lullu faremo un incredibile wufu lullu ci tengo a partecipare tutti quanti no bella comunque in questa puntata estremamente particolare tu perché io per esempio mi espongo adesso prima ero un attimo io praticamente sto colloquiando con le persone che devono entrare per questo che mi sto mi sto posso fare una domanda a Baismo voglio fare una domanda a Baismo vai vai allora io apprezzo molto come vi ho detto ha fatto un gran lavoro giornalistico una grande un grande inchiesta giornalistica sul caso Radonich le notizie che ha importato le domande che ha fatto questo l'ho anche detto ha fatto un bel lavoro gli faccio i complimenti e quant'altro lui ha una posizione totalmente pro Radonich che comunque piace quando in gas però vorrei fare una domanda a lui e a tutti i pro Radonich come mai secondo lui perché magari avendo parlato al giocatore ne sa più di me che appunto non ho parlato al giocatore come mai Radonich ha fallito ovunque andato perché è una risposta che io mi do cioè una domanda che io mi faccio perché poi analizzando la situazione dico ma di chi sono le colpe qualcosa so dentro eccetera eccetera ma è un altro discorso come non mi interessa come distribuisce le colpe 80 20 50 50 40 non mi interessa ma secondo lui secondo Baismo perché Radonich ha fallito ovunque andato allora credo ne sono abbastanza convinto che Radonich sia cosciente dei propri mezzi tecnici e che abbia un problema nel nel vedersi superato da altri perché si riconosce superiore e credo che sia giusto per le squadre in cui ha giocato ma come capita tutti i giocatori a volte underperformano e lui questa cosa cioè quando un giocatore gioca male fa panchina è quasi matematica ma nonostante ma lui non ha mai accettato questa cosa infatti se si va a guardare le sue esperienze a Marsiglia dopo un infortunio mi sembra flessore quando è tornato non ha giocato bene come ha fatto per l'anno e mezzo precedente e da lì praticamente ha smesso di giocare poi le dinamiche interne non le conosco al Benfica so che è stato voluto da un allenatore che è stato cacciato tipo due settimane dopo il suo arrivo e quello dopo non aveva un modulo che non lo comprendeva cioè in cui lui non poteva giocare perché diciamo che ecco quindi secondo te lui o parte il tolare oppure cioè o viene visto talmente l'allenatore o parte il tolare oppure dice non mi va non mi va di giocare cioè si arrabbia se vede altri davanti a lui e quindi svacca la stagione per intenderci è stato così per quasi tutta la sua carriera e stavo per arrivarci poi sono stato interrotto dall'intervento di Libano al Torino è successa una cosa completamente diversa ovvero quando lui si è messo in testa che doveva giocare per la squadra quando ha iniziato a fare le cose per bene la squadra giocava ancora male e Juric ha deciso comunque di caricarlo di colpe che secondo me e secondo credo tutti non aveva perché era l'unico che ci dava in campo e non so se hai seguito la prima parte di no no grazie a Dio no ma non per te non per te grazie a Dio comunque ti riascolto volentieri infatti ti ho rifatto la domanda apposta allora in questa stagione la squadra ha iniziato malissimo mentre Radolin ci ha fatto tutta la prima parte di stagione tutto il pre il prestagione a Pinzolo e al Philadelphia meglio di quasi tutti quanti tranne ma c'era Pinzolo ma io sono d'accordo ma sull'esperienza il mio discorso la mia domanda è sferato e ce n'era sull'esperienza al Toro che è una pezza particolare conosco di un'amica interna poi mi faccio una domanda e dico però si è fallito ovunque qualche colpa anche di un braccio capito nelle sue avventure precedenti è quasi sempre stato così perché alla fine è Marsiglia Benfica e direi che Roma e Empoli non vanno considerate perché era primavera un 18enne testa calda che non lo sa cioè uno che non so se tu hai letto le chat quelle di gennaio sì 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 sono andato recuperando le interviste sabatini dove lui pubblicamente dice esagerava con l'alcol eccetera eccetera e indubbiamente fai poi ripeto Radolin a me ha fatto godere a Toro Genoa che era allo stadio io ero a Salerno quindi mi ha fatto Toro Salernitana Salernitana Toro mi ha fatto godere quindi quando si accende è fortissimo però poi faccio anche dei pensieri al di là del Toro lasciate l'esperienza del Toro perché qua dentro tante cose non vanno io ne faccio un discorso generale sì no Radolin sicuramente ha dei problemi col comportamento nelle sue esperienze quelle quando era più giovane si sa l'ha detto Sabatini sono usciti diversi articoli sul suo non sapersi gestire anche con l'alcol poi c'è da capire quando ha smesso di farlo perché io ho letto gente che parlava di Radonich che fattava davanti al Filadette ubriaco Marcio alle tre di notte cosa che non è assolutamente vera per dire però io scusami volevo chiederti appunto sicuramente trovo molto interessante il tuo discorso che hai fatto prima che i tarotini hanno mancato però adesso che Matteo l'ha ripreso la mia domanda un po' è la stessa cioè perché tutto dove è andato questo qua ha la pena fallito e anche nell'analisi che fai tutti che dici per una volta che sembra che lo vogliamo significare i campioni escono come questo qua ragazzi per essere campione io gestisco una società di un altro sport ok facciamo ok su Prato lo facciamo ad altissimo livello nel nostro piccolo e la gestisco in toto quindi devo capire tutte le situazioni quando uno non è campione non è campione per essere campione per arrivare deve avere una certa qualità non devi sempre cercare ma io lì ero stavo dando l'allenatore non mi ha dato non deve essere sempre un allenatore che fa lo psicologo di tutti quanti c'hai 30 giocatori 25 giocatori ragazzi mei Radonici non è innesso si ma lo metti in campo stefano perdonami tu Radonici devi metterlo in campo secondo me Radonici un giocatore che io ho chiesto abaglismo te lo ricordi Marinelli io sono del 86 tu di che anno sei? 8 tu io sono un bro tu sei un matusa forse rispetto a me va cagare Marinelli chi ce lo ricorda qua dentro chi ce lo ricorda Marinelli io mi ricordo Marinelli era il suo fratello era il suo fratello e anche suo padre insieme si 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 biondo platino Marinelli era un altro giocatore che per tutta una serie di tifosi io lo adoravo perché io le giocate che ho visto fare a Marinelli raramente lo viste fare a qualcuno nella storia del calcio forse a pinga ma non scherziamo Marinelli era ora Stefano adesso non suggeriamo addirittura nella storia del calcio no tecnicamente Marinelli da un semplice punto di vista tecnico Marinelli è uno dei giocatori più forti che io abbia mai visto nella mia vita te lo giuro veramente da un semplice punto di vista tecnico ma la tecnica e basta Ballotelli è uno dei giocatori più forti che abbia mai visto da un punto di vista del calcio del calciare la palla calciare la palla come l'ho vista calciare a Ballotelli l'ho vista calciare a poche persone al mondo però poi il cervello è elemento essenziale per diventare sportivo di altissimo livello quindi Radonis non c'è punto basta ma stiamo parlando di un giocatore che abbiamo preso a 25 anni a 2 milioni di euro che abbiamo dato dove l'abbiamo dato una squadra di merda al mai orca che squadra c'è e non gioca manco lì 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 ma vabbè ma me ne prendo nato papà ho capito ma me ne prendo nato ma non sto due anni appresso io non sono un fratello non sono due anni appresso a uno che non è in grado di che si è il penino si stai parlando di Pellegri credo stai parlando di Pellegri stai parlando stai parlando di Pellegri Pellegri è un giocatore che ha mille problemi è esattamente come Radonich però però ma scusate ma quanto ci vuole ma scusate ma quanto ci vuole dire a signor Radonich tu dicevi a Radonich senti Radonich sei in testa di cazzo detto che però io voglio il bene del toro non lo faccio per te lo faccio per il toro tu vai in campo cacciando i giochi dal primo ultimo minuto e se non rendi mi incazzo però ti metto in campo non siamo all'oratorio dove l'ha partito un premio è un lavoro è un lavoro hai detto bene non siamo all'oratorio e lui non l'ha capito quindi io devi stare a perdere tempo devi stare a perdere tempo dietro a lui non ce lo voglia basta ma non è perdere tempo tu semplicemente lo metti in campo e lo fai giocare scusate mi dispiace per i ragazzi che Dagan ha allenato scusate 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 quanti Radonici ci sono ma vado a prendermi la ma vado a prendermi intanto rispondo un attimo a Stefano tu metti in campo Radonici io rispondo sai i ragazzi con l'allenato io praticamente allenavo in parrocchia delle persone dei ragazzi dei bambini all'epoca e grazie al mio metodo di allenamento e questo possono dire anche loro estremamente pragmatico abbiamo vinto con i genitori che inizialmente io avevo dei Radonici a livello giovanile in parrocchia in parrocchia radonici quello è il suo livello il suo livello è il suo livello è la parrocchia ma io praticamente ho preso quella parrocchia e l'ho rivoltata perché ho messo la mia mentalità assolutamente anticonformista e sono andato a dire la seguente cosa l'importante è che tu sei un bambino un ragazzino che se tu non sei giocare a calcio nella mia squadra non giochi perché stiamo parlando di giocare a calcio potenziale anche nella vita gli hai fatto male ci faccio pure fanno calcio insieme adesso è giusto che chiedono al risarcimento ci hanno 20 anni adesso questi uomini ci hanno 19 anni e questo è molto grave hai creato molto grave molto grave ho preso dei bambini e ho creato degli uomini quanti fanno serie A di quelli che hai detto molto grave di spartanio prego prego stefano daren quanti fanno serie A di quelli che hai preso alla play serie B serie C nessuno no 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 aspetta quello che ti sto dicendo no ma bravo allora se Radonich fosse venuto da te che avrebbe fatto vincere il campionato della PGS ok fortissimo nel campionato PGS magari avrebbe PGS scusa magari avrebbe magari avrebbe anche capito qualcosa avrebbe anche cresciuto umanamente ma la serie A non la può fare punto la serie A non la può fare quello il problema il problema per il Toro è un peccato è che io purtroppo non sono allenatore del Toro perché se io fosse allenatore del Toro ragazzi voi qua stareste godendo gli umani Segoni 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 sono Bogliazzi Pino Daccio Verero Baismo tutti quelli che ci hanno salutato con questa minchiata di dare non possiamo chiudere assolutamente la live No no la live più delle due non l'altro vogliamo in serie diretti No no la live più delle due e adesso no no passiamo passiamo ad Allegra con Dela 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 ascolta Dara Dica 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 Ti do di allenare una squadra di ok su Prato va bene è uno sport molto simile al calcio femminile femminile però femminile io seguo il femminile sono mica scemo io seguo il femminile del 18 in su sono mica scemo cioè sono scemo perché l'ho sposato a una però hai sposato a un okista eh purtroppo tutto okista hai il coraggio di accettare mi piacciono molto le sportive hai il coraggio di accettare viene a vedere una partita allora domenica prossima ragazzi parliamo di cose si fa ma sono vestiti sono pantaloncini corti cioè sono svestiti un po' sono tutte vestiti maglietta e gonnellino ti piace il gonnellino maglietta e gonnellino a che ora ci vediamo a che ora ci vediamo alle 15 settimana prossima domenica prossima non questa adesso giochiamo fuori casa ok prossima settimana contro Cagliari Corso Tazzoli 78 Torino ingresso gratuito sembra una pubblicità di quella del devo privato vi voglio tutti vi voglio tutti vai ad allenare io voglio ad allenare tu fai il furomai io quando allora ragazzi io quando ho allenato chiedete adesso ragazzi fare una puntata in cui inviterò inviterò i miei ex allievi giocatori tutti quanti non tutti quelli con cui sono in contatto e diranno sono dispiaciuto e diranno cosa ero io cosa quanto abbiamo vinto e tutto la prima domanda la prima domanda è quanto avete speso a testa dallo psicoterapeuta già li parliamo la seconda domanda è quanto vi ha pagato per essere qua tracciamo la prima Lilia va bene mi metto pure possa mai no ci dà capire una cosa a livello giovanile a livello giovanile vincere non conta niente primo step bravo bravo ma che cazzo adesso a livello giovanile vincere non conta niente zero 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 meno di zero prima cosa cosa cazzo vuol dire a conto zero cosa vuol dire a conto zero in che senso che non conta nulla che vincere a livello giovanile non conta nulla ma in che senso a livello giovanile la stagione se un allenatore è bravo o non a livello giovanile non si valuta non si valuta se uno vince la partita se perde la partita se vince il trofeo se non vince il trofeo è sempre quello contestato io non sono d'accordo ma non me ne frega un cazzo di essere valutato non è che non era per valutare me era per dire che io ho una mentalità molto pratica pragmatica se di fatto cresceranno questi ragazzi se di fatto cresceranno questi ragazzi questi ragazzi sono cresciuti perché intanto io praticamente questi ragazzi ho detto ma voi ma non me ne questi ragazzi non lo dico io perché così ma non puoi non essere d'accordo cioè lo dicono tutti i migliori del mondo coverciano eccetera eccetera è una cosa saputa i giocatori non in conta se tu vinci a livello giovanile tu puoi vincermi dieci trofei ma se dalla primavera non mi tieni fuori nessuno il più forte va a fare la serie B non hai costruito nulla hai capito? ne parliamo dopo perché ma io i miei scopi ma ragazzi un argomento ne parliamo un'altra volta ne parliamo dopo dicendo il 15 pulcini io non devo vincere devo farti crescere devo insegnare da saltare l'uomo sono cresciuto allora ma tu scusa tu Matteo tu sei un 98 quando io allenavo quando io ho allenato dal 2013 al 2019 quegli anni d'oro tu non eri quasi neanche nato tu non puoi parlare perché tu non c'eri lì sono cresciuti sono cresciuti a livello tecnico e a livello tattico sono diventati degli uomini ma il punto è se vincono se vincono perché sono cresciuti ho vinto l'obiettivo aspetta un attimo cosa è bellissimo buongiorno no è vincono perché sono cresciuti o crescono perché l'obiettivo era vincere e di conseguenza qualcosa di fatto ma scusi signor Marzullo ma perché lei sta sta streamando dal campo di bellissimo signor Marzullo ma la vita è un sogno o il sogno di vivere e la vita di chi sono e di poter vivere sognando di poter allenare e vincere nonostante possa mai non capisco che io tu lì non c'eri io lì ho insegnato la vita con la scusa del calcio così come adesso parlo della vita con la scusa del toro cioè io insegno vita io insegno cose universali io insegno il mio gesto e io insegno c'è un meme dei prossimi meme che usciranno è un meme ma se tu gli hai insegnato la vita hai fatto bellissimo ti faccio i complimenti se tu gli hai insegnato la vita non ci complimenti e di questo non c'è dubbio ma tu la prima fase di credito li ho fatti vincere li ho trasformati con i miei metodi che hai detto da sergente e quant'altro e questo è il problema che tu devi fargli crescere a livello di giocatori individuali gli devi insegnare il dopo passo gli devi insegnare a fare un passaggio teso quello gli devi insegnare ma porca merda Matteo ma porca merda ma se tu hai detto fatti vincere io praticamente avrò giocato 300 partite ne abbiamo vinte 289 perché io ragionavo mi preparavo gli allenamenti dal punto di vista tecnico tattico strategico da tutti i punti io passavo io veramente a un certo punto abbandonato perché ero fin troppo preso e di quanto è così ho detto no devo anche fare altre cose nella vita adesso la prima cosa che hai detto su 300 partite hai capito e questo è il problema che tu calcoli su quante ne hai vinte e non vale non conta niente a livello giovanita hai capito ma in che senso ma cosa me ne hai capito comunque è fantastico tu pensi che io avessi tutti dei radoni cioè dei fenomeni no io sapevo dare a ciascuna persona il suo ruolo perché io nella vita so dare i ruoli i ruoli in generale e di conseguenza io ho fatto crescere tecnicamente tatticamente strategicamente filosoficamente metaforicamente mi fa piacere e su questo ti faccio i complimenti e su questo ti faccio i complimenti umanamente sportivamente su questo ti faccio i complimenti ma tu non mi devi dire quanto ne hai vinte su 300 a me non interessa a me interessa come hai preso un ragazzo come hai preso il difensore cosa gli hai insegnato e dopo il tuo ciclo cosa hai imparato a fare in più ti mando la video lezione ti mando su WeTransfer dammi la tua mail quella è la cosa importante rispondi a una domanda quei giocatori lì che carriera hanno fatto? allora quei giocatori lì no rispondi no dai dai è una risposta la risposta è che secondo me stiamo parlando di due dimensioni io non sto dicendo io sono un figo perché ho fatto sì che queste persone passassero ti faccio un esempio ti faccio un esempio qual è l'ultimo scudetto giovanissimi cioè Ander 15 che il Toro ha vinto dai un po' di storia ragazzi qua siamo tutti a parlare di stronzate io non so nulla di queste cose l'ultimo scudetto l'ultimo scudetto Ander 15 che il Toro ha vinto nel 2000 con gli 85 con Giacomo Ferri in panchina di quei ragazzi lì chi ha fatto serie A? nessuno chi ha fatto serie B? nessuno bravo allora di che cazzo stiamo parlando? no ve lo dico io parliamo di mazzaventura allora qua mi sembra un discorso di Darren dove dice io mica gli ho insegnato tutto ho capito però poi se questi qua non hanno saputo portarlo al di fuori vuol dire che non gli hai insegnato cazzo va bene ragazzi avete ragione voi io l'ho invitato giusto Matteo giusto Matteo posso vai io voglio posso vai qua mi dai ragione sull'aspetto sono d'accordo ma poi il concetto è che il parametro tu l'hai insegnato a saltare l'uomo eccetera eccetera è questo che conta non quanto hai visto tu invece mi hai detto 300 e 290 tutto quello che tu dici la risposta è sì tu chiedimi qualcosa la risposta è sì 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 allora passiamo a Max Allegri perché bella 96 non può essere messo alla merca di Ferrero perfetto Max Allegri interrompo solo un attimo che devo andare da Ryan no pista voglio solo dire una cosa che tornando un attimino al discorso di prima che Radonich se fosse rimasto oltre fino a giugno ci avrebbe portato qualche punto in più almeno tre almeno dieci al contrario di Pellegri che è un morto che cammina parole forti parole piccanti parole di un Pisto che ci abbandona ma arriverà fra poco il signor Dio e faremo un mitico con chi vorrà rimanere fino a due notte grazie Pisto un saluto caro più ci sono domenica sentiamo per i Torscar Pisto mi raccomando ciao sentiamo per i Torscar hai un ruolo molto importante ciao ciao come si muta qua come si muta qua Bela96 io sono un pro allegriano tu Peppino in quanto Juventino tu sei un pro tu sei un che cazzo sei non mi ricordo voi siete pro o anti allegri ante anti allegri sono un pro allegri perché siete anti allegri enunciate 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 per il suo modo di giocare il suo modo di mettere i giocatori fuori ruolo esatto e il suo spirito che dà la squadra sì 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 sono d'accordo le cose più importanti sono queste poi se ti devo dire qualcos'altro ci penso te lo dico allora allegri comunque cioè il fatto che allegri riesca a vincere le partite nel momento in cui allegri vince una partita ma non la vinci giocando bene a voi va bene o no come cosa no io preferisco sempre un allenatore che vince comunque facendo anche un bel gioco esatto anche perché tu hai vinto tante partite per 1 a 0 avendo culo con questi occhiali infatti avendo culo perché l'hai ho vinto tanto culo quest'anno col Frosinone col Monza tantissime partite hai vinto alla fine se tu vinci sempre 1 a 0 la fortuna come l'hai avuto al gioco di ritorno un po' per merito e demerito si è visto al gioco di ritorno sì però io voglio coinvolgere tutti questa cosa adesso io mi saranno male però banalmente la colpa è di tutti la colpa è di tutti non è solo nel derby diventa il Barcellona nel 2011 esatto no ma dopo arrivo dopo Barcellona dei canterani diventa arrivo dopo comunque la colpa è di tutti non è solo da questo presupposto ma io sono proallegriano perché Allegri mi gasa perché è vero che vince e perde non è la migliore attore del mondo però voi cioè mi fate incazzare voi i gioventini mi fate incazzare nel momento in cui non vi sta bene esatto ha ragione grande Mike Zirobist di sbannato ma io ti ho bannato ma non so come è possibile che puoi ancora scrivere però a questo punto va bene mi fa incazzare voi i gioventini quando sostenete che bisogna anche giocare bene ma chi se ne frega io qua sono pragmatista nicchista cioè l'importante ma entra quando puoi mister ma se tu mi domandi preferisci un bel gioco o annoiarti e vinci 1-0 io ti dico preferisco vincere e comunque dominando le partite e giocando bene no aspetta è normale attenzione a me va bene lo stesso ah tu preferi a te tu preferisci vincere anche giocando male più che giocando male tanto arrivo a giocando bene senza vincere possa mai non sei mutato non so cosa stai facendo possa mai non so cosa stai facendo andrei qui siamo su due aspetti diversi prima si parlava il toro e c'erano dei discorsi che hai fatto anche con il cavallo su vincere o non vincere cosa è importante secondo me nella Juve l'importante è vincere ok credo sia palese questo quindi no non da tutte le parti perché a Sassuolo non può essere l'importante è vincere perché io detesto il tifoso dell'Ecco che per un anno riesce a fare Serie B e poi si lamenta che è ultimo in classifica grazie al cazzo non hai mai fatto Serie B in vita tua tra l'altro col foglio col foglio l'anno scorso infatti si rubarono abbastanza si rubarono la partita d'andata e anche quella di Vitor ma al di là di quello meritava il foglio palesemente ci sono situazioni ci sono squadre dove l'importante è obiettivamente l'incer per il tifoso dovrebbe essere anche il toro se il toro per il bene del toro dovreste sperare che lo fosse anche per il toro che lo sia anche per il toro ma il toro era vincente fino al 49 poi dal 49 ad oggi ha vinto uno scudetto quindi forse bisogna rivalutare determinate cose ma adesso sta parlando della Juve nella Juve secondo me è l'importante vincere quindi il discorso del cortobuso che fa Allegri è giusto però nel momento in cui poi non vinci allora ecco che subisci le critiche è normale fermi tutti fermi tutti fermi tutti Ismaele Bomen di Saltoris suo fratello oggi ha incontrato Vange fermi per caso gli ha detto che il portiere più scarso che il campionato italiano abbia mai visto a questo punto Ismaele Bomen di Saltoris no fermi io ti passo il link no io ti passo il link entra perché se n'è posto giusto per raccontare cosa è successo no 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 non è vero Ismaele Ismaele Fuggi fuggi da questo fuggi da questo prego prego non per le fogge ma per le fogge esatto non so mai è qua perché è pagato non so mai comunque è perché è pagato bonifico non sono arrivato ma siamo qua tutti perché siamo pagati io ragazzi vi saluto vi ho voluto bene ma il dovere mi chiama vi ringrazio vi ringrazio vi saluto il dovere ti chiami è questa l'estrata comunque può sa mai lei si perde dell'Uvufufu bellissimo non so chi rimarrà a farlo vedete se è un bellissimo non lo so vedete fra di fazio e forse un saluto di il 98 che mi ha scritto prima una cosa cosa mi ha scritto vediamo un attimo cosa mi ha scritto ma io ero venuto per Terranova no ragazzi Terranova mi ha scritto un lato di ospiti che non vengono no no beh questa è la base ha fatto per chiudere no beh Terranova mi ha scritto oggi Terranova che ha avuto una problematica no ha avuto veramente Terranova mi ha scritto oggi che ha avuto una problematica in carica se non so a dirla per il privacy però mi ha avuto una problematica poi se mi ha detto una cazzata non lo so mi permetto che ho avuto una problematica in casa di un certo tipo che non voglio dire e quindi per quanto riguarda Vitale mi ha tirato un mezzo pacco Vitale mi ha tirato un mezzo pacco lo ammetto c'era l'inizio ed è scomparso mille nomi dati a noi non tenuto Stefano Stefano Venneri c'è il link ma che mi hanno nomi dati ma allora dimmi i nomi che non sono entrati che 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 faccio Terranoma è Vitale si Terranoma ti ho detto Vitale minchia mi ha scritto vi faccio vedere le chat private di Vitale ragazzi vi faccio vedere le chat allora adesso c'è tranquillo ma ti crediamo io non sono uno che sta a dire cazzate non sono uno che sta a dire cazzate tutti i nomi che c'erano sono nomi che mi hanno detto che sarebbero intervenuti Vitale Ari 98 ma poi non c'è le sue cose ma ragazzi io non è commesso non scherziamo su queste cose io non mi c'è perché sarebbe un collione poi la gente torniamo da Allegri che poi io tra poco devo scappare non ci crede quindi andiamo poi dobbiamo finire di vedere il video di falso 9 dobbiamo finire di edattare il falso 9 Peppino tu che lo puoi rimanere non lo puoi rimanere no io raga ancora due minuti e poi esco anch'io non so con chi farò questo condiglio con Mr. Punto d'Oro vabbè forse sono io dai no tornando da Allegri secondo me nel momento in cui poi non vinci è ovvio che le critiche arrivano è ovvio che la gente inizia a dirti ma il Diz come che non gioca quando giocavo c'era bene è normale Vlaovic non fa gol perché 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 lo metti non in condizione di e le critiche arrivano per forza per forza di cose no cioè Bela sei d'accordo cioè ma è normale è normale chi vorrei però non mi hai risposto prima quando ti ho detto forse non ti è arrivata la domanda chi vuoi al posto d'Allegri visto che tu vuoi sognare Klopp a differenza nostra non mi era arrivata Zidane è il migliore Cepino Cepino quale? Zidane raga Zidane è un bel nome potrò dire una stronzata ma potrò dire una stronzata ma secondo me Zidane con una squadra così scarsa farebbe male anche lui secondo me rifiuta no? a parte che rifiuta però non la vuole non accetterebbe però le limitate di difesa probabilmente chi vorresti chi vorresti Bela comunque tra tutti i nomi che si sono fatti Palladino Conte Motta esatto Tiago Motta io diciamo non amo le minestre riscaldate non le amo però tra tutti questi vabbè anche Allegri stesso però se vuoi tornare a vincere in Italia insomma Conte è l'uomo giusto perché esperienza è vincente in Italia non ci si può dire nulla poi se vuoi vincere la Champions League Conte è l'uomo sbagliato perché Conte non non è uno che ti punta a vincere la Champions League cioè io direi Conte però potrei dire anche Tiago Motta però Tiago Motta ho paura che possa essere un palo in fronte però scusa tu come Juventino non dovresti avere ambizioni un po' superiore cioè non dovresti pensare veramente a voglio ambire all'Europa cazzo non solo all'Italia eh ma sono vent'anni che la Juve possa vincere la Champions League hai vinto 180 scudetti consecutivi se anche per due tra l'anno non l'hai vinto chissà ne frega cioè secondo me un chiuso della Juve dovrebbe pensare ad ambire in Europa quindi a volare la Champions secondo me Tiago Motta oggi Occhino Palladino è una roba ridicola per la Juve oggi no ma sono progetti che non puoi vincere subito con questi allenatori Palladino viene al Torre o no? Cioè Spalletti secondo me a me piacerebbe cioè Spalletti come va l'Europeo Spalletti la Juve sarebbe l'ideale Spalletti la Juve Peppino ma Peppino assoluto una cosa tu cosa ne pensi del nuovo allenatore del Cerignola chi è il nuovo allenatore del Cerignola Peppino? Allora il nuovo allenatore si chiama Giuseppe Raffaele un'ex potenza a mio parere sta facendo bene ma ragazzi il problema della squadra il problema è la squadra continuo a prendere gol ma che caro un po' c'è di noi il suo periodo ragazzi c'è la verità non sta facendo quello che ha fatto l'anno scorso perché secondo te perché non lo so secondo me si è spezzato qualcosa rispetto all'anno scorso sì che c'erano c'erano il allenatore il mitico Tascone ma Tascone rende? in questo momento sì con il nuovo allenatore sì ti vorrebbe Capomaggio vero? Capomaggio gioca titolare adesso è infortunato infatti si è sentito contro contro il Picerno abbiamo perso secondo me contro uno dei Picerni più scarsi secondo me possiamo dire Peppino senza esagerare che è uno dei Picerni più scarsi degli ultimi 15 anni no vabbè rispetto all'anno scorso io volevo ok Peppino ma per il Cerignola vincere è l'unica cosa che conta eh non è proprio sì ci sta vaffanculo Peppino ma che cazzo ma la Cerignola Nicola Maticola è nata Cerignola ma dai Cerignola io voglio ma il Cerignolo è in C io voglio un Cerignolo ragazzi guarda che se il Cerignolo viene in A e c'è Torino Cerignola io un bel giro nel sette euro ospiti non lo so io potrei anche generare in una parte del Toro 4 tifosi del Cerignola che si lamentano perché vado in Serie B e al peroputi che c'è su queste robe che non hanno senso ma Cerignola adesso dove metà classifica è undicesimo attualmente ma tipo deve arrivare ottavo come funziona chi è che viene promossa dalla seconda alla decima sono i playoff la minchia e allora è la seconda alla decima sì è una roba fortuna scusate posso fare una domanda che non ti tratta è per evitare in teoria che si venda le partite in teoria baglielismo vada in teoria uno ha sempre conosciuto a giocarsi ho una domanda per Stefano scusate pensiamo di aver fatto una cosa baglielismo prego ho una domanda per Stefano ecco allora tu facevi il telecomista torino-oceano giusto ecco io ho una domanda che ho dentro da tipo due anni perché tre almeno tre non mi ricordo perché linetti perché si chiama linette ok basta cantiamola perché i telecomisti italiani sono ignoranti perché se andate su forgo così fatevi una cultura andate a sentire come si pronuncia linette in polacco allora io ho un problema io vado da quando sono bambino in Francia adesso vi racconto questa e io mi chiamo Ferrero e tutti mi chiamano Ferrerò e sta roba mi dà fastidio da quando sono bambino per cui io da quando faccio il telecomista ho una mania folle sui cognomi sui nomi per cui studio il triplo di quello che fanno i miei colleghi tutti i miei colleghi quando c'è stato a partire con il depreccio sono venuti Bergomi e Caressa da me a chiedermi come si pronunciassero i nomi che io ho studiato un po' per i fatti miei un po' chiamando Marco Rossi ok allena cioè io sono un professionista serio non sembra perché sono un minchione nella vita di tutti i giorni però quando faccio il mio lavoro sono un professionista serio motivo per cui mi dà fastidio che oggi la mia professione la mia professione di telecomunista giornalista c'è di gasminuit chiunque lo possa fare perché ci vuole professionismo Linetti si pronuncia Linette te ok è una pronuncia un po' particolare perché poi dovete che ogni lingua a volte è difficile per noi con le pronunce che abbiamo riuscire a pronunciare correttamente le parole nelle lingue straniere ma la pronuncia corretta di Linetti è Linette te proprio come fosse Linette trattino te non è Linette te esattamente non è te ma è te come che è difficile pronunciare come Kier non è Kier è Ker che è Simon Kerr se sentite le mie telecroniche era stato Simon Kerr ma Linetti questa cosa la sa? certo ne ho parlato più volte ci siamo messi a ridere tante volte su sta roba e ai tempi chiesi anche alla società di far fare un video a Carol dove diceva come si pronunciava la roba ma la società è una paura perché sai mi chiesero anche di pronunciarlo Linetti poi da adesso pronunciarlo Linetti ho detto no io pronuncio come si pronuncia mi dà fastidio cioè se no è come dire ho sbagliato fino oggi io non ho sbagliato sbagliano gli altri dire Linetti sarebbe come dire ho sbagliato fino oggi non ho sbagliato io continuano a sbagliare Caressa e tutti gli altri che lo pronuncio in un modo errato Caressa adesso devo scriverli per venire qua devo scriverli a Caressa però la pronuncia ma vi ripeto andate su Forvo che è uno dei Forvo Forvo.com e trovate quando volete sentire delle pronunce solitamente a volte sbagliano anche lì però trovate le pronunce più corrette di questo sito se mettete Carol Linetti sentirete questa pronuncia che Carol Linetti è Linetti Linetti allora Pepino grazie mille avevo questo prima o poi magari perché sembro sempre io il cretino però purtroppo a volte è così la vita sembri un cretino quando poi si studia ti rendi conto che magari quelli che sembrano i fenomeni non ha studiato mi sento sottofondo ma è giusto che dire le cose corrette no no perché siccome più volte tra amici magari per un privato uno mi chiede mi fa questa roba di Linetti è rinomato a rinomato a rinomato a rinomato questa cosa era diventata popolarissima adesso che ho occasione di chiederti e approfittare no no ragazzi è giusto spero che almeno poi passi il messaggio che poi uno senti tutti i loro vicesi che sono strommer non è strommer alci un po' l'audio perché sempre ti senti bassissimo ti senti senti meglio così scusate stromberg no quello dell'Atalanta strombari se vogliamo la pronuncia giusta strombari strombari tipo pugliese sembra perché esatto perché il berg il berg tutti i berg sono bari e quello cioè ragazzi a volte le pronunce sono strane perché poi in ogni paese io ci tengo a pronunciare un nome cognome ci tengo che il nome e cognome siano esattamente come come sono nella propria lingua madre giusto giusto io quando sento le te io ripeto spesso in Francia sentire il passaggio del Piero a tutti che fastidio da fastidio è vero è vero anche io sono d'accordo i nomi da un fastidio in Francia sempre perché io vado sempre Schumacher era Schumacher ma che cazzo era Schumacher ma dove te lo sei sognato capito a me dava un fastidio incredibile per cui studiavo tantissimo le pronunce e a volte rischiando di sembrare un cretino però ero sereno perché le mie erano giuste ma infatti a proposito abbiamo uno che è qui un telecronista che era famoso per non riuscire però a pronunciare una parola ricordo che si possono effettuare 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 abbiamo un problema si possono effettuare creare cinque sostituzioni quindi diciamo che si possono effettuare cinque sostituzioni abbiamo un problema con le cuffie adesso tutto regolare tutto regolare chiedo scusa quindi cinque le sostituzioni che possono effettuare effettuare due è una roba straordinaria no comunque ti dico le figure di merda che ho rischiato io perché sarebbe effettuare straordinario effettuare 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 tra l'altro Fiorentina TV sempre Forza Juve ci sta ci sta da Fiorentina TV sempre Forza Juve questo è il commento sono scritto e però ci sta perché vuoi su questo canale è un mio volo perché non so se è una frecciatina non so io sono cioè magari mi conoscono diciamo e io lo sanno io sono anti Fiorentina mi spiace per Stefano Cecchi che tra l'altro gli ho chiesto di partecipare oggi non poteva ma verrà le prossime volte Stefano Cecchi spero che non vede mai queste parti allora Peppino per favore in facci veramente un pitch nel senso una promozione del tuo canale ma seriamente promuovi il tuo canale per fare in modo che si servono più gente possibile ah raga il mio canale parla un po' di tutto generalmente tema sportivo quindi calcio MotoGP Formula 1 ma si parla un po' di tutto anche soprattutto i vari format che ho portato dialetti che andrà a breve e poi ho fatto le città della Puglia della Basilicata quindi raga iscrivetevi al canale adesso porteremo anche altre cose iscrivetevi numerosi va bene ragazzi intanto poi adesso iniziamo no no cosa vuol dire ho fatto le città della Puglia e della Basilicata ho fatto le città tipo Termoli Foggia ho parlato a livello storico e geografico dove sono posizionati bello bello grazie e io adoro i tuoi progetti futuri i tuoi progetti futuri vediamo il format sui dialetti adesso dovrebbe andare quello lo attendo ma poi anche il super progetto dell'estate Pepino che io attendo tantissimo anche lì eh ma quello è un po' accantonato eh no eh sì no comunque la canzone Pepino non melodico Pepino cantante non melodico sì è quello progetto a te a te non erano arrivate voci eh no no ma io sono ragazzi io veramente in hype totale ero adesso adesso vediamo ci stiamo lavorando dai lavorateci per favore Pepino cioè dai non è che qua possiamo aspettare questa cosa cioè io veramente io non so se io veramente voglio voglio lo voglio no questo allora ragazzi eh ragazzi io vi devo salutare vi devo salutare perché domani saluto a tutti io anche raga oh giusto ragazzi non ci ha raccontato la fine di Radolic vai 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 è successo non mi ricordo a che punto ero a che punto ero che avevano trovato fuori perché era vero no era arrivato che lo avevano fatto giocare semplice lui giocava semplice ma e poi ci siamo interrotti ah si aveva alla fine aveva si era messo in testa che doveva giocare per la squadra stava iniziando a farlo Juric continuava a sostituirlo e alla fine dopo la terza sostituzione di fila che mi sembra sì in Torino Perona Radolic ha bottato si è visto anche dalla situazione quando è arrivato in panchina che ha lanciato la bottiglietta e poi in allenamento ha parlato in maniera diciamo agitata con Juric non ha più visto il campo e a un certo punto ha smesso di ascoltarlo e gli allenamenti l'ha scritto con i testuali parole non penso che resterò perché Juric è invidioso di me perché non lo ascolto non lo ascolto mai e tu giustifici questa roba scusa poi ti lascio andare a dormire però tu giustifici questa roba io non giustifico è un comportamento da non professionista io non ho mai detto se Radonici avesse la testa da campione sarebbe non di più sarebbe un campione perché i colpi ce li ha esatto ce li ha in una squadra come Torino un giocatore che ti regalano queste qualità secondo me visto che non puoi pensare di panchinare un giocatore con le solidarietà perché è un troppo per me secondo me finché gioca in modo serio perché lo stava facendo perché c'è poco da fare in quel periodo in cui la giocata era l'unica che ci dava per me ha giocato bene le prime tre parti però perché al Mallorca non c'è più il Mallorca è la squadraccia perché l'ha venuto la squadra sono enormi da ah beh perché sono sotto un po' dietro se trovo di bassissimo però sono sotto dietro così mi sento bene attaccato così mi sento un po' mi è staccato perché aspetta che sta ancora in parte tutto un ufo uno strano uno strano riverbero mi senti mi senti mi senti meglio sì 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 sto provando no secondo me sono tutte giustificazioni di chi non è un campione perché è andato al Mallorca che è un'altra squadraccia che avrebbe bisogno di lui e anche lì non gioca quindi ragazzi ma i giocatori i giocatori così ma io ne ho visti un milione purtroppo è inutile che cerchiamo giustificazioni per essere giocatore di calcio la prima cosa è la testa la prima la prima guarda un giocatore come Gatti un giocatore come Buongiorno Buongiorno non ha le qualità che hanno tanti altri difensori però un ragazzo di una serietà che voi veramente quello che si scrive si dice non arriva neanche a un decimo di quello che è effettivamente io che l'ho visto crescere da ragazzino conosco la famiglia e tutto è quello che fa la differenza è quello che fa la differenza in tutti gli sport poi devi avere anche qualità anche se abbini le due cose allora sei un fenomeno però le devi abbinare solo la qualità tecnica in nessuno sport ti dà la possibilità di essere un fenomeno purtroppo un po' per fortuna abbiamo qua un UFUVU pazzesco non siamo questo UFUVU per fecerli sembra che siamo tutti insieme dai iniziamolo io l'ho fatto iniziamo sono meglio gli autoreggenti allora sono meglio sono meglio chi votiamo gli autoreggenti o UFUFU stesso autoreggenti vai autoreggenti mi piace per UFUFU poi ciao a tutti buon proseguimento ciao ciao le dinomiti o la cazzuola ciao votiamo le dolomiti o lo strumento cazzuola io le dolomiti dai la cazzuola che cazzuola te ne fai la cazzuola è utile raga comunque è utile è uno strumento utile la cazzuola la sostituisce le dolomiti dopo questa cosa l'hai raccomentata votate il de facto del conoscitore italiano il de facto il mitico personaggio è stato l'ospite qua il mouse guardate che il mouse è un elemento importantissimo mouse mouse io voto il conoscitore tu vogliazi Giovanni che voti io voto il conoscitore tu Peppino conoscitore siamo due pari tutto nelle mani di Bela come? mouse Bela lei non sarà mai più invitata grande Bela anche se sei gobo o sei grande Ridley Scott o il festival di Sanremo Ridley Scott il festival di Sanremo tutta la vita dai così l'avete abbandonato io un bacio io l'ho fatto Peppino beh ragazzi Peppino il pony come non ti assieni giusto allora la mia la mia di trebbia oppure quel gelato buonissimo forse tu Stefano devi guardare il ciao eh certo il ciao io che sono vecchio voto il ciao anch'io tu tu Peppino cosa voti? tu Peppino sei del minchia del 90 tu Peppino tu vogliati siete se sai grazie ragazzi voto il ciao Peppino ciao 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 e non l'avete e non l'avete mai assaggiato il mio l'anno 1999 o la trasmissione Orgoglio Granata il 99 tutta la vita 99 minchia lo voto io ma c'eravate due anni che cazzo votate il 99 votate Orgoglio Granata voi che potete io voto il 99 mi piace per Cavallo e per tutti gli altri ok votate la Tauro Machia o Urbano Cairo questa è buona la Tauro Machia Tauro Machia la Tauro Machia che diceva la Tauro Machia era Fabio De Luigi la Tauro Machia la mitica Tauro Machia effettivamente vabbè allora io voto Urbano Cairo tanto perde comunque però almeno faccio bella figura Cairo voti comunque Urbano Cairo intanto così allora non sto più riuscendo a fare nulla perché mi ha messo la visione intera non riesco più a uscire dalla visione intera è un casino questo mi sentite? sì ho schiacciato qualcosa e non riesco più a uscire incredibile cioè non riesco più neanche a è incredibile questa cosa ah no F11 F11 dai è incredibile non riesco più andare avanti perché non mi fa uscire esci ah ma come è così questa cosa ma voi mi vedete? sì purtroppo sì vediamo sì 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 scusate veramente non mi piace sono in un ah eccoci qua a posto a posto a posto ok continuiamo con l'UVFU continuiamo con l'UVFU allora quindi votiamo dai io voto ma la Tauro Machia è comunque una cosa brucia no non posso votare Cairo io però scusate votate la Tauro Machia così io posso votare Cairo come quando come quando ci stava a Milan Juve che mio padre diceva a me il Milan sta sul cazzo perché mi sto sui coglioni Berlusconi ma non ce la faccio a tifare Juve quindi chi votiamo raga? io voto Cairo la Tauro Machia tutta la vita ma cos'è già la Tauro Machia? no la Tauro Machia ecco esatto però guarda che ragazzi ma guarda che questo confronto è bellissimo perché la Tauro Machia è una cosa contro il Toro forse ma cos'è la Tauro Machia? la Tauro Machia si dice forse no Tauro scusate Tauro Machia che cazzo è vediamo un attimo combattimento contro Tori no combattimento anche in chat ragazzi siete in 140 1400 non 14 comunque diteci in chat se volete votare per portare avanti preferite la Tauro Machia o Urbano Cairo questo è fondamentale questo è fondamentale non lo so tu Bela beh a me la Tauro Machia quindi tu allora Giovanni Tauro Machia Bela Tauro Machia Stefano hai detto Cairo 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 a mano in cuore Cairo cazzo siamo già pari ho voluto la Tauro Machia ecco mi spiace le orme che lasciano un segno sulla sabbia Giovanni Vogliazzi 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 però le orme che lasciano sono poetiche Vito avrebbe votato Vogliazzi Vogliazzi Love me Adoratemi il tavolo Stefano Peduzzi beh ragazzi qua è facile tavolo Stefano Peduzzi verrà in puntata il teteto di Platone o Andrea Di Pre beh ragazzi Andrea Di Pre Andrea Di Pre tutta la vita ragazzi non c'è non c'è paragone saltare con la corda o il bar saltare con la corda effettua effettuerà effettua saltare con la corda perché al ballo caraibico ti trovi solo le vecchie no no ragazzi Pepino Udaci è un ballerino caraibico no no fermi fermi Pepino Udaci è un ballerino caraibico dai davvero allora saltare con la corda Pepino Udaci è un ballerino caraibico dai Pepino tu cosa vuoi? non rispondi Pepino niente ballo caraibico Pepino Udaci ovviamente ballerino caraibico no io voto ballare ballo caraibico ragazzi tu Bela con la corda no io ballo caraibico Pepino ballo caraibico saltare con la corda vogliazzi decidi tu corda no aspetta Stefano cosa vuoi? la corda tutta la vita mi fa fare la votazione perché non mi piace il risultato incredibile guarda grazie one o tre seghe? one 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 tre seghe tre seghe I wanna be forever allora il club dei lettori a Perugia che si chiama Blackwater che avevo visto oggi la torre oppure la Gioconda Gioconda è nostra è nostra vogliamo la Gioconda tu Bela cosa voti? Gioconda Pepino Gioconda ormai ragazzi ha vinto la Gioconda la vasca piena di birra o la masturbazione? la masturbazione posso votare tutte e due bellissimo non mi posso rubare è tipo una roba che hanno fatto tipo nel cioè un ritrovamento storico la masturbazione è tanto bello questo accoppiamento anche perché una vasca piena di birra è tutta sporca è tutta sporca la birra è la masturbazione io voglio una masturbazione prescindere tu Bela più di una masturbazione però provo a scappare una di birra tanta roba Stefano perché ti ho detto io sono in difficoltà qua Giovanni sono in difficoltà dammi la birra ho forse vado alla birra io ho forse si può fare un misto fra i due un misto fra i due bruttissimo un misto fra i due Giovanni un misto fra i due no datemi una bottiglia di birra io sono contento allora aspetta io voto la masturbazione Pepino la masturbazione io birra 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 decidi tutto tu eh birra birra mi avete eliminato la masturbazione che è una roba ottima minchia il primo round incredibile ragazzi incredibile il subuteo subuteo non guardo neanche cosa ci sia dall'altra parte subuteo subuteo però c'è calcio tanta roba subuteo subuteo bellissimo veramente intanto attenzione perché a Torino stanno facendo i fuochi d'artificio vuol dire che c'è la ganja o peggio forse la roba però di notte potrebbero anche essere potrebbero anche essere fuochi d'artificio veri ti ricordo no ragazzi no ragazzi miei tutte le sere c'è fuochi d'artificio per creare la ganja infatti devo un attimo andare scusate devo un attimo andare a prendere una One o le Dolomiti One no io tra l'altro io tra l'altro io sono pro solletico io non guardavo One io guardavo solletico io guardavo sollecito allora Raffaele ma tu Pino conosci io comunque ero bimbu bam non solletico ah no io solletico Peppino tu conosci le Dolomiti conosci One vabbè le Dolomiti si One no ok perfetto chi voti One di che anno sei Peppino 97 porca puttana anche Giovanni voi non conoscete chi votate quindi io voterò vorrei soltanto far notare una cosa le Dolomiti non sono mai state rapite One si One è stata rapita One è stato rapito e allora sì sì ma io pure ti votano le Dolomiti io sono tu che anno sei Bella voto One solo perché ne è uscito 96 tu Bella 96 sei del 96 bella lì incredibile quindi votiamo le Dolomiti vai no perché poi mi sta solo e no perché ragazzi sono pro solletico queste dure no vabbè gli autoregenti o il tavolo autoregenti autoregenti ma scusate io ne ho messi 5 miliardi di più perché siamo già io ne ho messi 5 mila di cose ma incredibile è abbastanza folkloristica già così come cosa no ma il mouse o Ridley Scott allora signori Ridley Scott non me lo potete toccare ma in nessun modo possibile immaginabile io a qualunque cosa dirò sempre Ridley Scott il mouse io con tutto rispetto per io voto Ridley Scott solo per rompere i coglioni Giuseppe tu papino chi voti? Giovanni come Giovanni scusa Giovanni tu papino chi voti? è l'una e mezza non è che tu papino conosci i Ridley Scott cioè conosci i Ridley Scott Alien hai visto Alien? si più o meno hai visto Blade Runner come più o meno cosa come più o meno? più o meno non è che guardo questi film allora fermi il pic della cinematografia horror adesso vogliamo sapere che film guarda Pepino esatto vai che film guarda Pepino beh non lo so ragazzi roba italiane generalmente quindi va bene ti discuti italiano Alieno ha fatto fotografia ma Alieno Alieno l'hai visto? Alieno 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 dell'80 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 ma quello sì sì l'ho visto va bene andiamo avanti andiamo avanti quindi per dai no ma ragazzi ma lì ti discuti ma no tu Pepino mi devi promettere mi devi promettere che tu prima della prossima puntata ti guardi allora fermi Pepino tu mi prometti che nella prossima puntata ci prometti che tu prima del tuo prossimo intervento della prossima puntata guarderai Alien ma facciamo Alien e Alien e Aliens pure il dopo no Alien primo dell'82 no dell'82 è Blade Runner è 79 Alien che cazzo dico Aliens fa testate con il primo Alien per capire chi è il più bello 79 ma in che senso Alien no no in che senso ma vabbè Alien ragazzi Alien Alien e Alien come si chiama la tipa l'attrice mitica Sigourney Weaver Sigourney Weaver esatto ma Alien 1 tutto con l'oxenomorfo tutto il buio sì ma il 2 quello di James Cameron dai no ma ragazzi no comunque Alien è derivativo dall'1 ma no e poi e poi gli Alien si fermano a quei 2 poi basta sì poi c'è c'è quell'altro Alien assurdo dove ci sono tutti i tipi no ecco per esempio Covenant invece tanta roba ma mi è piaciuto no e poi anche quello prima ma mi era piaciuto no Prometheus è una roba assurda no ma per l'amore del signore Prometheus se non ci mettevano la nave se non ci mettevano la nave di Alien era uguale no 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 Prometheus è pazzesco Prometheus è bellissimo la scena finale Prometheus se lo prendi come Pickle di Alien fa cagare alla merda no se lo prendi come film a sestante ok ma come Pickle di Alien fa cagare alla merda andiamo avanti poi di questo ne parleremo con Frusciante nelle prossime puntate quindi allora io voto per Ridley Scott Peppino voti per Peppino è stato mi ha detto che il cellulare fra un po' esplodi Peppino cosa voti? Mouse? Peppino ci vuoi di Mouse? Mouse Giovanni Scott Ridley Scott e allora e allora c'è tutto bene c'è Ridley Scott siamo due a due sì dai dico Scott solo per Giovanni grazie è una buona motivazione dire Ridley Scott solo per Giovanni Vogliazzi attenzione raga raga Giovanni ti voglio bene però contro l'andare di pre io voglio essere tutti i giorni sconfitto da andare di pre un sogno tutti i giorni pippato da di pre un sogno tra l'altro ho scoperto una cosa ho scoperto una cosa pazzesca ma che poi hai scelto proprio una foto perfetta e lui è proprio di catafratto ho scoperto una cosa di di pre ho digitato andare di pre su internet ed è venuto scusate fatemi capire ma andare di pre ha una pagina sua di wikipedia in inglese davvero cioè andare di pre dove cazzo è andare di pre early life and education andare was born in ma perché tra l'altro è in inglese cioè perché andare di pre ecco con questa foto cioè con questa ha una pagina ha una pagina born 9 novembre in tione in inglese in inglese after his birth perché poi con questa foto è palesamente un bombe con questa foto è un fratello quello che gliela fa come ma perché andare di pre born in novembre is an italian lawyer sì perché lui è è un guardate guardate tutta la la sitografia che bellezza personal life andrea allora andrea è da romantic relationship with the italian sarah tommasi che poi in inglese fa ancora più professional in 2015 cioè la sua personal life parla di sarah tommasi in 2015 the couple announced their upcoming wedding addirittura but it never took place quindi non sono sposati italian rappers jayaks and faders are free to the scandal ah nella loro canzone è pieno di stronzi vabbè vabbè ragazzi di pre di pre assolutamente ho chiuso la ma no non è che ho chiuso la cosa ma tu pepino cioè pepino bella li conoscete di pre no o non lo conoscete di pre principi del di pre esatto ricordiamo un attimo i principi del di pre per favore il cocco poi il catafratto il catafratto i principi sono il lato devo ritrovare la cosa un attimo i principi di sono le donne quindi la vera figa diciamo il cocco che poi tutto flex in realtà il suo non ho mai capito qual è l'altro i soldi i soldi bravissimo i soldi è vero ti vedo preparato ti vedo ti vedo preparato ah ma tra l'altro non volete un bel video su di pre ve lo mando tra l'altro ragazzi ho per sbaglio chiuso tutto no meglio meglio perché adesso così posso fare che inserisco tutte le cose che c'è andiamo veloce no no mi farei male io sto per staccare ma che stai vai domani avrei ci siamo andiamo veloce andiamo veloce ecco qua ciao il gelato ecco qua ciao il gelato o pepino pepino io dico nonostante l'amore per il gelato pepino pepino la gioconda o la vasca di birra la vasca di birra per piacere sì dai sono d'accordo tre contro due nel caso andrei di pre saltare con l'accordo ma sono sempre gli stessi di pre di pre si si dice tutti d'accordo con di pre subuti o vogliazzi subuti 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 io voto subuti pepino vota vogliazzi vogliazzi vota me medesimo ok quindi siamo due a uno ferrero vota vogliazzi subuti tu bella voti vogliazzi guarda che cambia le votazioni guarda guarda come cambia le votazioni guarda guarda l'anno è uscito anche la taromachia è uscito anche matrix è nato più la pista ma perché c'è di nuovo pepino non lo so però vince sembra vasca di birra io voto pepino no no io voto pepino pepino chi voti pepino 2 a 1 vogliazzi mi dispiace pepino la vasca di birra però batte qualunque cosa siamo due pari no siamo tre no ah no siamo due pari si bella dici tutto tu bella mi dispiace per pepino ma incredibile ma dato c'era ancora meno cosa di prima le dolomiti o il subuti 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 si è una giocatura con la vasca di birra secondo me pepino chi voti subuti subuti bella subuti e allora voti tu la paragonia subuti vabbè tu bella mi spiegare anche scott battuto dagli autoreggenti ma chi cazzo di pre o 99 di pre è dura però io c'ho 18 anni il 99 99 e quell'età in cui puoi iniziare diciamo dire io c'ho dei ricordi il 99 voi no è l'età nella quale ti può anche piacere una sedicenne e farci anche all'amore perché tanto hai 18 esatto bravo anche a 30 però ti metterò in galera io dico una cosa io praticamente ho fatto ho fatto io non so se può fare o meno ma io feci un sesso con una minorenna nel senso che aveva 17 anni ne avevo 21 22 era legale tanto ero 2007 tanto ero 2007 non ero 21 era legale sopra i 16 va bene lei era del 90 sopra i 16 Silvia F quindi è legale sopra i 16 va bene vediamo questa notizia calamorosa sopra i 16 va bene va bene ok se è consenziente se non consenziente potrebbero essere problemi in generale può essere un problema chiaramente non era consenziente chiaramente non era consenziente ma so se lo sa non si è allora e quindi di pre o 99 di pre o 99 e quindi io voto di pre Pepino di pre di pre quindi 2 a 1 Pogliazzi di pre assolutamente finito va bene no ma siamo già al semifinale cazzo è di pre ragazzi è di pre assolutamente è di pre di pre vediamo va bene e questa dovrebbe essere la finale secondo me ragazzi io ne ho fatti 5 miglia io ne ho fatti tipo 50 perché mi sono sempre le stesse incredibile faccio fatica ma questo è brutto la vasca di birra tra le due la vasca di birra io voto subuteo no io voto subuteo subuteo pure io è difficile perché siamo due a uno puoi avere immaginazione sia dentro la vasca di birra che col subuteo tipo puoi immaginarti nel subuteo il toro che vince il derby per dire nella vasca di birra talmente birra assorbi che lo vedi il toro vince il derby esatto quindi penso alla vasca di birra vasca di birra quindi aspetta subuteo chi l'ha votato io solo io io pure due pari io bella decidi tu se sei votato tu bella subuteo ragazzi dai grande bella stavolta mi sei piaciuto eh no ragazzi no dura 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 è qui il subuteo non so pepino tu cosa voti di pre per me la finale era quella di prima la mia finale era quella di prima no ma ragazzi ma nella vasca di birra tu ho sporca ti dico di pre per il significato che ha questo personaggio della cultura italiana che è una pagina wikipedia in inglese quindi bella è tosta qua però dico subuteo ma scusate chi ha votato di pre quindi vogliazzi eh e stefano ha votato subuteo io subuteo perfetto bella vuol subuteo se decidi tu si subuteo è giusto è giusto così alla finale decidi tu dare ma questa è la finale minchia è la finale è una finale io avrei mai detto il tuo voto io avrei mai detto che se era arrivato il 12 periodo 2024 dovrei scegliere fra subuteo e Andrea di Pre allora ho tempo fino alle 2 di notte è l'1.32 ah non entra più nessuno quindi direi io ti saluto in teoria allora no ma dovrebbe entrare Dio ragazzi non esiste posso svelarvi questa cosa non entra perché non esiste è come Superman cioè è già entrato allora nel frattempo prima che decidi deciderò dopo nel frattempo continuiamo finiamo di vedere appunto il video che dobbiamo finire di commentare effettivamente di 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 falso 9 che tra l'altro qua a quarto minuto dice cose interessanti finiamo un attimo di commentare sul video poi entro le 2 di notte entro le 2 di notte dovrò decidere per la finale tanto è lì l'ho tenuta 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 l'argomento questo è falso 9 ma questa è una cosa che si sa ed è storica il problema è che noi la utilizziamo troppo spesso in maniera vittimistica per piangere la cosa che si la presenza delle cose secondo me non siano sullo stesso piano per quanto riguarda la presenza della Juva Torino non so che è un argomento da voi molto dibattuto ma questa è una cosa che si sa ed è storica il problema è che noi la utilizziamo troppo spesso in maniera vittimistica per piangerci addosso e giustificare ogni cosa succeda anzi purtroppo per noi non succeda molto spesso e questo non va bene non va bene perché quando c'è qualcosa che non funziona bisogna prendersi le proprie responsabilità e insomma la Juve esiste da più di 120-130 anni e la storia del calcio è piena di decenni in cui il Toro non solo ha sempre tenuto testa la Juve è stato anche superiore o comunque quando la Juve vinceva il Toro è sempre stata una squadra competitiva se pensiamo agli anni 70 agli anni 80 all'inizio degli anni 90 se volete interrompere quando volete dire qualcosa ditele è pieno di decenni che no un solo decennio il Toro è stato superiore alla Juve che è il decennio del 40 che è passato da un po' di anni e basta poi ha tenuto testa negli anni 70 e basta cioè poi e poi sì magari se la giocava nel derby però a Juve non è che dovevo stare a raccontare favole il Toro è una cosa la Juve è un'altra per quello che io sono contrario all'idea che ha Darren sul vincere si è tifosi del Toro secondo me per almeno per quanto mi riguarda poi ognuno a me non piace dare patenti di tifo però per quanto mi riguarda essere tifoso del Toro vuol dire altro che non vuol dire che non voglio vincere cioè devi sempre lottare per vincere devi sempre fare di tutto per vincere ma vincere non è l'unica cosa che conta quello è un messaggio secondo me molto brutto io quando ti ho detto adesso lavoro spesso nelle scuole e credo che chi lavora nelle scuole abbia un valore importantissimo perché che tu sia un professore o un esterno come nel mio caso che va e fa solo poche ore lanci un messaggio a quelle che sono le generazioni future e dobbiamo lanciare messaggi positivi e io visto che vado a insegnare sport il primo messaggio che mando è proprio quello che togliamoci dalla testa che vincere è l'unica cosa che conta sono altri valori che deve portare avanti lo sport sport però i valori vengono io penso che tu devi lottare per vincere tu devi cercare di vincere ma vincere non è l'unica sono due cose diverse io io non gioco mai per giocare io voglio vincere anche a carte quando gioco con mio figlio mio figlio non lo faccio vincere neanche su buteo ok perché ma non scherzare me ne manco a di pre lo faccio vincere ma perché perché deve imparare a vincere devi imparare che quando vincerà sarà perché sarà meritato perché nessuno gli regala niente nessuno ti regala nulla nella vita e funziona così abbiamo qualche anno lo sappiamo non abbiamo più otto anni con il mio figlio sappiamo che nella vita nessuno ci regala nulla e vincere è quello a cui dobbiamo ambire tutti nella vita di tutti i giorni dobbiamo cercare sempre di vincere qualunque cosa facciamo però se poi non vinciamo cioè inculcare nella testa di uno che vince è l'unica cosa che conta vuol dire che nel momento in cui non vince gli è creato un disagio cioè questa persona va in crisi perché non hai vinto perché non hai vinto e no ma è è importante questo psicologico è importante ragazzi no ma certo ma allora diciamo che in effetti adesso a parte le cose che è un po' me ma tutto quanto chiaramente prima non possa mai in realtà sarebbe una fornita molto più grande però secondo me in serie A invece devi ragionare così chiaramente poi con i bambini i ragazzi io adesso non lo direi io cioè sarebbe un solo lungo da fare ma è la stessa cosa è la stessa cosa beh no nella serie A no nella serie A ma nel momento in cui la serie A la serie A in serie A sono 20 squadre c'è la Juve e c'è il Lecce tu non puoi pensare tu non puoi iniziare il campionato e il Lecce deve pensare che deve vincere lo scudetto non puoi non puoi non puoi ogni squadra deve avere un obiettivo lo scudetto del Toro in questa stagione doveva essere la Conference League ma tu devi all'inizio dirlo perché se no non finisci mai io non sto dicendo approssimando il Toro il non dirlo e te lo dico da dirigente sportivo è perché a volte purtroppo perché purtroppo la mente umana è fatta male e quindi siamo scaramantici e quindi bisogna valutare tanti aspetti anche psicologici per cui a volte è meglio il famoso quello che dicevi sempre l'Atalanta l'Atalanta che mi sta sul cazzo quando dicono no ma noi dobbiamo pensare a salvarci cazzo l'anno scorso hai fatto 82 punti che cazzo pensa a salvarti sì perché penso step per step però poi alla fine non è sbagliato non è sbagliato io l'altro giorno le mie ragazze mi sono convinto che noi abbiamo una squadra quasi da scudetto nel nostro piccolo però so che se glielo dico questi si cagano addosso e quindi iniziamo iniziamo a dire che dobbiamo vincere partita per partita iniziamo a dire che la prossima partita giochiamo contro l'ultima in classifica iniziamo a fare punti iniziamo a raggiungere il nostro obiettivo che è lasciarci dietro due squadre e salvarci poi dopo guardiamo avanti perché gli devi dare un obiettivo uno step per step no se tu vai a vedere il Bologna non credo sia partito quest'anno dicendo ma poi non lo so perché non mi fai nel cazzo del Bologna ma non credo perché così che siano partiti dicendo vogliamo l'Europa League vogliamo la conferenza vogliamo andare in Europa no cerchiamo di vediamo di però bisogna cazzo di obiettivi sì ma in serie A quante squadre possono ambire allo scudetto no io non sto parlando di vincere lo scudetto no 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 aspetta tre vuol dire che vuol dire che una raggiunge l'obiettivo e due barra tre perché voi dice tre però c'è sempre qualcuno il problema nella vita non è fallire il problema se tu non ti poni obiettivi non prendisci mai e questa è la paraculata di Cairo per quello dico che hai vari Roberto Cavallo secondo me sbagliano nel momento forse anche te nel dire che Cairo sta facendo le cose in maniera no devi portare l'obiettivo poi se a me il toro non arrivi in conference a me va anche bene diciamo però devi ammettere che hai fallito perché sennò è facile così è facile così non durante tu agli istituti voglio arrivare in conference voglio salvare voglio vincere lo scudetto e poi dopo fallisci o vinci i problemi di Cairo sono alti cioè sono quelli che a volte da gente come te no che guarda l'obiettivo risultato sono quelli gravi che gente come te non vede invece tu focalizzi gli errori di Cairo dove non ci sono o dove sono marginali perché quello su cui ti focalizzi tu è il risultato di tante di tante cazzate mister punto d'ora incredibile ciao a tutti benvenuto mister ciao a tutti ci siamo ci siamo con mister punto d'ora fin alle due di notte vai Giovanni stai parlando se vi vado vado a dormire vi auguro una buona notte anche io che mi sentite il contatto deve decidere io su di pre subuto su di pre subuto decido io la fine va bene ragazzi manca ancora poco per arrivare la due di notte in questa maratona grazie Giovanni grazie per la 96 per aver partecipato buonanotte ci vediamo grazie a voi voglio un attimo salutare salutarvi così President in bocca al lupo al toro sabato contro la Juve Juve merda forza toro Ali onesto comunque a farti scherzi in bocca al lupo per il derby speriamo che sia un bella giornata di calcio non di speriamo ma vai a fare un culo va che sia Juve merda forza toro ma che cazzo me ne frega c'è una bella giornata di sport è il derby diciamoci le cose come stanno mi state sul cazzo vi odio spero che perdiate male che chiesa si spacchi no chiesa no perché poi ci sarà la nazionale che Vlauvi ci spacchi il crociato ma sei grudel pacato molto pacato sei grudel sono grudel io la Juve la odio il motivo per cui sono del toro è che e lì si torna al vincere non vincere è che oggi si diceva prima gli agnelli non contano più sì questo si sta perdendo io sono cresciuto con la Fiat che ha rovinato Torino cioè Cristo di Dio noi non abbiamo una metropolitana per colpa della Fiat ma le sapete queste cose noi viviamo in una città di merda dove la metropolitana aveva i soldi stanziati nel 60 e non l'abbiamo fatta perché quel coglione aveva paura di non vendere le macchine questo è il problema questa è la Juve a Torino questo è essere del toro essere contro un sistema contro uno stronzo che ha preso la città se l'è messa in tasca e ha detto questa è roba mia e questo non mi sta bene questo è essere del toro per me questo è l'essere contro poi vinco non me ne frega un cazzo ma io lotto tutti i giorni contro queste cose qua contro il sistema il sistema il potere questo è per me essere del toro quindi il derby non sia una bella partita non me ne frega un cazzo che sia una bella partita che sia una partita di merda ma che il toro vinca allora vedi che Stefano allora l'unica cosa l'unica cosa che conta è vincere il derby il derby no è vincere il derby sì l'unica cosa che conta è vincere non è scricciola scricciola non è salda non è salda la posizione tu prima hai fatto hai fatto una domanda che sono quelle domande che mi mettono in crisi preferisci vincere il derby o arrivare in conference minchia per me il derby cazzo è veramente la vita io ti odio io ti odio c'è anche questa la domanda che mi metti in crisi infatti non so se riuscirò mai a risolverla tu mi senti chi potresti di pre o subbuto di pre o subbuto io non so chi preferire ma Emily è già passata Emily è già passata Emily è passata è passata no tra l'altro è solito una serie di cose che non sono passate Emily no tu preferiresti di pre o giocare subbuto con Emily però è la seconda è la seconda tutta la vita sul tavolo peso sul tavolo dopo questa vi saluto no no abbiamo ancora un quarto d'ora abbiamo ancora un quarto d'ora ciao ragazzi ciao Giovanni ciao ah sono l'unico stronzo che rimane l'ultima quarto d'ora no mister mister rimane mister è andato adesso mister rimane anche dopo di me il mister penso che va davanti lui ecco mister ecco scusa facciamo una cosa ma se io andassi alle due via tu avresti perché io le due devo andare domani devo essere a loro sono in vacanza tanto guardate potrei anche estendere questa puntata vediamo intanto continuiamo un attimo a vedere il video allora mister lei che è andato adesso cosa ne pensa del giro d'Italia tutte le cose che abbiamo fatto finora in queste ore giro d'Italia che passa da cosa da Venaria da Torino 4 maggio superga superga 4 maggio cosa dovrei pensarne bravi poi cosa ne pensi cosa ne pensa mister di Cairo vota ma penso come te nel senso poche ambizioni poca valorizzazione dei colori in questi tutti questi anni il robaldo questo robaldo che sostengono che dovrebbe essere costruito entro 4 maggio ma verrà primo costruito il ponte sullo stretto perché siamo a 12 aprile diciamo però questione robaldo chi è robaldo cristiano robaldo come che robaldo cristiano robaldo poi questione radoni radoni c'è il talento che non riesce a finalizzarsi perché gli manca una componente io sono laureato in scienze motore quando ci insegnano a discriminare il talento ci dicono ad esempio che il talento non si deve mai fare male per essere talento solo non può essere considerato biologico un talento la testa la capacità di disciplinarsi integrarsi all'interno di una squadra fa parte del talento innato a livello calcistico e radoni c'è questa cosa non ce l'ha è un leader tecnico straordinario delle capacità innate straordinarie però gli mancano delle componenti può essere considerato un giocatore di prima di prima pace buca ragazzi c'è radoni c'è delle qualità innate straordinarie io se ne ho sento parlare veramente come se fosse ma radoni mi dico ma Gasbarroni allora che cazzo era per fare un esempio di Bala a livello tecnico è uno dei primi cinque giocatori al mondo tecnico il giocatore non è soprattutto tecnica è tecnica è leadership è tiro è rapidità è velocità è potenza si parla di Bala sono d'accordo però si parla di Radonic come se fosse veramente una roba che non abbiamo mai visto ma è uno che ha spaccato delle partite sicuramente che ha fatto la differenza in alcune partite quindi è stato più all'occhio ma io ne ho visti di ben più forti ogni tanto veramente ci sono di Radonic è stato mandato via Rosina vabbè che ha sbarronito di me Rosina è come se Rosina io faccio una cosa di Rosina è tantissima roba come se Rosina che aveva ma era un mezzo giocatore d'ora che amano cioè Rosina ma era un mezzo giocatore cioè siamo tenuti sulle croste pure troppo in che senso però quella metà era gasava quella metà però quella metà di sì io sono d'accordo è un mezzo giocatore però quella metà gasava tantissimo e Radonic appunto ma te l'ho detto come Marinelli come Ping ma ne abbiamo avuti tanti ma tutta roba che prende ma tutta roba che prendi è tutta roba è tutta roba tu mi sei a punto d'oro preferivi Radonic tipo Ping ma tutta roba ma qualunque stiamo dicendo ho 46 anni ho visto giocare anche Fuser e Lentini quelli facevano un altro sport rispetto a quelli che ho citato adesso ma pure c'è ma pure c'è Erci ragazzi c'è un altro sport cioè Cerci è stato un giocatore che in un anno ha dimostrato in due anni ha dimostrato di essere un fuoriclasse clamoroso gli Aic gli Aic un po' meno secondo me rispetto a Cerci però gli Aic è uno che a fine anno io ci ho pensato ho detto boh sì per un po' di scontinuo cazzo vai a vedere 10 gol e 15 assist porca troia la faccio del discontinuo cioè quella è l'impressione che avevo poi leggi i numeri e dici beh i numeri mi dicono altro no ma è giusto però appunto per questo motivo sì però questi sono i giocatori su cui possiamo su cui possiamo discutere no Radonic ma neanche ma per te 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 ha giocato senza paracromo ma per me non è stata data la possibilità anche lui stesso stupidamente da nessuna parte non è stata data la possibilità quindi non è un giocatore è un mezzo ma è un altro discorso non è mai stato pagato più di due milioni di euro da nessuno non ha mai giocato da nessuna parte e quindi non vale niente ma per te il fatto che abbia la testa matta è d'accordo anche ma se quante teste matte ho visto in serie C quando la seguivo la serie D giocatori tecnicamente alla pari di Radonic però hanno fatto serie D perché sono stati un po' più sfigati di Radonic però erano giocatori di serie D e Radonic è un giocatore da serie C mi spiace dirlo sì è un giocatore per tutte le componenti messe insieme è un giocatore da serie C perché in serie A non gioca in serie B non riuscirebbe a far nulla perché perché la serie B per un giocatore come Radonic finiti arriva lì dopo due giorni gli ha dato due due stecche si è preso quattro cartellini rossi ha finito di giocare in serie C magari è talmente superiore che allora poi c'è la sua categoria e io te lo dice uno che quando sente criticare i giocatori del Toro e dire abbiamo una rosa da serie B si fa delle grosse risate perché non è vero ok però ci sono dei giocatori questo tipo di giocatore qua è un giocatore che effettivamente se tu vuoi vedere dove peso specifico dove fa la differenza Radonic l'ha mai fatta in serie A no la differenza l'ha fatta nelle partite singole che ha giocato da Serenitana a Genoa io parlo del Toro due partite su quanti anni cinque partite quante partite l'ho visto giocare c'ho le mani nei capelli e delle bestembe che ha mantenuto fuori al Toro al Toro l'ho visto giocare c'ho le mani nei capelli e dire basta questo è sicuramente sì è un potenziale di dare le possibilità ma rispetto al fatto che ci sono allenatori che riescono a tirare fuori in meglio il potenziale e gestire meglio certi giocatori magari non sarebbe diventato un top player però sì anche Yuri c'è troppo una testa calda cioè anche Yuri deve capire che non si non ha mai fatto bene non ha mai trovato il suo allenatore questo sì ma il punto Cerci l'ha trovato no ragazzi Cerci l'ha trovato il suo allenatore Ventura l'ho fatto rendere quindi era una testa matta era tutto quello che vuoi ha fatto schifo da parte Cerci non era una testa matta come Radulic Ventura è molto diverso Ventura è molto diverso da quello che abbiamo adesso Cerci ne ha passati tanti gli allenatori ha fatto male dappertutto ha fatto bene solo con un allenatore e se è Radulic con Ventura domani Radulic con Ventura sei sicuro che non abbia fatto qualcosa di meglio Metaverso Multiverso no avrebbe fatto cagare lo stesso sicuro è morto caso no secondo me non abbiamo la controprova quindi non possiamo io invece penso io sono d'accordo con mister perché il cervello di Radulic è inferiore al cervello di Cerci seppur già con pochi neuroni sì però guarda che secondo me veramente sì però a questo punto ti posso dire che Juric non te la dico così ma che Juric è inferiore per gestire che Ventura effettivamente un Radulic con un Ventura Juric è un incapace sotto 80 punti di vista ragazzi sì però io non dico che nessuno vuole difendere nessuno vuole nessuno qua sta difendendo Radulic in quanto che è una persona quadrata che si merita io sto dicendo che anche se un testa di Radulic è un testa di cazzo sono d'accordo però cazzo tu Juric devi prenderlo e dirgli vaffanculo tu giochi come ho detto prima perché sennò il torto non lo fai a Radulic ma lo fai al toro nessuno dice un fenomeno a Radulic ma intanto farlo giocare da ricontinuità poi vediamo altro che Zapata è saltato Zapata giocatore da 6-6 e mezzo quando va bene Zapata Zapata però dimostrato Zapata sta facendo di ruolo capito? qual è l'obiettivo del calcio? fare gol uno in più dell'avversario possibilmente se vuoi vincere la partita cosa che conta Zapata cosa fa? i gol ragazzi Zapata era una merda tecnicamente non sapeva fare un stop era inguardabile però faceva gol allora Zapata a differenza di Radulic gli hanno dato la fiducia anche se all'inizio floppava e tutti a dire no ma è forte poi in effetti dandogli continuità se tu dai continuità a Radulic cazzo ma cosa avrebbe fatto? magari perché l'altro stava zitto lavorava insomma tu è un'altra cosa che noi esterni secondo me sbagliamo è valutare ah ma come mai non ha fatto giocare Tizio come mai fa giocare Caio l'allenatore i giocatori li vede durante la settimana li vede non solo in campo io non me la sento di criticare un allenatore che fa giocare un giocatore e non fa giocare un altro perché evidentemente avrà le sue ragioni cioè il cazzo è pagato questo prende due milioni di euro l'anno se non darli a me due milioni di euro se sono tanto bravo perché non li prendo io no? perché evidentemente l'altro è un po' più bravo di me sicuramente più bravo di me per quanto io penso sia scarso ma le cose le valuterà nel modo corretto poi non fa gestire Radonis sì ma Radonis quanto ci mette di suo per non sapere se far gestire questo è chiaro questo è d'accordo vabbè perché poi quando lavori su una squadra tu non puoi pensare sempre al singolo perché poi ho il singolo ai tempi di Mazzola no? questo fosse talmente superiore talmente riconosciuta la sua superiorità tecnica e non solo tecnica ma un'unità importante all'interno del gruppo che si dice che dopo Superga cioè Superga o non Superga lui sarebbe molto l'interno non so se lo sapete questa era la voce che si l'altra voce è che invece pare che i giocatori tutta la squadra si fosse messa d'accordo per dire lui perché vuole andare via perché vuole cento milioni di dire in più all'anno dicono cifra a caso un milione pare che tutta la squadra sia andata da farruzzo nuovo a dire togli cento mila cento mila lire a me cento mila lire a lui e fai il milione in più che vuole lui perché noi senza di lui non siamo una squadra lui ne abbiamo bisogno e c'è la riconoscenza del campione da parte del resto della squadra del campione che verita di più siamo anche in un altro mondo in un'altra epoca dove certe cose succedevano però questo è il campione che viene riconosciuto all'interno del gruppo lui era riconosciuto all'interno del gruppo Radonic paragono di Valentino Mazzola Radonic ma non è un paragono è un paragono è un paragono è un paragono che sarà assurdo sì esatto la slide ma anche è un paragono è un paragono è un paragono e Cassano era un altro e che ne posso elencare un milione un giocatore così tutti fenomeni ma poi c'è la squadra ma noi non stiamo dicendo quella ma io non sto dicendo quella io sto dicendo che un allenatore deve guardare la squadra non deve guardare il singolo e guardare la squadra ma certo però per guardarla se il singolo appunto io lo dico proprio in nome di questo dato che devi guardare giustamente la squadra a me di Radunic non frega ovviamente niente però dato che Radunic faceva del bene al toro tu facendomi andare via se non punisci il singolo è proprio quello il punto non devi e no aspetta tu aspetta un attimo cos'è che hai detto Stefano che il giocatore deve guardare la squadra non il singolo è esattamente quello che dico io che forse dice un altro mistero il punto d'oro il problema è che Juric guardava il singolo non la squadra ovvero tu mi vai a punire Radunic perché te Juric sta sul cazzo Radunic e non guardi il singolo per le tue cazzo di Magani in cui anche puoi avere ragione e non guardi la squadra ovvero il fatto che Radunic faceva bene alla squadra è così la questione adesso ti rispondiamo e Silveria assolutamente ti rispondiamo sull'Atalanta siamo in topic 0-3 buono non so ne ho neanche visto il partito dell'Atalanta ovviamente ero qui ha vinto ma non ci pensavo a se stesso capito sì ma anche Juric anche Juric Stefano anche Juric pensava a se stesso nel momento in cui si è messo a batti peccare con Radunic dovessi pensato alla squadra perché io gli allenatori caldi mi hanno rotto il cazzo a me tipo Radunic un allenatore freddo tipo Allegri che ti dice no vai in campo non adesso dico Allegri che ti dice no senti ti comporti male ok vai in campo e non ti comporti bene del giorno il miglior è Ancelotti ma non è vero la squadra è sempre stata con Radunic è un po' sì in effetti sì la squadra perché dice ma non è livello del tipo no per favore rimani piuttosto mettiamo i soldi mettiamo i soldi se noi ci siamo iniziati a dare una piaccia di me allora lui chiesto lui ma in realtà secondo le chat di bagliegismo non mi ricordo comunque continuiamo continuiamo il video però ragazzi è ovvio che le chat di bagliegismo sono con Radunic no quindi Radunic cosa vuoi che dica ciao no no però mi ricordo ma sono un testaggio abeismo per comunicare allora puliamo il video intanto io in anni di torno ho visto come no dico in anni di torno ho visto che sono usciti eccetera non è che tutti possono dire tutto e tutti ti raccontano la verità ognuno ti racconti vuoi ma si la verità non si può sapere allora continuiamo a vedere vediamo cosa vediamo vedermi il problema fondamentale non è la presenza della Iiva Torino per quanto si incida ma più a livello extra calcio quindi parlo di roba politica cerchiamo di capirci e quindi quando ci sono stati presidenti competenti capaci anche il Toro le sue soddisfazioni sono tolte certo magari non a livello di vittorie ma ci sono stati decenni interi in cui eravamo presenti stabilmente nelle coppe e facevamo bella figura in campionato il che significava ai tempi dei vecchi regolamenti arrivare sempre secondi terzi quarti quindi non è assolutamente vero che la presenza della Iiva preclude un progetto tecnico valido funzionale e perché no anche ambizioso questo è da ricondurre all'attuale società che dal mio punto di vista ha dato tutto quello che vedeva in molti troppi casi invece non ha dato e quindi sarebbe l'ora di cambiare il problema è che questo non dipende da noi perché il Torino FC non è nostro ma è di Urbano Cairo e quindi quando cambierà è perché deciderà lui di rendere la società e questo non possiamo farci di assolutamente nulla se non sperare che in qualche stagione ci sia un arrivatore che alza la testa è che ci leggerà qualche soddisfazione quando cambieremo sperando di cambiare in meglio allora cambieranno anche tutto questo lo dico lo sottolineo lo utilizzo una volta aiutare il centro assolutamente grazie per lo spazio che mi avete concesso buona trasmissione buona terza ottimo ottimo e ma se ti sente male Stefano ti sente male avvicinati più microfono si tra l'altro si il chat è vero si si ma tra l'altro Barismo aveva detto che Radvice aveva detto secondo me un po' paracurandosi aveva detto non ho Massione che mi è smandato vabbè questo secondo le chat secondo quello che Radvice ha detto uno deve avere sempre le due le due parti no cosa dice uno cosa dice l'altro no quello che dice Falso Ruele non è non è sbagliato e secondo me però non è neanche completamente corretto non si può fare un paragone con il toro di Pianelli e il toro di oggi e sono cambiati i termi i tempi cioè da quando dal 93 da quando sono da quando è entrata Tele più quando ci sono i diritti tv è cambiato il calcio non è un caso che il toro dal 93 è sprofondato e dal 93 sono cresciute in modo incredibile Roma Napoli e Lazio che prima non esistevano quasi no cioè i parametri economici sono cambiati completamente è cambiato completamente il fatto che quando si dice il settore giovanile una volta forniva una volta potevi avere zero stranieri poi due poi tre e quindi dovevi attingere dal tuo settore giovanile quindi se lavoravi bene ma anche se lavoravi male qualcosa te lo dovevi portare su e qualcosa andava in nazionale per forza di cose oggi hai le squadre farcite di stranieri quindi è cambiato tutto non si può fare un paragone il paragone che faccio è con l'Atalanta perché l'Atalanta è una squadra che spende zero anzi guadagna perché è un'ottima gestione ed è una squadra che economicamente introita molto meno di noi quindi non c'entra che per Cassi abbia più soldi meno soldi non c'entra perché non spende anzi guadagna ma si è affidato a gente competente si è ritrovato una zingonia non fatta da lui ma un settore giovanile e un centro sportivo che hanno portato dei prodotti economici soprattutto e quello quello fa la differenza e noi è quello il modello oggi è inutile che stiamo a raccontarci una volta eravamo no noi guardiamo oggi quello che possiamo essere con realtà dei fatti no quello che quando dicono non dobbiamo pensare a vincere a tutti i cosi dobbiamo pensare a cosa siamo oggi oggi possiamo essere un atalanto l'udinese però l'atalanta l'udinese il prescia che siano lavorando bene possono arrivare lo dimostra l'atalanta bisogna saper lavorare bisogna saper investire nelle persone giuste che sanno trovare le persone giuste nei ruoli giusti e poi l'atalanta ha una fortuna che noi abbiamo una grossa difficoltà su quello cioè noi in città abbiamo un competitor importante come avere il Real Madrid di fianco anche oggi anche a livello di settore giovanile ve ne parlo a ragion veduta il ragazzino va alla Juve va alla Juve perché gli offre di più da un punto di vista però delle strutture da un punto di vista degli allenatori e gli offre e quindi delle prospettive migliori quindi io sono un figlio e me lo chiede la Juve me lo chiede il Toro vado alla Juve tu vai alla Juve e mio figlio no il mio figlio è un dubbio amletico che mai se mai dovesse essere sarebbe sarebbe complicato il mio figlio onestamente lo porterei tutta la vita al Toro perché io non ce la farei e il mio figlio vedendo com'è non credo che penserebbe mai di vestire dei colori da Juve perché è peggio di me alla sua età di Granato come Vito no è una roba mio figlio è clamoroso è una roba ma tipo è più poetico alla Vito o cori grezi tipo alla Libano a otto anni tende a diventare come Libano è un piccolo Libano non è un piccolo Vito è un Vito c'ho le maestre c'ho le maestre che si lamentano che entra in classe gridando i cori da stadio ma sono presente maestra sono però però io alla sua età ero cioè alla sua età no però poco più avanti ero anch'io così e i professori mi dicevano Ferrero basta la gazzetta è lo sport non ti darò mai da mangiare invece ho mangiato a Torino andi vissuto a Torino giusto? io andavo a scuola a Torino ma non so se ti puoi dire ma tu dove hai fatto la scuola? non si può dire non si può dire come no dove li hai fatti? elementari le ho fatte dalle scuole anche io le ho fatte dalle scuole dove li hai fatti? dalle consolatine via io sono nativo di San Salvario nato a San Salvario cresciuto e vivo tuttora a San Salvario in via che è? non sono via madama è la tua via non so qualcuno dice madama esatto quindi io andavo alla comunque andavo dalle scuole e poi a liceo l'ho fatto all'Umberto primo mister tu ah no tu mister sei della campagna adesso sappiamo mister che tu ne hai già parlato un miliardo di anni fa che tu sei comunque nella campagna ma in questo momento si trovi in Italia mister sono in Italia sì ok allora che sei a te è San Giovanni vicino a vicino a Vesima eccetera comunque dove sei nelle Langhe ah mister io tra l'altro vado anche andavo avevo tero anni nelle Langhe per quelli vicino ultimamente non più tanto però ho voluto ritornare i Toroscar delle Langhe sarebbe pazzesco ah tra l'altro mister quando faremo i Toroscar a metà giugno tu si presenzerai Torino ci devi essere assolutamente tra l'altro la la direta la Maratona Maratologas 5 ore siamo a 4 minuti 59 e 07 stiamo per arrivare alle 5 ore vi dico solo che questo quesito pazzesco devo risolverlo prima della chiusura della della puntata per me tu mister punto non ho sentito tu di prezzi ora sto un attimo tu mister punto d'oro Martullo d'oro mister punto d'oro voteresti per Andrea di Pè o per il scuteo per vincere io sempre emili sempre no scuteo scuteo non apprezzo molto di prezzi ah beh si 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 i valori di prezzi non sono il frutta il debole per trarre vantaggio ridiqualizzare in quale ah beh una cosa che faceva beh quello è ero prima di attenzione signori 5 ore 5 ore di torocast chi non ha visto la puntata mi invito a vederla tutta quanta dall'inizio mi sono punto d'oro anche te Stefano dall'inizio se volete le 5 ore scolta se volete le 5 ore le 5 ore è interessante come? no la prima ora si è parlato si parlava seriamente poi sono quando quando non c'è Roberto Cavallo quando c'era il cismo avete fatto dei discorsi interessanti ti ho detto che ti ho scritto che io ovviamente ero comitore di Pazzolini ma ti pare cioè non credibile no comunque ti ringrazio vediamo un attimo voglio un attimo vedere però questo voglio un attimo vedere prima di chiudere voglio vedere questo voglio vedere è fake oh secondo te non l'avrebbe pronunciato lui l'inetti è un attimo la cosa migliore la cosa era hanno esaurito effettuare effettuare quella quella cosa dell'effettuare è una cosa pazzese l'ho ascoltato tra l'altro da poco allora beh signori ringrazio tutti che sono rimasti iniziati fino a questo momento per vedere questo maratone che si è durato 5 ore tutti gli aspetti che sono susseguiti dall'inizio fino a quando lo dico a tutti perché sennò non sarebbero mai rimediatiche soprattutto ringrazio Fabrizio Voghera che è stato poi non c'era io apro apro appunto la apro la e vedo che c'è Fabrizio che ci sono assieme persone fra cui Fabrizio Voghera che era messo così nel letto così così è tutto incazzato Fabrizio Voghera un mitico cantante mitico cantante e allora ok poi parte la sigla e non è più rientrato cioè è pazzesca sta cosa e non è più rientrato quindi il miglior ospite di questa maratone è Fabrizio Voghera per questo tuo presente poi ringrazio tutta la chat mi ricordo che noi ci vediamo giovedì prossimo e l'avrà visto un confronto con Monza e Nuse e Stefano Beduzzi che però l'ultimo si sono sbagliati quindi sarà molto dopo si spera che ci sarà ospite Caterina Buffanini per parlare di scuola e tutto quanto se no ci inventiamo ci inventiamo qualcosa poi mi raccomando d'Oscar c'è memoria dell'Oscar dal vivo in Torino da giugno con tutti gli ospiti tutto quanto tra l'altro presenzierò la live reaction di Torino Juventi da Peppino audaci il suo canale sabato presenzierò ogni tanto mi collegherò cos'altro dire cos'altro dire ragazzi cosa volete salutare mister mister punto d'oro lei rimarrebbe ancora però di domani devo ho il cervello che dorme già da due ore mister punto d'oro cosa si sente di dire come cosa che dormire è sempre una bella cosa ci sta in rima in rima Stefano Ferrero come cosa io chiudo con una cosa che è andata meglio oggi Juve merda forza Toro assolutamente assolutamente quindi direi veramente di chiudere così President in bocca al lupo al toro sabato contro la Juve Juve merda forza Toro no perdiamo mister parto negativo perdiamo sì c'ho solo da guadagnare mister piano zero e allora ciao a tutti Vite Bella è veramente il meme un filmetto carino ma come fa che Vite Bella ma tu li guardi i film ma io li guardi i film ma tu vuoi scovare eh boh non guardo il cerdolo ma perché vuoi scovare i per vendetta è una stifo col film madonna ma che è GCL un archio per me è sempre la stessa frase ho smesso di leggere Alan Moore leggevo a 12 anni poi sono cresciuto dai zio è per normi bro anch'io sono ancora Spongebob bro però poi sono cresciuto mi piace ancora Spongebob posso ritenere quanto sia sbagliato Spongebob addio vive in un altro mondo confronti dai non mi è che aspettare una lotta all'ultimo sangue allora mi fai altro magari stai sul telefono guardi il cerebro scusate no ragazzi ciao tu vuoi scovare il film è altro è maschile bravo il film non ero per dirgli il mio messaggio no ok ok è morto Meliador grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti